Ciao Ely! Il gioco si chiama Dry Droning ed è totalmente fatto da un team italiano che mi ha dato l'opportunità di averlo in anteprima No, infatti non è uscito Ahaha, l'età Avanti, sii sincero, di cosa hai realmente paura? Bella pracca con i sette mesi Beh, ho paura che quando vado in ferie ripieno tutti i sub Della solitudine? O forse della morte? Della morte e dell'amore, citta No? Quello di cui hai realmente paura essere dimenticato vivendo l'esistenza mediocre di un uomo fallito Come faccio a saperlo? Oh, perché io e te ci assomigliamo più di quanto tu voglia ammettere Ed è proprio per questo che so esattamente cosa fare per vederti soffrire Grazie a me imparerai che ogni lieto fine è una bugia Partito già bene Città di Nova Polemos Una piovosa notte d'inverno Si chiama Mordred Due anni Sono passati due maledetti anni Non riesco quasi a credere che potrò tornare a vivere una vita normale Se non ci fosse questa stupida pioggia sarebbe quasi una bella giornata Ah, pardon Ok Orsa Maggiore Io sono Artina Gioca mi hanno avvertito nello stream e sono curiosissimo di vedere come va Se avete domande chiedete pure Ok, Orsa mi ti ero bevuto Allora, innanzitutto Benvenuta Avevo già visto il video Sembrava super mega intrigante Di solito non faccio le visual novel Ma questo sembra veramente figo Quindi Scopriamolo insieme Hmm, ed è già a casa? Ciao Amos Folly Investigations Ciao Black Sarà meglio non disturbarla O di essere interrotta mentre suona? Mi limiterò a fumarmi una... Cosa? Non si fuma Non si fuma Non si fa parte Ponto in meno per il gioco Perché parla di fumo E io smesso di fumare E... Buona notizia appena avrà finito Ciao Didi Dannazione le ho finite Vedi? Ma dovrei averne altre da qualche parte in ufficio Ok Per il semino Daga Siamo in alto a sinistra Va bene Allora Inventario Che style Documenti Fondate in una zona praticamente deserta del nord d'Europa nel 2016 Dai Camburi Sono considerate ancora oggi la famiglia più influente e ricca del pianeta Nota come simbolo di indipendenza e come alternativa per tutti coloro che cercavano una patria che potesse essere anche loro In appena 10 anni dalla sua nascita poté contare oltre un milione di abitanti E un ritmo di crescita a livello economico e sociale senza precedenti Oggi la città è considerata un vero e proprio stato a livello internazionale Completamente indipendente da tutte le altre organizzazioni mondiali Ok Allora dobbiamo trovare le sigarette Adesso Ricendo informazioni aggiuntive Una volta che apri Ok Il mio fido cassetto Luogo nel quale nasconde i miei oggetti più cari Ok lì ci sarà la droga Hai tenuto un pacchetto da 20 sigarette Infatti ecco a spuntare le mie amate dispensatrici di morte tascabili Bella moscogliotto E' venuta da random clip di quando hai guardato my cj E al momento sto giocando È un caso Per usare gli oggetti che ottieni durante le tue indagini Che inventario Ok Allora Gli italiani amano i tutorial E abbiamo un buon tutorial Questa è la tua interna Che è l'indizio Documenti e biografia La prossima è la descrizione Osserva Sopra di essa Ok Allora Così osserva Così usa Non le usa Guarda Ok Arrivata era Minca Sei incazzata che ha sentito che sbruffavamo in casa Guarda Sofumi Cretino Diglielo Diglielo Sofumi che sto suonando Si serviva Sopra di smettere con le canzoni tristi Finere col farci suicidare Col far suicidare tutti i vicini Hai capito era Hai capito era Morrersi si qui significa che Sì Nonostante sapessero tutti della mia colpevolezza Sono stato assolto per insufficienza di prove Ah E' un malandrino Vedete come si mette un messaggio Comunque io sono Non posso Proseguirti come vorrei L'ovvio Johnny Dai 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 In bocca al lupo E grazie ancora Eteo con i 19 Welcome back Bravo Eli Nonostante Sono stato assolto per Insufficienza di prove Strano meccanismo Quello della legge Quindi siamo liberi Liberi a giustizia senza dubbio Ma non dall'odio dei familiari Di quelli che ho mandato Sulla sedia elettrica E' un giudice lui Se non altro da domani Potremmo ricominciare a lavorare A fatto che ci sia qualcuno Abbastanza pazzo Da voler ingaggiare un pregiudicato Un investigatore privato Credo Riusciremo mai a mettere la parola Fine a questa storia Era Ai media E alle vittime Basso un singolo capo respiratorio Sei libera di andartene Quello che vogliono morto Sono io Sono colpevole Tanto quanto te Lo sai benissimo Stiamo scappando Non farei che ritardare L'inevitabile Siamo entrambi Dei mostri L'unica differenza È che Tu lo sei La luce del sole L'unica vera differenza Fra noi due È che tu sei un mostro Al bell'aspetto Cretino In ogni caso Fai come diavolo ti pare Ma puoi non dire Che non ti avevo avvertito Mordered fully Come sempre La vera anima della festa Ha una visual È tutto così Mi chiedo Quanto Potremmo resistere In mezzo a tutta questa pressione 6 febbraio 2066 What the hell Into the future Però È nel futuro Ma l'arredamento Sembra Odierno Anzi Quasi un po' vintage Capisco perfettamente La situazione signora Certamente La tengo in ufficio Fra poco Riservatezza È il motto Della nostra agenzia Non credo Snake Ciao Moon Però dovresti fare La voce della donna E mi viene Mi viene difficile Eh Che succede Non ci crederei Ma abbiamo un nuovo cliente Pare che sia un pezzo grosso E verrà a trovarci Tra poco in ufficio Non posso crederci Presto Facciamo il punto Della situazione Prima che arrivi Sezione di una parola In altra situazione Per iniziare Una conversazione Con il personaggio Presente In questo momento Bella Yoshi Con i 22 Love Johnny Parola in altra situazione Sono i possibili Argomenti di conversazione Le opzioni Contrastinate Non punto sconativo Sono considerate Importanti E sono obbligatorie Per il proseguimento Della storia Sezione di una parola In altra situazione Per iniziare il dialogo Ok Decisione di Hera E così alla fine Ho deciso di restare Abbiamo attraversato L'inferno E siamo tornati indietro Integri Il minimo che possa fare È rimanere qui Attormentare Qui e attormentare Per sempre La tua esistenza Ciao Jin Ma che la sigaretta La tiene in mano Quando l'ha accesa Esatto E penso che attormentarmi Basterà il nostro Prossimo cliente Già A proposito di lui Hai già letto Il giornale di oggi No c'è qualcosa Interessante No C'è qualcosa Interessante Scusate le solite Diozie sull'immigrazione Decisamente Quattro giorni fa Mentre eravamo Ancora in aula Di tribunale È stato trovato Un cadavere A Treasury Park E ne parlano Solo ora La cara vecchia Mano della censura Colpisce ancora Bella signora Con i 18 mesi Welcome back Se non altro Forse smetteranno Di parlare di noi Potremo lavorare Tranquillamente Tieni Leggi l'articolo Quando è un secondo È tenuto Amici a Treasury Park Ok Mi sa che Se cliccavo a sinistra Lo vedevamo al volo Cosa si dirmi Questo nuovo cliente È l'assistente Di un politico Non mi ha detto altro Un politico Da quando in cui Accettiamo questo tipo di Da quando in qua Accettiamo questo tipo di lavoro Arrivati a questo punto Accetterei anche Il diavolo in persona Come cliente Un brutto presentimento Johnny I brutti presentimenti Sono la base Nel nostro mestiere Ormai dovresti saperlo Bussano quest'ora Nel mattino Chi sarà mai Andiamo a vedere Pare che sia arrivata Brava Orsa Complimenti a tutto il team Di illustrazione Ma chi è? Benvenuto alla Fall Investigation Signora Poteva anche vestirsi Salve Detective Come l'avevo già detto al telefono Il mio nome è Julie Ward Ah hai capito C'è anche la gonna corta Con lo spacco E sono l'assistente personale Del signor Baker Detta anche la No Biglietto da visita Ok Baker Quel Baker Bella Pasticchio Con i 4 mesi E dopo 3 mesi di Spagna Sono tornato Welcome back Johnny Spero vi sia divertito È tenuto alle bande nere Che bel posticino Pavimento minaccio Unito a mobili antichi Manca soltanto un divano Con i fiori Per completare Questo capolavoro Kitch Come scusi? Eh? E lei chi sarebbe? Lei era Diciamo che è la mia assistente Mi c'è di conoscere La signora Ward Capisco Mi stai ignorando Per caso? In merito Alla nostra questione Detective Potrei chiedere Di parlare in privato Uuuuh Oh per quale ragione? Si spieghi meglio Per cortesia Quello per cui devo parlare È strettamente confidenziale Quindi vorrei evitare Di avere assistenti Fra i piedi Adesso ci chiede Se abbiamo un divano nero Se ne dispiace Ovviamente Ma no Si figuri signora Tolgo subito il disturbo Buona serata Era Credo che lei mi debba Dare le spiegazioni Si è tolta l'occhiale Ma c'è anche il neo Ma è ricercata proprio Bene vogliamo iniziare Il coso Ah no il caso Problemico nera Vorrei che le fosse chiara una cosa Signor Foli Non ho allontanato D'assistente Per motivi razziali Ma per semplici ragioni Di riservatezza Dettate dal nostro partito Non so perché Ma mi riesce difficile crederlo Molte del nostro partito Vorrebbero vedere Spulse Tutte le persone simili a lei Ma io non sono una di quelle Non sono interessato Ai vostri giochi politici E soprattutto Non mi saranno le sue giustificazioni Ipocrite Quel che voglio da voi Sono soldi E la certezza che era Verrà lasciata fuori A tutto questo Non l'altro Capisco Fatemi bere un attimo Con questo caldo Leggere i milioni di righe Ma le persone In che senso Prack Niente Sono venuto Quanti mezzo litro L'acqua Adesso ce l'ho Come un murloc Come un murloc Le espressioni Dei faccia Sono bellissimi I disegni Sono molto belli Ma io avevo visto Ragazzi Quel video Che faceva vedere Lo sneak peek Del gioco A uno stile Pauroso Chiedo scusa Per i miei modi Ma il lavoro Che vogliamo Proporle È estremamente Delicato Appunto Non avermi Lontanare Era da questa Conversazione Quando si parla Di case di omicidio Mischiate la politica Serve un certo Grado di riservatezza Sta parlando L'omicidio Citato Nei giornali Esattamente Quattro giorni fa Il mio capo Richard Baker È stato convolto In un caso D'omicidio Le comodalità Sono come dire Peculiari Peculiari E appunto Che le elezioni Sono ormai prossime Come saprà Il signor Baker È favorito E questa tipologia Di faccenda Potrebbe far Crollare Lui L'intero Partito Ora capisco Perché i giornali Erano così vaghi Sulla faccenda Le bande nere Hanno numerosi nemici All'interno Della nostra città Ed è per questo Che vogliamo Usare questa situazione A nostro vantaggio Se riuscirà A scagionare Il signor Baker Useremo l'intero caso Come leva Sulla popolazione Facendogli capire Che è un personaggio Scomodo Per i suoi avversari Capisco Ma mi dica Come ha fatto La polizia A capire Che fosse stato Il signor Baker A commettere Questo omicidio Così peculiare Testimono oculare Unito al fatto Che la vittima Era l'amante Il signor Baker Che lo ricattava Ormai da anni Ciao Niki A questo Aggiunga I numerosi Avversari politici Che lo vorrebbero Dietro le sbarre E avrà il quadro Completo della situazione Che scusa per i miei modi Ma il lavoro Che vogliamo proporle È estremamente delicato Al punto di non aver notato Ah no Ok Quello di prima Pardon Ho ritriggerato Il dialogo di prima La vittima Perché così Vaga su ogni cosa Chi era la vittima Come è morta Te l'ha detto All'amante Non posso dirle ancora Tutti i dati del caso Ma posso dirle Che la faccenda È molto più complicata Di quanto crede La vittima E il signor Baker E la testimono oculare Sono tutti estrettamente Legati fra loro Come l'avevo già detto Alicia La vittima Era l'amante Che ricattava da tempo Il signor Baker Mentre Abby Gail La testimono oculare È la sorella Dell'attuale moglie Del signor Baker Anne Sherman Quindi ok Abby Che è sempre cattiva Nei giochi È sempre buttana E cattiva È la sorella di Anne Che è la moglie Che sicuramente Si faceva a lui Sì sicuro La polizia Crede che la testimona Abbia pedinato i due Perché ero ormai Certo del tradimento Assistendo qui Nell'omicidio in diretta Io ho bisogno di dire Che mi sta nascondendo qualcosa Giusto Come l'ho già detto Non posso riferirle tutto Finché non avrò dato Tutte le informazioni Che ho accordato Prima di venire qui Con il partito La cognata Un cliché Esatto Faccio capire bene Lei vuole che la mia agenzia Si occupi di scagionare Un politico estremista In modo che possa vincere Le prossime elezioni Facendo leva sul fatto che Fosse stato incastrato Da coloro che vogliono Affostare il suo futuro Il futuro della vostra amata città Pensate che sia un vostro burattino? Sarò franca con lei Signor Foli Non è Julie? Lei è una delle persone Più adate in città E nessun cliente Verrà mai a bussare Alla porta di colui Che ha fatto ammazzare I due innocenti Che stronza E allora perché Ve l'avete fatto? Perché conosciamo i suoi metodi Io vorrei che le fosse chiaro Fin da subito Che a noi non interessa Che ne trovi il vero colpevole A noi basta Che ne scaggiano Il nostro datore di lavoro Chi verrà arrestato A posto suo È un misero dettaglio Se non riuscire a sentire La nostra richiesta Riceverà 50.000 crediti E la possibilità Di ripulire il suo nome In maniera definitiva Inoltre ci tengo a dirle Che c'è una ragione Se ho scelto Di non spiegare Le modalità del delitto Venga al punto Vada sulla scena del crimine Sono sicuro che dopo Accetterà questo caso Ad occhi chiusi Non riuscirò mai A avvicinarmici Non dopo tutti i problemi Che ho avuto con la polizia E con i miti Negli ultimi tempi Non si preoccupi Passeremo a noi Penseremo a noi A questa tipologia Di dettagli Se su desiderio Davvero redimersi Agli occhi Della nostra società Questa è la sua unica occasione Buona serata No Non si è vista Da dietro Mentre andava via Eh era Tu sei carina Ma Julie Minchia Eh non dirmi Che hai realmente Intenzione ad accettare Ma hai visto che Certo Che hai sentito tutto Le mani nere Hanno fatto sparare I semi grandi Mordred Io mi sono salvata Solo perché sono arrivata Poco prima Ho avuto tutto il tempo Per vedere bastonare I disoccupati E tutti coloro Che non ritenevano Utili alla loro causa Erano altri tempi I mandanti delle stragi Sono stati arrestati Il partitore Molto più moderato Rispetto a quei tempi Potrebbero persino Perdere le prossime elezioni Inoltre quella donna ha ragione Se non accettiamo questo lavoro Per noi è finita Preferisco vivere in misiere Piuttosto che lavorare Per quei vermi Vorrei ricordarti Che anche noi Abbiamo fatto ammazzare Gli innocenti In fondo Non siamo poi Così tanto diversi da loro Non farmi questo Mordred Ehm Manteniamo quel briccio Di dignità Che ci rimane Ti scongiuro La trama di Dried Rolling È plasmata dal giocatore E dalle sue scelte Selezionano le opzioni Di suo scenario E provare a subire Le conseguenze delle tue azioni Ora non esistono Scelte giusto o sbagliate Agisci in istinto E plasma la tua storia personale Plasmiamola Oh cazzo Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Allora Io direi Che il nostro futuro è più importante Buonasera a tutti Abbiamo una piccola eventualità remota Ti vorrei che un giorno capirai che questa è la scelta migliore per entrambi Avrò bisogno di te, rimani in contatto Va bene Non mi perdonerà mai Ma i sentimentalismi non servono a niente Soprattutto la nuova Polemos Ora sarà meglio andare E ce la siamo giocata Soprattutto la mappa Dal menu in alto a sinistra Scena della destinazione Avanzando la tendenza Scoprere i nuovi luoghi da esplorare In cui poter tornare Ok Acqua S Opzioni Salvare e caricare la partita Ok E come si salva Ah ok Allora Mappa Non mi dice dove sono io Non mi fa vedere l'ufficio Ok Treasury Park Andiamoci Non abbiamo scelto gli occhioni Io ragazzi mi sono innamorato di Julie Io mi sono innamorato produttamente di Julie Perché ha due occhi veramente enormi E quindi Ci butteremo dal lato della politica Se proprio dobbiamo buttare qualcosa da qualche parte L'albero di Cassia Come sospettavo la scena del crimine è già stata pulita La polizia è davvero impressionante Quando si tratta di salvare la faccia della città Signore Mi dispiace ma devo chiederle di Oh lei deve essere il signor Foley Il signor Award Mi ha anticipato il suo arrivo Con la donna è davvero pensato a tutto Posso vedere se lo lascia passare per cortesia Lascia passare forse intende Questo è una prova indizio oggetti speciali Determinanti personaggi Per sbloccare nuovi dialoghi Nuovi indizi Nuovi luoghi su cui indagare La prima donna è riuscita a indagare Ok Impigliato da visita Favamo vedere Ok Intende questo vero? Molto bene Può procedere con l'indagine detective Sono a sua disposizione Suerte rapida con i 15 Love Johnny Welcome Back Grazie mille gente Mordred figlio di un cane Foley What? Hello Guarda un po' che ha avuto coraggio di uscire da quella fogna di ufficio Ah ma il Neo Il Neo è un È una peculiarità del gioco Cosa ci fai qui? Sei venuto a costituirti O fai solo O solo a farti riempire di schiaffi Buonasera anche te Freyna Eh Freya Freya Golden Soul Gold Soul Smettiamo di fare i cretini con i nomi Eh? La smettiamo? Abbiamo una certa età a cazzo Guardalo bene Roberts Eh guarda l'unico bastardo che non sono riuscito a far arrestare Arrostire No Credo che fosse arrestare A meno che è un pollo Orsa C'è davvero una correzione? Eh no Credo che sia arrestare Noto che il rancore al contrario della professionalità non ti manca affatto Dammi una sola ragione per la quale non dovrei buttarti fuori a calci nei denti Arrostire nella sedia elettrica Dici? Può essere No può essere È vero Parlavamo di sedia elettrica prima Esatto Sanno che noi siamo Dei Dei maniaci del pollo E quindi hanno messo a rostire Che non ci sono Vede Così Che voi incompetenti non riuscirete mai a chiudere Se è una ragione sufficiente No? Risparmi Risparmi l'ironia Foli Agente Lontani questa mano dalla scena Per favore Vediamo che non significa che ha autorizzato Maledizione Non so che culo sei andato a leccare Foli Magari Ti rispondo Frey Eh Freya Magari Ma non ancora Ma sappi che farò di tutto per farti togliere quel sorriso di mente dalla faccia Me lo ricorderò Ora mi puoi far lavorare in pace Grazie Ascoltami bene Qui stai giocando col fuoco Questo caso è troppo per uno come te Se davvero tiene la tua vita con la ragazza Vattene immediatamente Ciao Zirconia Addio Foli Non mi lascia il tempo di sbappare Questo gioco Fatemi fare due tiri Cazzo dall'inizio string Arrivo Quella donna dovrebbe davvero prendersi una bella vacanza Maled Riesci a sentirmi? Snake Snake Sì forte e chiaro Sto per iniziare le indagini Ok Vedete la videocamera a distanza Così potrò fornirti il supporto continuo Mentre indago dal tuo computer Rattenuto Acqua OS Il nome del gioco Dry Droning Ho già caricato tutti i file Ologramma inerenti alla scena del crimine Inoltre tutti gli indizi e le informazioni che troverai saranno caricati direttamente su Acqua OS Come dati? Molto bene Attiva subito questa diavoleria Così scopriamo perché si sono affrettati così tanto a sistemare tutto Come funziona? Ehm E lo? Ah il sondaggio è rotto nel sito Ragazzi Siete in 2000 che provate a farlo Aspettate Ad alcuni sta dando problema Tanti è andata Ah perché non c'è l'amazing Capito Ehm Non ho capito raga C'è il menu un po' buggato A volte non va What the hell? Ah Non è possibile Lui è tornato Mordred Non posso Non devo Dovrei Calmati Era L'incubo Ritorna Ancora 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 Era Ascoltami Quattro anni Solo quattro anni No basta Per favore Bella Misto Maledizione Cosa dovrei fare Costringerla a guardare Per peggiorare solo le cose Ma senza lei Impiegherò molto più tempo Devo prendere una decisione Alla svelta Ehm Dai Chiudi la chiamata con Era Mi dispiace Era Lo faccio solo per il tuo bene Maledizione Prima la discussione Dove mandare Nere Ora questo Mi porterà a raccore Per mesi Basta perdere il tempo Vediamo di far luce Su questo disastro Ehm Indaga Semplice panchina Sembra esserci Non è interessante Sono sempre La briga Di sistemare Quel cestino Uy E questo cos'è Quanti da uomo Quanti Ottima fattura Con Grosso taglio Che attraversa Per quasi Per metà Sangue secco E' presente All'accelerazione Simbolo che Probabilmente Questo soggetto E' legato Alla scena Del crimine I guanti Pagni Sono simili L'eleganza E portamento Nova Polemos In genere Da chiunque Voglio darsi un tono Ok Guanto da uomo Pagni Di sotto Probabilmente In seguito All'urgo Qualcosa Molto pesante Pagni Non esserci Delle macchie Di sangue Ok Ok Qui ti lascia Tutti gli indizi La gola Della donna E' stata Crudelmente Tagliata Ma E' una freccia Quella Sì E' una freccia Dicono che I bulbi Oculari La vetina Sono stati Rimossi In maniera Chirurgica Per poi Essere Inseriti All'interno Della sua Bocca Che è stata Cucita Per evitare Che Dio Con grazia Di uomo Abbiamo Che fare E aieie Con i due anni Ma grazie Di che Grazie Di che Grazie A te Johnny Thank you So much Per i due anni Di supporto E' ottenuto La vittima Fai a vedere Vedersi come la fa vedere meglio No Cioè Gli hanno staccato Gli occhi E gliel'hanno fatti mangiare Per evitare cosa? Ah no Gli hanno cucito la bocca Per evitare Che cadessero fuori Parle di venire La donna E' coperta Da una sorta Di grezzo Telo Mentre la parte Superiore E' totalmente Scoperta A giudicare Dall'intero Contesto E' molto probabile Che la vittima Fosse già morta Prima di arrivare A Treasury Park Si fiori sono disposti In maniera Quasi rituale L'assassinazione Si è preso tutto A tempo Di il mondo Per A giudicare La complessità Dell'opera E' protti Con i 21 Sempre un piacere Schiacciare il bottone Novi Johnny Thank you Acqua S Afferma Che si tratta Di un tipo Di Daphne Una pianta Piuttosto comune Da queste parti Daphne Era forse Hai ragione Lui è tornato No Non devo Saltare a conclusione Affrettate Devo continuare Ad indagare E' ottenuto Daphne Contento che vi Piaccia il sito Ragazzi Tutto merito Di Wolf Raga Io non ho fatto Un cazzo Ok E credo che Possiamo tornare Tipo in ufficio No Forse la freccia A QS si E' tipo E' un E' quell'orologio Da polso Praticamente che ho Quel cuscino Deve essere Vedi che è incredibile Ragazzi E' da due anni Quella roba Scrollate lo shop Scrollate lo shop Che è la signorina Che posa Con la maglietta La sere La presente freccia Di piombo E' stata conficcata Nel corpo Della donna Di piombo A giudicare All'angolo Della condizione Dal peso E' quasi impossibile Che sia stata scoccata Da un arco Canonico Questo mi fa pensare Che la freccia Si è stata inserita Dal killer Dopo aver ucciso La vittima Perché diamo L'avrebbe dovuto farlo Freccia di piombo Freccia sono fissate All'albero in maniera Calcolata Da un'illusione Che si tratta Di qualche Di qualche Sorte Di macrabra Opera d'arte Questa si può dire Per i capelli Che sono stati fissati All'albero Con una precisione Quasi maniacale Abby Thank you Madonna negata Da un albero Ma nei piani Una freccia di piombo Conficata nel petto Tutto questo Vuol significare Soltanto una cosa Il killer Voleva emulare Il mito Di Apollo E Daphne Che tutti voi Conoscete Tutti noi Conosciamo Era Una delle più note Leggente della Grecia Antica Narra che Apollo Dopo l'ultima Delle sue innumerivoli Geste eroiche Fini con L'inimicarsi Il dio dell'amore Cupido Quest'ultimo In preda La gelosia Scalo il monte Parnaso E dall'assù Scaglio due frecce Una di piombo Destinata a Rispingere L'amore E una dorata Che avrebbe condannato Chiunque ne fosse colpito Ad innamorarsi perdutamente La prima colpì Daphne Una bellissima ninfa Mentre la seconda Fu scoccata direttamente Nel cuore di Apollo Che divenne perdutamente Innamorato Della creatura A pelle Figlio di Apollo Fece una palla Di pelle di pollo Tutti i pesci Vennero a galla Per vedere La palla di pelle di pollo Fatta da pelle Figlio di Apollo Giusto Cavaz Bravo In preda L'ossessione Il dio del sole Cominciò a tormentare Daphne Inseguendola nei boschi La ninfa Cominciò a correre A perdifiato Credendo aiuto In lacrime Alla madre terra E la impietosita Trasformò la ninfa In una pianta Mettendo la parola fine Ai bramosi desideri Del dio Fu in quel momento Che Apollo Fece un buco Nella pianta E a pelle Figlio di Apollo Fece un buco Nella pianta Colpo Questa povera ragazza È una dimostrazione Terrenale Il fatto che Nemmeno un'entità divina Può esimersi Dal tormento Dall'ossessione O dalla gelosia Basta essere gelosi Ragazzi Cioè Sam Per il sociale E le relazioni Di coppia Basta essere gelosi Non rompete il cazzo Ai vostri lui Alle vostri Non rompete il cazzo Ok Basta essere gelosi Ok Tu che mi stai ascoltando Che sei geloso O che sei geloso Basta Avete rotti i coglioni Vi meritate tutte corna Oh Ma Apollo Prima di fare La pelle fatta di Apollo Si è bruzzata col Prime Assolutamente Bella Mouse E tracce con i 14 Un kidder che uccide Le sue vittime In maniera teatrale Ricreando antichi miti greci Ma quindi La ninfa è diventata Una pianta Apollo E' stato piantato E' trapiantato Perché è passato Quindi è trapiantato Remo Ormai non c'è dubbio Mordred In questo caso Vediamo quanti sub Sto perdendo Vediamo Potrei mettere Le piante femminili Con due occhi così Ascoltate Ascoltate Se non avete Umorismo Non è colpa mia Ridatemi i bits No No Lascia stare Quei bits Questo caso è identico Quello che abbiamo indagato Quattro anni fa Pandora Ora capisco Che mi intendeva Quella donna in ufficio Quando ha detto Che avrei accettato Questo caso Senza esitare Eppure Continua ad esserci Qualcosa Che non quadra Pandora Ha sempre ucciso In luoghi chiusi Isolati E l'ha sempre fatto Con una violenza inaudita Vabbè Non mi sembra Che sia stato carino Qua Invece Sembra Quasi un tentativo Di creare qualcosa Di diverso Sarà Pandora 2.0 Cosa intendi? Troppo presto Per dare Conclusioni Affrettate Specialmente Fino a quando Avremo parlato Con la polizia Minchia Rega Questo caldo Leggere Mi si impasta La bocca Fatemi bere ancora Mi farò la pipì Addosso A fine stream Fortuna che c'è Campari Che fa battute Più brutte Delle mie E quindi Risulta divertente Alla community Grazie Campari Per il supporto Totale Non sappiamo niente Del sospetto Del testimone Inoltre mi rifiuto Di credere Che anche loro Non siano giunti Alla nostra conclusione Ora che Freya Non è In giro Potrei anche riuscire A fare quattro chiacchiere Con Col suo simbolo Simpatico collega Salve ancora Agente Signor Foli Rai bisogno di farne Qualche domanda Sempre se non le dispiace D'accordo Ma faccia in fretta La fidettata Le bande nere Non vale il po' Il mio posto di lavoro Può parlarmi di Freya Il tenente È quel tipo di poliziotto Che non può durare Tanto in una città Come questa Zelante Talentuosa È pura 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 Soprattutto pura E come lei Saprà bene Siamo al fuori La purezza È il cibo preferito Delle pallottole Vicino Salerno Baker abbia tirato Abbia tirato la vittima Qui con una scusa Aggredendola in maniera improvvisa Con un coltello Bella fracca Thank you La vittima La vittima è riuscita a reagire La vittima è riuscita a reagire parzialmente E prima che le venisse tagliata la gola È riuscita a ferire Ad una mano il suo salitore Probabilmente con la stessa arma Con cui poi è stata uccisa Allora non compro N-U-L-L-A Grazie scopa Non comprai niente Tranquillo Baker si è ferito Della mano Con il suo stesso coltello Ha ottenuto coltello Ok L'opera è riuscita a donna Ha estratto i suoi bulbi oculari E le ha inserite Nella bocca della vittima Che è stata cucita poco dopo Successivamente Ha legato la donna all'albero Denudandola Sistemando la composizione floreale E capire in una maniera Che ha potuto osservare Probabilmente ci sono volute ore Ma come ben saprà Questo parco è praticamente deserto Una notte E l'assassino lo sapeva Grazie fracca L'opera è completato L'opera L'assassino è fuggito Velocemente verso l'ospedale Più vicino Non sapendo che era stato visto A testimone oculare A tutti quelli Che hanno un monitor Con risoluzione 1366x768 Che che minchia Di risoluzione è Brutti stronzi È colpa vostra E non riuscivano A fare il test Ora dovrebbe essere Tutto risolto Brutti stronzi Con il monitor A 1366x768 Grazie E buona visione Del sito www.goeasytwitch E la risoluzione Del tuo portatile Ma che cazzo Di risoluzione è Che risoluzione è Ah La ragazza Affirma di essere arrivata Mentre il sospettato Stava bloccando La vittima All'albero Tutto qui? Avete arrestato Un uomo Seguendo una ricostruzione Così marginale? Non avete neanche Calcolato le tracce Di sangue Sulla panchina? Non ho mai detto Di poterle Dire davvero Tutto Detective Ci tengo Il mio posto di lavoro Magari che dovrei Costruire l'intera Faccenda Da solo Figo Cosa vuol dirmi Sono sospettato? Baker Uno dei più grandi Rivoluzionari La nostra epoca Credo fermamente Che sia l'unico In grado Di salvare Questa città Dal degrado Fantastico Una gruppi Delle bande nere Nel corpo Della polizia E fa parte Del team Che l'ha fatto Arrestare Questa città Non cesta Mai Di stupirmi Parla del suo Movimento Del rapporto Con la vittima Non della sua carriera Come paladino Alla giustizia Sospettiamo Che Baker Abbi ucciso Alicia Hart Perché la donna La stava ricattando Ormai da anni In quanto Sua amante ufficiale Probabilmente Con le lezioni Così vicine O la dichiarazione Dei giornali Avrebbe potuto Distruggere La sua vita Politica E privata Per quanto riguarda Testimone oculare Testimone Della sorella Della attuale Moglie Del sospettato E cosa faceva Tra i jury park A notte fonda Probabilmente Lo stava pedinando Ma non abbiamo Ancora la certezza Agente Ma che diavolo Freya Posso sapere Quale ragione Ha lasciato La sua postazione Tenente Io stavo Non ho tempo Per il suo Dio zii Torni immediatamente Al suo posto È un pugno Di ferro Questa Sì signora Cosa sto aspettando Si muova Ah sei ancora qui Buonasera Tenente Gold Soul Guarda che si rivede Finalmente Folly Ti ha fatto uscire Dalla tana In realtà Sono io a tenerlo In saglio Mai evito di dirglielo Potrebbe offendersi Spero di non avervi rovinato La piacevole chiacchierata Con il mio sottoposto Tutt'altro È proprio con te Che volevo parlare Con me Questa è proprio bella Di cosa Dovrei mai parlare Con un verme Come te Freya mi odia Ma una donna sincera Desiderosa di giustizia Sono sicuro Che anche lei avrà notato Le stesse incongruenze Connotato io Facendo leva sul suo orgoglio Potrei riuscire a scoprire di più È una manovra rischiosa Ma al momento È la soluzione migliore Motivo di credere Che la vostra ricostruzione Nel caso Sia completamente diversa Dalla realtà dei fatti Adesso Oltre che un criminale Sei diventato anche un teorico Del complotto Sarai anche un esaltata Ma non sei una stupida È impossibile Che tu non ti sia accorto Di tutte le incongruenze Di cosa stai parlando? Metti da parla L'azioche per un attimo E cominci a ragionare Con la tua testa Un caso quasi identico A quello di Pandora Unito a una testimonianza oculare Apparsa miracolosamente Che ha tutti i motivi Nel mondo Per odiare Baker Non sembra anche te Che ci sia qualcosa di strano? Mordred Non starei davvero Cercando di salvare Quell'uomo Fidati di me Era È per il nostro bene Spero solo Che tu sappia Cosa stai facendo E voi credete Di conoscere la verità Dopo così poco tempo Dall'inizio delle indagini? Forse Molto bene È sozzicata La mia curiosità O forse La mia voglia Di prendermi Il gioco della tua arroganza Sì, prenditi il gioco Dalla mia arroganza Avanti Espone la teoria Ma attento Hai solo una possibilità Una sola possibilità Sarà meglio di controllare Tutto prima E dare la mia versione Fatti davanti Tutti gli indizi Documenti Profili che ho tenuto Fino ad ora Prima di cominciare Nella versione Dei fatti A foli Ok Non posso salvare Shit Ma c'ho tutto Vai tranquillo C'ho tutto qui Nel Gulliver Procediamo per ordine Sappiamo che la vittima Sono stati asportati I bulbi ocolari In maniera scrupolosa Dopo la morte La morte Questi ultimi Sono stati poi ritrovati All'interno della bocca Che è stata crudelmente cucita Esattamente Dovevo arrivare A comprare questo terribile gesto Non può essere stato Baker Perché? Non aveva il tempo Necessario per farlo Non aveva le capacità Per farlo Non aveva nessuna motivazione Per farlo Non aveva le capacità Per farlo Mi frega Saresti in grado Di asportare I bulbi oculari Con la precisione Mostrata dal killer? Grazie di domanda Morda da ragione Inserire i bulbi oculari In maniera precisa È complicatissimo Sono una persona Con grandi conoscenze chirurgiche Potrebbe riuscirci H Il dottor Pivetta Va bene Wolf Di farlo Estrarre occhi E cucire bocche Non è una cosa Che si fa tutti i giorni Non credi? Specialmente Si tratta di un vecchio politico Abituato a vivere nel lusso Prac Nel test Nel test sul sito Non so cosa rispondere Alla domanda Come useresti 5 euro Che ho Sei un cretino Usato un complice Complice Che la testimana Afferma di non aver visto Capisco la tua osservazione Ma Non è questa La vera incongruenza Di cosa parli? Suo collega Ci ha riferito Che dopo aver estratto I bulbi oculare Cucito la bocca Dopo una breve lotta Nella quale È stato ferito la mano Baker ha legato La donna all'albero Denudandola Sistemando i fiori e i capelli Operazione che probabilmente Ha richiesto ore Puoi confermarmi Che questa è la vostra versione ufficiale? Yes indeed Non pensi che in questa ricostruzione Manchi un particolare A dir poco fondamentale? Non capisco dove voglio arrivare L'indizio che è stato Completamente ignorato Nella ricostruzione è? La freccia? Io direi la freccia Chat Le sigarette Il biglietto da vista No il guanto no Io dico la freccia Ciao staccato Perché i guanti? Io dico la freccia La freccia di piombo? Esattamente Questa freccia è fondamentale Nella risoluzione del caso Motivo di credere Che Baker sia arrivato Sulla scena del crimine Dopo che questo era già avvenuto E cosa se lo fa pensare esattamente? Credo che il sospettato Abbia visto il cadavere Della sua amante In preda al panico Abbia prima di tutto Cercato di togliere la freccia La vittima aveva la gola tagliata Cosa serviva a togliere Una freccia di piombo dal corpo? Osserva attentamente Tessa copre totalmente La ferita inflitta dalla lama Il sangue Eccolato direttamente Dalla ferita inflitta dalla freccia E cosa c'entra Con l'innocenza di Baker? Prova a pensarci un attimo Baker arriva Vede il corpo della sua amante In preda al panico Nota la freccia E il sangue che sgorga da essa A quel punto Prova estrada Per cercare di salvarla Magari urlando alle contro Sperano di trovarla ancora viva È un atto totalmente folle Non si sia totalmente In preda al panico In ogni caso Anche questa tua versione Dei fatti Non ha senso Sulla freccia Non erano presenti I proni digitali Quindi è possibile Che Baker Abbia provata Ad estrarla con forza Ti sbagli di grosso Baker non ha lasciato I proni digitali Per via di questo indizio Il guanto I guanti sono meravigliosi Non credi Discreti Non lasciano alcun tipo Di impronta digitale Dove abbiamo ritrovato Quel guanto? Qui sotto Non mi presente naso Della nostra infallibile polizia Stiamo intendo Foli Sapevo che non avrei dovuto Ascoltarti Crede davvero Che il tuo amico Avrebbe avuto la motivazione Per nasconderlo? Quanti di loro Vorrebbero Baker Dietro le sbarre? Quanti di loro Di quanti di loro Puoi davvero fidarti? Nascondere qualcosa Di fondamentale In bella vista È davvero un classico Nelle situazioni del genere Specie se ci si è messi d'accordo In precedenza Inoltre il taglio sul guanto Mi lascia intuire Che ci sia stata effettivamente Una lotta Che però è avvenuta In tutt'altro modo Probabilmente Sospettato È stato aggredito Alle spalle Mentre stava cercando Di estradere furiosamente La freccia Distinto Si è girato Proteggendosi il volto Con una mano ZAC Venendo ferito Subito dopo A quel punto Ha cercato di scappare Ma la sua fuga Si è fermata Pochi passi dopo Cosa se lo fa credere? Questa è una prova Che dimostra Che la fuga Del sospettato Si è conclusa Dopo pochi passi La panchina è rotta? Andato a sbattere Contro la panchina? Perché i petali? Io dico la panchina Mentre fuggiva Ferlusivamente Baker è stato gettato Con forza Contro la panchina Distruggendola Visto lo stato in cui era Ha senso? Scommetto inoltre Che il sangue presente Sull'altra della panchina Sia proprio quello di Baker E come spiega E quello che è successo dopo? Che diavolo? Tutte donne Presunto colpevole Ha fatto scappare Baker Un testimone oculare Che l'avrebbe condannato Comunque sono bravissimo A fare l'investigatore O mi vuole far raccontare Che un vecchio ferito Sia in grado di correre Più veloce Nell'ospettato assassino E lei chi è? Vi presento Abigail Sherman La testimone oculare L'omicidio di Alicia Sì sicuramente Se la faceva Guarda con cosa va in giro Con le robe lì Sono quelle illegali Hai ottenuto? Abigail Sherman Quelle robe lì ragazzi Sono illegali Non ve le mettete Lei è Bella pennello Cosa c'era dentro Quel Serbatò Eh? Cosa c'era dentro Cosa c'era Non riesco Cosa c'era Megane Cosa c'è Detective Non ti senti bene? Chi ti prende? Sembra così Tu abbia visto Un fantasma What the hell? Me la ricordavo Più carina Abigail Il fatto che abbia Dissuto La sua Fantesosa Ipotesi La mette Così a disagio Tutt'altro Signorina Lei mi ha appena Aperto gli occhi Di cosa stai parlando? Buono scusatemi Un appuntamento Un appuntamento Importante Avrei perso Le mie notizie Freya Dove di nuovo Sta andando? Che razza Di idiota E pensare che sono Stato anche ad ascoltarlo Che bella Sta immagine Fosse stato Più viola La mettevo Come sfondo Nel desktop Perché Si è fuggito In quel modo? Una maschera La forma animale Apparsa sul volto Di Abigail E questo significa Che la nostra Cara testimone È un uomo Sta mentendo Ut E sono una visita Psichiatrica Che sente Morda il folle Cercherò di spiegare In maniera diretta Professore Ogni volta Che una persona Mente spudorata Venti di fronte a me Una maschera Di carne Dalle sembianze Animali Prende forma Sul suo volto Distorgendo Lo spazio E la realtà Non ho mai capito Da cosa derivasse Questo incubo Ad occhi aperti E francamente Non mi interessa Scoprire Nel momento Vorrei soltanto Che smettessi Di prendermi in giro E dicendomi Che nessuno Sentirà mai Questa conversazione Cosa ne dico Che sono bugie Provai ad indovinare Cioè quindi Lui è tipo Un sensitivo Anche Il nuovo Una di quelle maschere Quindi credi Che lei Sia l'assassino Non necessariamente Potrebbe essere Un'accomplice Forse sta cercando Di incastrare Il sospettato Prima di interrogarla Ci servono Altre prove Inoltre dobbiamo Ancora sentire La versione Di Baker Forse lui Saprà spiegarci Come ha fatto A scappare Di lì Senza che il vero Killer Si uccidesse A sangue freddo Ciao Maya Al momento Dovrebbe essere Al commissariato Andiamo a fargli visita Ok ma prima Sento bisogno Di parlarti Con il tempo Torno in ufficio Farò appena Una vera occasione Nel frattempo Farò un po' di ordine Tra gli indizi Ok Ciao Motti Ah Tragio di parco Commissariato Non posso ancora Tornare nell'ufficio Andiamo a commissariato Sono proprio Polizietto Uber Vero? Ma di brutto Brutto Una sezione Medicina La polizia Metà delle persone Che lavorano qui Volevano vederti Vedermi Sulla sigla elettrica Solo la metà Sottovaluti Tuo talento Detective Ma che? Qui doveva partire La musichetta Di Milord Però eh Sei l'ultima persona Che mi aspettavo Di vedere qui Ma fuori David Non dimmi che ti serve di nuovo La consulenza del tuo avvocato E difensore Che ti serve di nuovo La consulenza del tuo avvocato E difensore preferito Credi farmi altri 4 anni di processo Piuttosto che sentire ancora Le tue battute A ragazzino a represso David Casey Ok Lui è un avvocato Penso che tu venga Affritto Una sede elettrica E mi tratti così Non ci siamo proprio Amico mio Non sono tuo amico E francamente Neanche mi interessa esserlo Sono su Qui sono perché Devo vedere Richard Baker Hai idea di dove sia? Certo Il mio cliente Ha appena finito Di essere interrogato Ora il telefono Va presto Sarà a tua disposizione Cliente? Questa è bella Hai intenzione Di patteggiare subito Con 30 anni di carcere Anche con lui? Oh andiamo Ce l'hai ancora Con la storia dei 30 anni Pensare che ho Subito suggerito Il tuo nome Alle bande nere Oh allora Devo ringraziare te Per avervi messo In questo disastro Thank you Ciao Giulia Lo so Sono un uomo Dal cuore d'oro Ma d'altronde Sono sempre stato Fan delle cose perse In ogni caso Prima di farti parlare Con Baker Probabilmente Dovrei aggiornarti Su alcuni fatti Di che fatti parli? Cominciamo con ordine Come abbiamo noi Fatto a finire Con le bande nere Ci vi devo dare La loro idea Di politica Aspettate un secondo Raga Datemi Una seconda Devo vedere una roba Così no In questo modo Nemmeno Mi sa Perché Le minga Possibile Vediamo Vediamo se funfa Potrebbe funfare Oh ok in modo che Se piggio fuori Non vi implode tutto Ciao ombra Hai per caso provato katana 0 Degli stessi sviluppatori I try my evening Nope Nope I didn't Ah signorini Ricordo a tutti quelli che ancora non l'hanno fatto Andate sul sito e registratevi Che sito Johnny Che sito Putto esclamativo sito E che cazzo Come ne avrei fatto a finire con le bande nere E ricevi dare le loro idee di politica Qualcuno una volta disse Che bisogna tenersi stretti gli amici E ancor più i nemici Inoltre il portafoglio e gli ideali sono due cose completamente diverse Ti piace giù? E tu più di tutti dovresti sapere cosa intendo Quali sono le condizioni di Baker? Continua a darsi un tono ma è visibilmente scosso Ha diverse contusioni sul braccio sinistro Inoltre la ferita alla mano destra si è rivelata molto più grave del previsto Probabilmente riuscirà a muovere le dita ancora per un bel pezzo Mmm interessante Ok Il processo Ragazzi il punto esclamativo sito non va perché si rompe www.goesytwitch.com Probabilmente lo sei già ma al momento la popolazione All'oscuro del fatto che il mio cliente si è indagato per l'omicidio di Treasury Park Ma la cosa potrà rimanere nascosta ancora per poco Quando uscirà fuori Sarà un disastro per Baker e il suo partito Metti con i nove mesi Meno 3 all'anno Thank you so much e bienvenido raga Allora è stata una settimana dura Quindi io non voglio dire che ne mancano 144 A quando eravamo dove Facciamo che ne mancano 44 Iniziamo a fare i 44 sub che mancano Poi pensiamo agli altri 100 Cosa te lo fa pensare? Eh città sono pochi e gli omicidi ancora meno Proprio per questa ragione l'intera casa L'intero caso una vera e propria bomba d'orologeria Inoltre la moglie di Baker è solo una crisi di nervi E' convinta che dopo l'amante vogliono uccidere anche lei Ma veramente io pensavo fosse www.sit Black Cosa meravigliosa l'amore Ah l'amore Se non ci viene quella donna potrebbe aiutarmi a far chiarezza sul rapporto fra Abigail e Baker Posso lasciarti su indirizzo ma fai attenzione alla parola di troppo e rischi di scatenare l'inferno L'ultima cosa che voglio è che vada a dire qualche parola di troppo in media Dopotutto io posso salvarti Da giudici giornalisti Ma non dalla vendetta delle bande nere Ma non preoccuparti Sono sicuro che un tenero ragazzone come te saprà farle tornare buon umore In un attimo Andiamo a farle tornare buon umore Mi direi che è arrivato il momento di farti parlare con il tuo amato capo partito Ma prima devo chiederti una cosa di guardare la scena dei crimini di Treasury Park Un uccellino mi ha detto che qualcuno ha trovato una prova che non era stata segnalata Per cui era riscontrato la polizia Hai idea di che potrebbe essere quella persona? Che si riferisca al guanto che ho trovato? Bella carna Presentando di quella prova Lo aiuterei nel processo ma rischerei di mettere nei guai Freya Per non averlo trovato Cosa dovrei fare? Vabbè ma noi a Freya stiamo in culo Cazzi di Freya Ciapa la prova Guarda che bel guantino Il gioco si chiama Dry Droning Anzi non so se c'è ancora Orsa Orsa? Terra chiama Orsa? Orsa ci sei? Pure avrà detto Sto streamer di merda non merita il nostro gioco se n'è già andata E mentre che do un minuto per vedere ad Orsa se c'è Un minuto di delay Mi faccio due tiri Eccola! Orsa manca il gioco su Twitch Non c'è! Nella categoria dei gioi dovete farlo aggiungere C'è da fare tutto un procedimento Se lo googli è facile Però dovete aggiungerlo Perché se vedi ho dovuto mettere game più demos Perché non c'è fra i titoli dei giochi di Twitch Ma dopo una visual ti riguarda una Twitch Ah do doppia visual No tut A meno che non apri il Un modo volendo c'è Però no Orsa è una delle creatrici Del gioco Cosa hai fatto di preciso Orsa? Mi prendo questo secondo di pausa Perché comunque Leggere per un'ora e mezza di fila È pesante Ah l'avete già fatto? Penso sia una Sì 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 Ci mettono un paio di giorni al massimo Pardon allora E Nia! Le regala anche la sub Bienvenida! O meglio degli streamer Secondo me Purtroppo sì Aself Poi ci sono streamer e streamer Eh però Poi ci sono streamer e streamer Però credo con l'investigatore Di norma guadagni poco A meno così Sono l'artista Tutti i disegni Veramente Ma sei super brava Che infatti è la cosa Che per il momento Mi sta colpendo di più Sei giga brava Complimenti complimenti I disegni 29 e welcome back Spero solo che tutto questo Non finisca per farmi odiare Ancora più di più Da freia Quella donna potrebbe davvero Rendere le indagini Un vero e proprio inferno Oh tempismo perfetto Mio caro vecchio Mordred Ti presento Richard Baker Capo partito Delle bande nere Oh finalmente ci conosciamo Detective Foley Piacere mio signor Baker Mi perdoni ma Avrei urgentemente Bisogno di farle qualche domanda Vedo che un uomo Che ama andare dritto al punto Ho appena subito Quasi 4 ore di interrogatorio Ma immagino che qualche domanda In più Non potrà uccidermi D'altronde È risaputo Non c'è mai riposo Per i dannati Ciao criminal Allora lascio voi Due piccioncini nassoni Per qualsiasi cosa Non esitate a contattarmi Ti devasta Baker Anche secondo me Vogliamo cominciare Detective Sono curioso di sapere Cosa vuole da me Gioco il jolly Prima di parlare con Baker Faccio la pussio E salvo Sì ha salvato Ok Io non so proprio disegnare Sono invidioso Io non è vero Invece orse Io sono bravissimo A disegnare E potrei sfidarti pubblicamente A un duello di paint Ma non lo farò Non lo farò Non lo farò Ho vinto Miliardi di duelli Di paint Sono campione Del pianerottolo Di paint Ho vinto due volte Il regionale Di paint Mi sono iscritto All'international Di paint Purtroppo Ho mandato il disegno Il giorno sbagliato Non mi hanno preso Però vabbè Ora lo vogliamo vedere No 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 Ragazzi Mi hanno vietato Di Di mostrare ancora Le mie dote artistiche Su paint Su sembra di disegnare Ricordo ancora il disegno Ascoltate Il cavallo è difficile A disegnare Perché Tutte le Cazzo di bestie Che hanno quattro zampe Sono difficile Perché Entra in campo la prospettiva C'è sempre una gamba più lunga È un delirio Non sono mai riuscito A fare un fottuto animale A quattro zampe Nella mia vita Ok È impossibile disegnare Cioè disegnare O hai fatto qualcosa di strano Tipo che ti hanno rinchiuso In uno sgabuzzino Per Chiedetelo a orsa Orsa da piccola È stata rinchiusa In uno sgabuzzino Per mesi Ed è così che ha imparato A disegnare lei A me non mi hanno mai chiuso Non ci riesco io Raga Non ci riesco Cioè per me Disegnare le cose È impossibile Disegno solo serpenti Io Sono bravissimo A fare le bis Neanche Perché viene tutta storta Perché la biscia Io quando mi immagino la biscia Ho provato una volta A disegnare un serpente Cosa hai fatto Giulia? Dai Che stronza L'hai salvata Allora Questa è una cosa Vabbè Ero deconcente Dai Adesso mi fate fare Brutta figura con orsa Allora Questo è un emote Che dovevamo mettere sul canale Era l'amazing Mi spammate Gli amazing in chat Per favore Era più o meno È venuto un po' storto Perché avevo la mano Che tremava quel giorno Poi non sono abituato A disegnare con tutta la gente Che mi guarda Io quando disegno Che cazzo ne sapete Voi io sono un artista Mi metto sul balcone Vado al lago E a disegnare Con il mio sketchbook C'ho lo sketchbook pro C'ho lo sketchbook pro Vado al lago E mi metto sotto una pianta E disegno Che cazzo ne sapete voi Che disegnate i cazzetti Sui banchi di scuola Ma incredibile Incredibile Queste mod qui Non l'ho disegnata io Non l'ho disegnata io A me piace Bravo Eno Tu capisci qualcosa Di arte Bravo E viene considerato Un moderatore All'interno del partito Perché mai Aspettate un secondo Che provo a aprire la finestra Che mi sa che Questa sera fa fresco Perché Se accendo l'aria condizionata Fa troppo freddo Se lo spengo Fa ca Aspettate Niente Non tira un filo d'aria Gnei glotto Se mi passi Il tema del disegno Te lo faccio io Ti fingi artista Gnei a me Bravo Audi Esatto Useremo questo trucco Thank you E al contrario di molti Dei miei colleghi Non discrimino per razza Religione o sesso Ma per semplice merito E questo merito Viene definito Dall'esame Patterson Inventato da Inventato da Noi Più di venti anni fa Cazzo è Esame Patterson Esatto Necro Voi cittadini Obbligati ogni 5 anni A svolgere un test Chiamato esame Patterson All'interno di questo test Vengono poste molteplici domande Che servono E come quello del sito Consente intellettivo Le capacità di ogni singolo individuo No Non misuro il consente intellettivo Il sito Perché altrimenti Veniva tutto in negativo No Inventato da potere Inventato da potere Inventato permette Numerosi vantaggi Tra cui posizioni lavorative Migliore La possibilità di poter Condividere liberamente I propri pensieri online Oh ci vorrebbe una roba del genere Che Non tutti Possono esprimere liberamente I propri pensieri online Cioè Esempio Cioè Alessandro M Che viene in chat E fa un escala Oggi penso proprio che Non dovrebbe poterlo fare Cioè Non dovrebbe poterlo fare Sbagliato Vedi La società in questo gioco È più avanzata Nella nostra Ho detto Alessandro M Per dire Alessandro M Potevo dire un altro Insomma Sono frequentati dagli anziani Che hanno una maggiore difficoltà A superare il test Ok Ah L'esame Patterson A volte neanche gli streamer Dovrebbero Vabbè Povera Alvi Però Che stronzo Misto Disegnami come una delle tue ragazze francesi Disegnami come una delle tue ragazze francesi E per caso Quella prova in cui Oltre alle capacità individuali Si riesce a intuire anche il guadagno La provenienza E anche lo schieramento politico Mi ascolti signor Foli Quest'ora di poter condividere Il riccazzo di Nova Polemos Con tutti E pura fantascienza L'immigrazione Controllata E la scarsa formazione E la voce del popolo ignorante Sono le ragioni Per cui questa città Rischia il collasso Nova Polemos È costruita sulle ambientazioni Sull'ambizione Sì vabbè Sull'ambizione Sull'ambizione Non permetterò Che dei parassiti nulla facenti Distruggano il nostro Piccolo Paradiso Comincio a creare Che desiderate soltanto Creare tanti piccoli Fantocci Che seguono le vostre direttive Sfruttando la formazione Come indottrinamento Potrò anche Non condividere Le nostre idee detective Ma le ricordo Che il suo futuro È legato al mio Sì io cado Le veraggio con me Quindi le consiglio Di mettere una museruola Alla sua anima Da cane rabbioso Mi sto sciogliendo Raga Arrivo Prendo altra acqua Cioè È una serata importante Leggere così Tanto a questa temperatura Mi sta uccidendo Arrivo Un secondo Lo staff di Paint Si dissocia Da qualsiasi attribuzione Di titoli Allo streamer Cordiali saluti Grazie E Paint Era uno scherzo Ragazzi Era uno scherzo È veramente Lo staff di Paint Ma in realtà In privato Mi hanno scritto Abbiamo un Un ingaggio per te Ti offriamo dei soldi Accettato Ho preso Ho preso Dell'ottimo Tè alla pesca Anche se a me piace Quello al limone E c'era anche Quello al limone Ora vediamo Chi di voi Sa dirmi Perché ho preso Quello alla pesca Se c'era anche Quello al limone Pur essendo che Non mi piace Vediamo chi ci arriva Vediamo se uno di voi È furbo Che costava di meno No 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 C'era nel frigo Perché è una pesca di seta No Il limone è di seta Di più Il limone è troppo forte No perché Marta No Marta beve Quello alla pesca Dire il vero Era quello più vicino No Quello alla pesca Era freddo No entrambi erano freddi Pesca su tutto Era caldo Era fresco No Erano tutti due freddi Perché quello alla pesca È di Marta Quello è vero Ma non è il perché Perché impassa di più Perché non bevi troppo In fretta Quello del limone Quello alle due No È preso Senta guardare Era aperto Erano entrambi aperti Bravo Mini a moto Perché quello al limone Ce n'era poco E quindi essendo che sto bevendo Come un cinghiale I cinghiali bevono Veramente tanto Ho detto Fanculo Poi mi devo rialzare E piglio quello Alla pesca E via Non ho mai visto Spremere una pesca Eh Ma Signor Baker Hai bisogno di sentire La sua versione Dei fatti Prova a raccontarmi Cosa è successo Alla sera del crimine E cerchi di essere Il più preciso possibile Alicia mi aveva contattato Pochi giorni prima Diceva che avrebbe parlato Di noi alla stampa Se non l'avessi mantenuta Per tutta la vita A proposito di incontrarci A tre giudici Per discutere I termini dell'accordo Dal vivo E ho accettato senza fiatare Sono arrivato puntuale All'appuntamento con lei La mia intenzione Era quella di chiudere Questa storia una volta per tutte Ma quando sono arrivato Lì era già stata legata A quell'albero Ed uccisa Le ho urlato contro Sperando fosse ancora viva In preda al panico Ho provato ad estrarre Quella maledetta freccia Poco dopo Sono stato assedito Alle spalle da qualcuno Che è riuscito a fermi Con una mano A una mano col coltello Mentre cercava di difendermi Alla pesca Perché essendo quello Che ti piace meno Allora lo bevi solo Per di sé tardi Ma invece Se prendevi Quello al limone Te lo saresti scolato In una botta No 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 Mi è glotto Arrivi in ritardo Abbiamo già trovato Perché ma grazie I cir No te zirconia Dormi bene Quel momento Ho provato a fuggire Ma pochi passi dopo Sono stato spinto Contro una panchina Esattamente tutto Quello che avevamo Dedotto noi Dopo l'impatto Sono svenuto Convinto che sarei morto Mentre Per di un senso Ho sentito un urlo Forse di ragazza E poi non ho visto più nulla Un urlo di ragazza Sta mentendo Quando mi sono svenato Dieci minuti dopo Eravamo rimasti Soltanto io al cadavere Il mio segnitore Sembrava essere scomparso Ma che Profittando del momento Sono riuscito a fuggire E a chiamare i soccorsi Il resto della storia Lo conosce Sta mentendo parzialmente Però Perché non è rimasta fissa Lei va parlami Del suo rapporto con Alicia Si beve acqua Non tè troppi zuccheri E vabbè Ho bevuto l'acqua prima Adesso l'acqua fredda Non ce l'avevo Ho bevuto il tè Fanculo gli zuccheri Alicia è una ragazza Molto giovane ed ingenua Fin troppo ingenua Aveva l'anima dell'artista Diceva di voler studiare in regia Ma non aveva i soldi Per potersi permettere Una scuola qui A Nova Polemos Andava sempre in giro A filmare i luoghi E la gente con una vecchia telecamera Almeno 50 anni fa Sperando di farsi un nome E diventare qualcuno Ma la ragazza con un ideale del genere Aveva deciso di frequentare Il capo delle bande nere La carne è debole L'ambizione Non nasce mai Dalla purezza Lei era una bella ragazza E io potevo dargli Quello che voleva Il resto Può immaginarselo C'è qualcosa che non va Detective Ma tanto un particolare Molto interessante Mentre stava parlando Cioè Mi ha parlato del caso Del suo partito E della vittima Eppure Durante i suoi discorsi È sempre evitato Di mettere in mezzo Uno degli attori Più importanti Di tutte Questa immensa farsa E non credo proprio Che sia un caso Non capisco Di cosa stia parlando La persona di cui Ha evitato di parlare È Allora E della sorella Di cosa No Mi scrivo perché C'era Un marine chat Sono design Lo sceneggiatore Il gioco Spera Buon diablo Ah ma abbiamo Tutto lo staff Stasera Per ora Mi sta piacendo tantissimo Allora La giornata Non è delle migliori Per farlo Nel senso Con questo caldo Leggere così tanto Caldo Aria condizionata E lettura Non sono miei amici Però Per il momento È uno stilosissimo Due vabbè A me questo genere Di giochi piace Tre la trama E Ci sta per ora Poi vabbè Sei meglio di me Sono ancora all'inizio Praticamente Col Prime Addirittura Thank you so much Benvenuto Grazie Grazie Il risopporto Allora Credo che sia lei Purtroppo Mi impappino Con le facce Ma sì Lei è Abigail Sì Sì Secondo me Ha tralasciato Abigail La stessa persona Che sta testimoniando Contro di lei Abigail Cosa c'entra lei In tutto questo Dovrebbe Dirmelo Lei Non io Cosa sta Tentando Insinuare Abigail Sta testimoniando Contro di me Perché diavolo Dovrei difenderla Vedete ragazzi Cioè Ursa Per aver disegnato Una faccia così Per forza È stata chiusa In uno stanzino Non è che dico cose A caso io Ormai Le leggo le persone La mia vita È essere in pericolo Non la sua Quella di prima Già era creepy Faceva tanto Witch Doctor Però questa qui È creepy creepy Proprio come Sospettavo Baker sta mentendo E la maschera Lo dimostra Prima di tornare Oltrelarmente A scoprire la verità Vorrò bisogno Di altre prove Su Abigail Ed Alistia E comunque Meno Cosa Meno brutta Della mia emote Ah Prove che potrebbe Avrere la sua moglie Forse vorrei Anche tornare A giornare Era Ok Prove le mie Signor azioni Signor Baker Probabilmente Mi sono spinto Troppo oltre Cos'è questa Umiltà improvvisa Signor Foley Forse sto scherzando Prima che magari Non mi conosci Sono Sono scemo così Ciao Genie Buonasera E benvenido Buongiorno Si bravo Potrò trovarmi qui Va bene Faccia creepy Cerchi se non Mentreci troppo Scoprire la verità O qualsiasi cosa Sia in grado Di scogionarmi Smaschegnare Baker Aver bisogno Di altre prove Potrò tenere Mi signor Sbloccato Ok Allora Possiamo Tornare A Treasury Park Andare a casa Di Baker Alla Fall Investigation Commissariato E qua dove Siamo ora Sono sviluppatore Che indesina Grafiche Designer Del gioco E vabbè Allora Tutti bravissimi Se ti chiami Sam Sei anche Sei più bravo Di tutti Sicuramente Quello che hai fatto Tu è meglio Di quello Degli altri Se il nick Richiama il tuo nome Cioè Sicuramente Già solo per il nome Hai messo Quel tocco In più Il valore aggiunto Ecco Così A caso Me ne sono certo Allora Io direi di tornare Da Era È un po' Che non andiamo A parlare con Era Lo richiama Sì Vedi Vedi Regà Cioè Non ti senti Osservato Che ho gli sviluppatori Del gioco Sì Sì Ti immagini Adesso magari Loro sono tutti In call Su Discord Che dicono Guarda sto cazzone Che invece che Fare vedere Il nostro gioco Bellissimo Fa il cazzone È proprio un cazzone Potevamo darlo Un altro La chiave Certo Non mi sta in testa Johnny Che devo fare Il serio Non mi sta in testa No per ora Allora Una sola cosa Credo che il menu A volte sia buggato Cioè Clicco Ma non prende Devo chiudere Riaprire il menu E rischiacciare Poi non so se l'ho fatto Cioè Mi è successo due volte all'inizio Ora ci Rifaccio caso Quando devo usare un oggetto Oh Mordred Sei tornato Spero non ti dispiace Ti ho messo un po' di musica Ma va Figurati Ricordo questa canzone L'hai composta Quando abbiamo aperto lo studio Sì La composta Spera di non dimenticare L'emozione Che provai Quando mi resi conto Di aver creato qualcosa di mio E Nia La regala pure a Sam Niente Tutto il team al completo Thank you Thank you No Misto Ma che cazzo di gioco Stai guardando È una donna È una cosa che sappiamo Ah ok 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 Quindi non Cioè Non sono scemo io Ok ok E ora che rischiamo di perdere tutto Il ricordo di quei momenti È ora che E ora che rischiamo di perdere tutto Il ricordo di quei momenti È quello che mi rimane E Giangi con i 23 mesi Welcome back Quando ripenso a quei giorni Mi rendo conto che Siamo davvero diventati mostri Che avevamo promesso di distruggere Era Va tutto bene? Sì è solo che Francamente non riesco più a capirti Mordred Hai citato ad occhi chiusi il lavoro Alleandoti con coloro Che hanno rovinato la mia vita E quella di migliaia di altre persone Ma come non aveva gli occhi Sì che aveva gli occhi Aveva gli occhi piccoli Ma cazzo ma Niente Misto Ti ignoro È una donna Lo dicevo anche nei dialoghi È tutto solo per soldi Per salvare il fantasma Nella nostra agenzia Non fare la bambina Era Non possiamo nutrirci Di sogni e di ideali Pensaci bene Mordred Riusciresti davvero a convivere Con l'idea di aver scatenato Quelle bestie? Se davvero vinceranno loro Chiuderemo la storia Con Pandora E poi ce ne andremo Solo io e te Il resto la gente Può semplicemente andarsene All'inferno Sei l'unica persona Di cui posso davvero fidarmi E per questo Ho bisogno che Tu sia sicuro Di volermi seguire Fino alla fine Dici di aver bisogno di me Eppure continua a trattarmi Come una ragazzina Che non è in grado Di affrontare la realtà Questo credo che me l'abbia detto Perché prima L'ho chiuso il telefono Di cosa stai parlando? Mi riferisco a cose Cioè Cioè Mi riferisco a quando hai deciso Di trattarmi fuori All'indagine Tra i jury park Come il ragazzo Che sta giocando al gioco Ha detto dieci secondi fa L'ho fatto solo per il tuo bene E lo sai No te pago Dormi bene Lo so ma Smetti di trattarmi Come una bambina Sono molto più forte Di quanto pensi E fu in quel momento Che era No Credimi Lo so bene E in ogni caso Ti prego Quando arriverà il momento Il momento Valuta attentamente Se il nostro futuro Valga più della vita E delle speranze Di migliaia di persone Eeeh Hai rotto i coglioni Angioletto Non scherzo Quando dico Che la nostra decisione Potrebbe davvero sconvolgere Tutta la società Innova Polemos Ora che dici Aggiornami su tutto quello Che ne dici Aggiornami su tutto quello Che è successo Siediti Ci vorrà un po' Vegente E così anche Baker Sta mentendo Già Ho bisogno di altre prove Per poterlo spingere A dirmi che sono Come sono andate Realmente le cose Bene Se hai bisogno di aiuto Sono qui per te Ehm A meno che Torno e dalle serie Trovi bloccate Bisogno di aiuto Ok La maschera di Baker Quale motivo Baker Dovrebbe evitare Di dirci la verità Soprattutto Dopotutto È stato lui Ad ingaggiarci Non ne sono ancora sicuro Ma è probabile Che stia nascondendo qualcosa Riguardo ad Abigail And Baker Potrebbe essere La soluzione A gran parte Di nostri problemi Aspetta And Baker Chi cazzo è La La moglie Sì Ah no È la sorella Ma non è Abigail La sorella Dopotutto È la sorella La testimono Ah sì È la sorella La testimono Oculare Quindi la moglie Sì La sorella La testimono Oculare Quindi la moglie Ah E la moglie Ma vaffanculo Ok La moglie Sì 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 Hai già provato A parlare con lei? Not yet Per quanto riguarda La questione Quanto Non credi Che potremmo Aver rovinato Per sempre La carriera Che frega Ma stanno La devi Tanto è stronza Quella Frega è l'ultimo Dei nostri problemi Al momento Quanto è una questione Che non riusciremo Mai a risolvere Senza il suo aiuto Capisco Spero solo Che una cosa Non abbia ripercussione Ma chi se ne frega È una stronza Frega Ha detto Che voleva Farci arrostire Allora For investigation Commissariato Treasury Park Casa di Baker Andiamo a parlare Con la moglie Che se l'ha disegnata Orsa Sono sicuro Che avrà due occhi Così come tutte le altre Donne del gioco Wow Immaginavo che Baker Piacesse vivere nel lusso Ma ancora una volta Il mio megalomene preferito È riuscito a sorprendermi E invece Ni E invece Ni Non ha gli occhi enormi Ma ha quel Non so che Di mistico Ti frusto Chi l'ha fatta entrare In casa mia? Oh Lei deve essere Ann Baker La sua domestica Mi ha fatto entrare Io sono Morded Foley E No E ho miscliccato Shit E sono venuto qui Per investigare Non serve che si presenti Il suo modo Di vestire Sciatto E questa costante Puzza di tabacco Effettivamente C'è una sigaretta Accesa ragazzi Da due ore Mi fanno capire Che lei è uno E tanti che vuole Intervistarvi Intervistarmi Sperando di infangare Ulteriormente Il nome di mio marito Voi giornalisti Siete soltanto I parassiti Che si nutrono Delle sofferenze Di coloro Che hanno creato Un impero Col sudore Della propria fronte Ma è una stronza Non me la posso Fare amica Cioè Lei mi odia Non sono maledetto giornalista Sono detective Che è stato ingaggiato Da suo marito Uh Mio marito Ha contattato Un detective E perché Non ne sapevo nulla Come sospettavo Baker Ne ha nascosto tutto L'hanno tenuta all'oscuro Per proteggerla Signorina Signora Però sono qui Perché il suo aiuto Potrebbe rivelarsi Indispensabile E come dovrei fare Per aiutarla Si limite A rispondere A qualche domanda Per ora Abigail Sherman Se crei Che suo marito Si è innocente Perché Abigail Sta testimoniando Contro di lui Grazie di domande Sono Probabilmente Qualcuno L'avrà fatta Arrivare lì Con l'inganno Sapendo del rapporto Che c'era Tra mia sorella E Alicia Le due ragazze Erano molto amiche Molto più Di quanto si possa immaginare Probabilmente Alicia Era l'unica Ancora in grado Di far sorridere Abigail La ultima E cosa mi sta a dire Su Alicia Oh quel povero Angelo Era molto amica Di Abigail Mia sorella Erano entrambi Delle artiste Sognavano Ligerare i film Insieme Hai capito Le furbette Mi hanno spesso A casa notte Era probabilmente L'unica persona In grado di trarre Del sud di morale La mia amata Abigail Il mio buon Richard Se n'era accorto E ha cominciato A sopportare I lavori Da tenere Alicia Sperando Il nostro Futuro Radioso Ovviamente Qualche Mala lingua Afferma Che avesse Un rapporto Sentimentale Con mio marito Ma sono soltanto Gelose Dalla sua Bontà D'altronte Non si può Pretendere Che Besti simili Siano in grado Di concepire Atti di altruismo Così elevati Già Barconi cinque mesi Welcome back E infatti Qualche maledetto Verme L'ha uccisa E ora Il mio Povero caro È costretto A dormire In mezzo A tutti Quei maledetti Lupi Nessuna maschera Sul suo volto Questa donna Crede davvero Che suo marito Le sia sempre Stato fedele Grazie A lavaggio Il cervello L'hanno fatto Per crearle Una visione Così Della realtà Così distorta Il mio amato Richard È sempre stato Un uomo Fuori dal suo tempo Forte Coraggioso E altruista Al contrario Di tutte queste Servite Della banda nera Lui ha sempre Optato per la pace E l'uguaglianza Lottando per i diritti Di tutti i cittadini La cosa più patetica È che gran parte Della polizia Sembra essersi schierata Contro di lui Pensa che siano stati I suoi colleghi Di incastrarlo Ovviamente Perché altri potrebbero Voler ostacolare Una Chi altri potrebbe Voler ostacolare Un uomo tanto buono Bevo No te fracca Grazie ancora Mi sto sciogliendo Ragazzi C'è C'ho l'umidità A 9000 Sono completamente Bagnato Ragazzi Il condizionatore Acceso E sono completamente Bagnato Shit E ne cerca Di prove Potete aiutare Bagnato Bisogna Di poter Investigare Liberamente In casa Sua Non ci vorrà Molto Mi lasci Assolutamente No Mio marito Innocente Lei vuole Soltanto Infrangere Il suo nome Torturando La mia Povera Anima L'ammetta Sono stati Quegli animali Di Pierce E Finley A mandarla Da me Chi cazzo Sono E Di chi Siano Quei due Signora Ciao Simo Mette la testa Nel frigo Come rezzonico Sono i maggiori Versari Di mio marito Quegli ipocriti Mi inlantano La pace Ma sognano Di prendere Il suo posto Sto solo Perdendo tempo Devo trovare Modo di convincere A lasciarmi Indagare A casa Sua E la potrebbe Avere Qualche idea A riguardo E' sempre Stata Molto Più brava di me A convincere Le persone Ok Andiamo Da era Bella Nova No 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 Non è il gioco È che stasera C'è C'è veramente Un'umidità Della madonna E quando c'è Umidità Cannone Il problema Che se metto Deumidificatore Vero che Assomiglia Un po' A Giorgione Nova Se metto Deumidificatore Diventa Freddissimo Guarda Provo a metterlo Però Magari Provo a Fare andare Deumidificatore Un paio di minuti Datemi Una second Umidità Prima nemica Da sempre Esatto Qualche vada Metto Deumidificatore Apro un po' La finestra Così Evito Di morire Il gioco Ragazzi Si chiama Dry Droning Deve ancora uscire È fatto da un team Interamente italiano Purtroppo non lo vedete Come titolo Del Dello stream Perché ancora Non c'è su Twitch Il titolo Da te ci sono 18 gradi Alla madonna Esatto E wish listabile Su steam E gog Fammi indovinare Anna non è Anna non è l'angelo Che ti immaginavi Quella donna Non vuole che io Tocchi niente In quella maledetta Reggia Forse Volevi spingere Su le sue parole Magari mostrandole Qualcosa inerente Al marito Alle bande nere Parereva sulle paure Delle persone La mia specialità Andiamo allora Cazzo di paure Sul tradimento Pure la brezzolina Che bella vita Nick Allora E invece Credo che io debba usare Qualche oggetto Volantino Delle bande nere Panchina Stai cercando di farmi Nervosire Per caso Se devi emozionare qualcosa Lo faccio con criterio Non ti incazzare Ho sbagliato Per la prima volta Dopo due ore Ho sbagliato Amici Potete dire che Anch'io A volte Sbaglio In realtà Non l'ho sbagliato Solo mi scliccato Perché non sbaglio Mi sclicco Volantino Progambio Vondi Baker Solvento Sono presidente Al rispetto La famiglia Ok Go Mi ha salto Un'emoto Ma forse Vado appena a tentare Riconosci questo volantino? Certo che lo riconosco E quello utilizzato Per la propaganda Del partito di Richard Ciao Lisi Esattamente Sorrito Si trovano parole Altissonanti Come rispetto Onore Unione Orgoglio Tuttavia Mi pare di capire Che molti dei membri Delle bande nere Non seguono minimamente Questi concetti Lei ha affermato più volte Che suo marito Ha molti nemici All'interno del partito Addirittura Nel corpo di polizia E quindi mi dica Signorina Ho mai pensato Ho mai pensato La possibilità Che quelle stesse persone Possano Voler a far del mare Anche lei? Punto di domanda Cosa? Ah non vogliono davvero Uccidere anche me Non posso Scartare questa ipotesi Se non mi lascerà Indagare liberamente Anche nella sua vita Anche la sua vita Sarà in pericolo Questo lo capisce Vero? Forse Forse ha ragione D'accordo Le concedo Carta bianca Ma la prego Non lasci che quelle persone Mi facciano del male Questa povera donna È l'ombra di se stessa Forse dovrei dire la verità Riguardo al marito O forse dovrei semplicemente Tranquillizzarla Evitando che faccia gesti Troppo azzardati D'accordo Ma prima dovrebbe sapere che Ciao Randolone Che vita di merda Ehm Nessuno saprà niente Bella Green con i cinque Su marino Mi hanno da dire Che non vede l'ora Di poterla riabbracciare Quello sciocco Continua a pensare a me Nonostante la nostra situazione Sì Grazie detective Lei è davvero un uomo Di grande cuore Povera donna Condannata a vivere Una prigione di cristallo Fatta di falsità E sentimenti artificiali Attendo quando arriverai Alle scelte veramente toste Oh shit Probabilmente la verità L'avrebbe fatto troppo male Anche se forse L'avrebbe aiutato A orientarsi meglio In questo incubo Bella Maci Quei quattordici Lovio Lovio Ciao Dopi Ora sarà meglio Indagare Ok Non so neanche immaginare Quanto abbiano Pagato per avere Qualcosi simile Se lo riclicco Mi dice la stessa roba Sì Una donna impalata Una donna impalata su un albero Ma Non era colpa mia Cioè Story related Adesso ho visto davvero tutto Ok niente Allora Sarà nei cassetti Una foto Una foto rovesciata Alessia E Abigail Ok Quelle due Sembrano essere davvero amiche Allora perché la foto Era messa in quella posizione Non ci farebbe Dopo che avevo detto Dopo che avevo detto che ero tutto sudato E tu hai fatto una delle tue sciocche battute Sul fatto che io fossi tutto bagnato Come è che Il computer portante Ancora funziona What a hell Ah era Era Winsos Parese gente Particolamente interessante A posto di la concedenza Di solito Del computer Di Abigail Visto l'enorme Quantitativo Di ca Di cartelle Un attimo E queste cosa sono Ci sono decine Di mail Criptate Inviate Pochi giorni prima Nella sera dell'omicidio Verso un indirizzo Denominato Eh Fatti il pollo Per quel poco che conosco Del greco Credo che si significhi Fatti il pollo O qualcosa del genere Tartaro E questo è il giocone Che vi hai dato A me di Nitalo Yes indeed Bella shorty Come andiamo L'ho fatto Abigail A criptare Inviare mail simili Senza che il sistema Di sicurezza informatico Lo bloccasse Perché giustamente Loro avevano C'hanno quella cosa lì Che non c'è La La libera espressione Su internet Eccetera eccetera Quindi sarà vietato E anche Direttamente Interessato Ma appena avrò chiuso Il discorso con Baker Vecchio chip dati Ok Ce lo siamo rubati malamente Ciao Barba Fatto molto meno Di quanto sperassi Immagino che questa posta Si è già stato ripulito Prima del mio arrivo Quindi avere abbastanza prove Per poter smascherare Lo squadro del teatrino Di Baker E ma i cassetti Guarda i cassetti Please Niente di che Vediamo Simili danni Non pensavo Non pensavo Se sono ancora Un altro Di snob Di nuova Polemos Ok Ok Andiamo a parlare Con Era No Andiamo dritti Da lui Tutto bene Chris Hello Johnny Guarda qua Cos'ho Eh What now Bitch Sono Piuttosto impegnato Detective Potrebbe evitare Di farmi perdere Ho sbagliato Ho miscliccato ancora Allora la foto No non credo Che sia la foto E come faccio A parlare di dei Ah Vaffanculo Sir Baker È arrivato il momento Che lei mi dica La verità Su Abigail Sulla sera In cui è stata uccisa Alicia Ne abbiamo già parlato Non ho visto Abigail Quella sera Non ho già dato La mia versione Nei fatti riguardo All'omicidio Mente Mente Ci sono What Modalità Living Nightmare Tanto la modalità Living Nightmare Dovrei smascherare Le menzogne Di coloro Con cui stai parlando Presentando Prove o fatti raccolte Durante le tue indagini Se presenterai le prove Sbagliate per tre volte Durante L'interno di lago Sarà game over Medita bene Prima di sceglierle Se non credi Avere la prova adatta Può uscire Della modalità Selezionando X E' una schermata E' una sezione Prove Beh La tescio con i due mesi Allora qui Visto che tanto loro Non lo sanno Fotteremo quelli Che hanno fatto il gioco E noi premeremo la X Guarda eh Lei mi sta spudoratamente Mentendo Mio caro signor Baker Ma partiamo dalle basi Come fa Dov'è la X Mi hanno fottuto loro E' un bait Quando mi ha parlato la vittima Non mi ha mai spiegato Come avete fatto a conoscervi Ciao Abby Grazie ancora e buonanotte Mi contattò con la scusa Di una banale intervista Alicia non ha mai avuto Nessun tipo di rapporto Con la mia famiglia Ah davvero Se era così sconosciuta La famiglia Come riesce a spiegarmi Questa prova Stam Allora Noi pigiamo la X What? Non è che già Si rimette subito al lavoro Ok Possiamo restartarlo Credo Ma noi Prima di restartarlo Facciamo il save Delle pussy Yes In barba Secondo me Sono già andati a letto Non lo sapranno mai Partiamo dalle basi L'avete fatto a conoscervi Ok Mi contattavo con la scusa Di una banale intervista Di un rapporto Con la mia famiglia Se era così sconosciuta La mia famiglia Come riesce a spiegarmi Questa prova La foto Ma tanto regà Non sbaglio È solo per voi Che volete fare le Run multiple Vi fate vari salvataggi Vi vedete tutti i vari finali Del gioco Perché è tipo Infiniti finali Credo Essendo che La storia la plasmi tu Se non vi sono affietate Per essere sconosciute Non le pare Signor Baker Ma sti occhi Mi mettono ansia Cazzo ma i significati Delle maschere Maggio come fosse contenta Abigail Quando ho scoperto Che la sua cara amica Aveva rapporti intimi Con il marito Di sua sorella Minchia ragazzi Avevo preso Prima ancora di tutto E se veniva spesso A casa nostra Era molto amica Di Abigail Che stavano cercando Di fare una sorta Di documentario Io facevo L'orso La sera si avvicinava A me con la scusa Di volermi far vedere Il suo lavoro E Beh Da quel giorno Abigail Ha iniziato ad odiarmi In maniera ancora più accesa Il gioco cambia completamente A seconda delle scelte Il capitolo finale È completamente diverso A seconda di come è giocato Che figo Infatti il suo intervento Come testimone È una minimamente sorpresa Fin dall'inizio Si desiderava Umiliarmi C'è riuscito Ma non riesco comunque A capire Dove voglio arrivare Con le sue farneticazioni Passo per volta Torniamo a parlare Del suo scontro Con il killer È affermato Che prima di svenire Ha sentito un urlo Di ragazza Esattamente Cosa c'è di strano Sino avrebbe potuto Uccidere in qualsiasi momento Invece ha preferito Scappare Senza una ragione apparente Tutto questo Sarebbe assurdo A meno che lui Fosse già fuggito prima Non fosse Abigail Non avesse riconosciuto La voce Allora Allora Qui consiglio Lo dico i dev Mettete che si legge La cosa di prima Tutta la frase di prima Oppure il tasto Per rileggerla In modo che Mentre che ci pensi Hai modo di rileggerlo Forse è già fuggito Prima No Non avesse riconosciuto La voce Non fosse Abigail Secondo me È semplicemente Il tastino Che ti rimanda Alla sequenza di prima Perché credo Che sia più complicato Mettere tutta la scritta Qui Se invece metti Un tastino Che mi rimanda All'inizio Di quella conversazione Anche che magari Mi dice cose Che non mi interessano Quelle di schippo Non fosse Abigail Comunque Che infatti Secondo me Non era lei Mettete che non sta parlando Se serio Abigail è l'assassina E dove sono le prove Che lo dimostrano Ah no È sbagliato Andiamo a prendere I suoi scontri Con il killer Lei ha affermato Che prima di svenire Ha sentito un urlo Di ragazza Esattamente Cosa c'è di strano Ha sentito un urlo Di ragazza L'assassina Avrebbe potuto uccidere In quel sito Niente Invece ha preferito Scappare Senza la ragione Forse è già fuggito Prima Non avesse riconosciuto La voce Di chi Essere riconosciuto Una persona Che stava urlando La voce Quella persona Era quella di Di Abigail Se mi fai una foto Ti metti sopravvito Così Con questa pose Chissà com'è Il signore Come è il game over Lo scopriremo ora Allora No E abbi Per forza Dai E abbi Per forza Giusto Cosa La sorrezione vale più di mille parole Maledizione D'accordo Ah vedi Che figa sta cosa Più tu azzecchi le cose Più la maschera Si Deteriora Perché vuol dire Che stai Risolvendo il mistero Maledizione D'accordo Non c'è mai stata Nessuna voce Nessuno svenimento Sgamed Bella Davy Durante la lotta Ho afferrato il mio taser E l'ho paralizzato Temporalmente Riuscendo a fuggire A fuggire Non l'ho mai detto nessuno Perché quegli aggeggi Sono illegali a Nova Polemos Avrei riscatto Di incarcerazione E cambia la musica Sì Andiamo Può fare meglio di così Le sue bugie Stanno perdendo di mordente E non ha mai utilizzato Un taser contro l'assassino E questa prova Lo dimostra Che prova ho Che non ha mai usato Un taser No Sta roba non può essere E perché il guanto Il guanto Il guanto fa capire Solo che lui Ha preso un colpo Perché aveva la mano rovinata Però Non avrebbe potuto Usare l'altra mano Scusami Secondo me è questa Qui si afferma Che lei ha lottato Con il suo seditore Tenendolo fermo Con la mano sinistra Perché l'altra mano Era stata gravemente ferita Poco prima Quindi usare Qualsiasi tipo di arma Sarebbe stato Totalmente impossibile Ragà ma Cioè Se avete qualcosa Eccetera Voi mi date dei soldi O scopro quello che c'è da scoprire È un problema Io non Queste sono dimostrazioni Di panico Non fanno altro Che avvalorare ulteriormente La mia tesi Signor Baker Signor Baker Lei non solo sta perdendo La maschera Ma sta perdendo pure i vestiti Signor Baker Lei a breve Sarà in mutande Dopo che lei è stato scagliato Contro la panchina Abigail l'ha urlato Correndo verso di voi Dissoniendo l'attenzione All'assassino E permettendone di scappare Quella ragazza Le ha salvato la vita Non le si può nascondere Proprio nulla Non è vero detective Oh Signor Baker Amazon Prime È vero L'assassino Pareva conoscerla Sono messo a parlare sottovoce Ma lei sembra assolutamente Errorizzata Nella sua presenza Subito dopo Sono corso via Come un codardo Lasciandola nelle grinfie Di quel mostro Non so come facesse a conoscerla Ma sono sicuro Che lei stia testimoniando Contro di me Perché il killer La sta ricattando Facendo così Sai dirmi come mai Vado a dormire Sul fianco adesso Tutte le mattine Mi sveglio Sul fianco sinistro Cazzo ne so Nuva Non mi chiamo psicologo Quindi penso che Questa è una situazione Sino al kinder Comunque nuva Un perché c'è Un perché c'è Ma Non te lo dirò ora Quindi penso che Questa è una situazione Il kinder Vi abbia pronunciato In entrambi Invita solo per poter Sfruttare Abigail in tribunale Ne sono quasi certo Quindi Vi siete rivolti Alla nostra agenzia Perché speravate Che io arrestassi Una persona sbagliata Salvando la sua vita E quella di Abigail Maledizione Quella ragazza È stata manovrata Dal killer Devo andare a parlare Subito con lei Momento Foli Ci tengo a precisare Che se dovesse succedere Qualcosa ad Abigail Lei è un uomo morto Yes L'autopana In realtà Dei fatti Pare essere Molto più complessa Del previsto Devo parlare Con Abigail Ed in fretta Especialmente Riguardo a me Che ho trovato A casa sua Ok Forse ancora Con Freya Probabilmente Dovrei cercare lei E ma Qui quindi I daltoni Ci vengono Dal Colorado Bannatelo Sono quasi Il punto clou No spoiler Per la prima volta Sono felice Di vederti Freya Ancora tu Chiediamolo Vuoi da me Dov'è Abby Devo parlare Subito con lei Ma forse Scusarti Per essere Scappato In maniera Patitica Dopo averla vista Finiscere Con l'idiazio Ed ascoltami Cosa Stai scherzando Vero No Abigail Conoscere Assessine Probabilmente Sta venendo Ricattata Hai parlato Anche di alcune Mail Giusto Hai per caso I file Con te Sì Ma pensi Di essere In grado Di decriptarle Sappiamo Persino Quante volte I cittadini Vanno al cesso Ogni giorno Figurati Se un paio Di stupide Mail Possono Essere Un problema Bene Allora Mi affido A te Se realmente Le hai salvate qui sopra Non devi assolutamente Mostrare Questa prova Ai tuoi colleghi Nemmeno a quelli Di cui ti fidi Di più Visto il loro odio Verso Baker Potrebbero farle sparire E non riusciremo mai A scoprire la verità Non mi fido di te Ma se può farti sentire meglio Mi fido ancora meno Dei miei colleghi Chiamerò Abigail La manderò al tuo ufficio Cerca solo di non farmi pentire La mia decisione Se scopri qualcosa Chiamami E cerca di non fare cose avventate Mi dispiace Ma non accetto Consiglio a un criminale A presto Folly Non so immaginare Cosa farà quella donna Quando scoprirà Che ho consigliato Il guanto David No Ancora non lo sa Infatti Mi sembrava Troppo Friendly Mi sembrava Un pelo troppo Friendly Lei E ho detto Ma cazzo L'ho anche infamata Col guanto E invece In caso Non mi resta Di tornare In un ufficio Però per sempre Fino a questa farsa Ok Abbiamo risolto il caso Ragazzi Abbiamo finito il gioco Poggers Non è vero Comunque Estendo la cosa Anche gli sviluppatori Di dry droning L'avevo già provato Con quelli di Wardrobe Se per caso Un giorno Voleste fare un gioco Con il parlato E vi servisse uno Che vuole provare A dare la voce A un personaggio Ne conosco uno È similissimo a me Non sono io Eh Però È uguale a me Vi do il contatto In caso Anzi Ce l'avete già La mail Ah Frey Andate a venire Qui urgentemente Potreste sapere Cosa diavolo Volete da me Buonasera Anche lei Signorina Abigail Abigail Comunque Fra tutti È la più stilosa Visto che hai saltato Inconvenevoli Andrò anch'io Dritto al punto So che hai salvato Baker dal vero assassino E so anche Del tuo rapporto Con Alicia E delle mail Criptate Sul suo computer Parlo di misto Ma ovvio Cosa? L'ultimo tassello Manca solo Un ultimo Piccolo tassello Stavolta Non ho tempo Per cercare prove Dovrò Affidarmi All'istinto Per smascherarla Oh shit La verità Sul Pandoro E noi procediamo Con ordine Baker ha ammesso Che l'hai salvato La sera Dall'omicidio È il momento Dell'istinto Regà Non posso sbagliare Io non ti sappiamo Che l'assassino Ti ha visto in faccia Eppure tu sei ancora qui Pronta a testimonare Contro il nostro cliente Puffo Che ti abbiano lasciato Andare senza problemi Dopo che l'ha interrotto Mentre stava cercando Di uccidere Baker Non è vero? Vuoi forse insinuare Che io conosco l'assassino? Ti sveglia ragazzina Oh sì Certo che conosco L'assassino È Richard Baker Il verme con cui vivo da anni Stronzate Stai testimoniando Contro Baker Perché? Il vero assassino Ti sta minacciando Tu sei il vero assassino Vuoi che tua sorella Si liberi di lui Il vero assassino Ti sta minacciando Minacciando Le sembra che mi stiamo Comportando La ragazza minacciata Da un killer senza pietà Puoi cercare Di nasconderci quanto vuoi E la maschera A parlare al posto tuo Ti prego Abigain Aiutaci a catturare Quell'uomo Se non vuoi fidarti Di noi Almeno fidati di Freya Non vuoi vendicare La morte della tua amica Desideri davvero Che quel pazzo Continua ad uccidere? Tutto cominciò mesi fa La prima volta Che l'assassino Si mise in contatto Con me e Alicia Si spacciò Per un famoso regista Interessato ai nostri lavori Sembrava L'unica persona In grado Di capire i nostri bisogni E come noi Odiamo le bande nere E lo stato attuale Della città Ci contattava Solo tramite alcuni Circuiti mail Criptati In modo che la polizia Non potesse vedere Il materiale Che ci scambiavamo Che tipo di materiale? Di tutto Ma prevalentemente Erano video e foto Ma in realtà Lui Sembrava particolarmente Interessato ai video Di Alicia Cosa? Perché proprio i suoi? Perché Alicia Aveva due occhi Probabilmente era perché Quasi tutti Viene avanti a Baker Lei lo stava frequentando Da tempo Ma in realtà Non ne sapevano nulla Aspetta un momento Poco fa Ho affermato Che quell'uomo Pareva essere L'unica persona In grado di capire I vostri bisogni O mi sbaglio? No Non si sbaglia Mi pare anche di capire Che detesti Baker L'odio con tutto il cuore Quell'uomo ha rovinato La mia vita E quelli dei cittadini Di questo paese Nonostante questo Gli permetti di avere Rapporti intimi Con la tua migliore amica? Abbastanza assurdo Non trovi? Io non Io non sapevo Nel suo rapporto Con Baker Lo sapevi come E questo perché Sei stata tua a convincerla Volevi farlo Diversare dalla tua sorella Avevi anche tu Rapporti con Baker Questo è davvero troppo Me ne vado No Questa era sbagliata E vabbè Era lì Non potevo Non cliccarla Eh perdone Mi ho esagerato Ok Sera Sam Domani comincio a lavorare Per la stagione estiva E sarò presente La sera sul Tardi perché Vorrei anche io Intraprendere La tua stessa strada Mi dispiace Tantissimo Non poterti seguire A inizio live Sei come un padre Per me Vi voglio bene Cominciare a lavorare La stagione estiva Non ho capito Barba Che strada Non ho capito E ora chi lo dice Anche se come un padre L'ho più barba comunque Ma non ho capito La cosa della strada Nel senso che Voi iniziare a fare lo stream Chiaramente Quella sbagliata Anche lui Che doppia i film porno Veramente Niente Guarda eh Bella Ci becca Niente Anche lui A vendere la droga Incredibile Sapete come questo Perché Avevi anche tu Rapport No Fare un divorzio Della tua sorella Può essere No Non credo che lei L'abbia No Dai Per me Certo Il modo giusto Per vendicarmi Non le pare Cazzo Niente Eh Non posso più Sbagliare Perché è stato Tu a convincerla Va bene Isato il rapporto di Alicia Per raccogliere Soldi con il ricatto In modo da poter Dare vita a vostri sogni Distruggendo al contempo La sua reputazione E la serie dell'omicidio Tu eri presente Fin dall'inizio Perché volevi Incontrare Pandora Uccidere Baker Riprendere l'incontro Fra Alicia e Baker Dimmi che non ho sbagliato E distruggia la reputazione Una volta per tutte Probabilmente ha parlato Pandora al vostro piano E lui ha agito Per uccidere la ragazza Hai aspettato la sera L'incontro E ha usato il rapporto Dalla tua amica e Baker Per ricreare alla perfezione Il mito di Apollo e Daphne Bella Simo Lei era una bellissima artista La ninfa perfetta Mentre Baker Era il presuntuoso Dio del sole Che credeva di poter Controllare il mondo E l'amore Con uno schiacco di dita Nella visione di Pandora L'unico modo Per Alicia Di fuggire Dalle grinfie di Baker Era quello Di infonderla All'albero Trasformandola Nel mito Era Non smetterai mai Di stupirmi Noi volevamo Solo dare vita Ai nostri sogni Yes Alicia Se solo fossi riuscita Ad arrivare Ad arrivare prima Che senso Quella sera Ho provato a contattarla Per ore Prima dell'appuntamento Ma non ha mai risposto Al telefono Sono preoccupata Per lei E quindi sono Corsa subito Al parco Ma quando sono arrivata Lei era già stata uccisa E l'assassino Era lei ad aspettarmi Nascosto dietro L'albero di Alicia Era un uomo Alton Indossava un grosso Cappotto nero Robusto E una maschera Delle sembianze Di lupo Un uomo Perché una maschera Da lupo Vero Luca Non volevo essere specifico Per non farmi pubblicità E non si capiva Barba E droppate sto followone A Barba Non lo so Ma appena mi ha visto E corso verso di me Mi ha afferrato In bocca al lupo Barba Mi ha afferrato il braccio E mi ha trascinato Davanti al corpo di Alicia A questo punto Si è avvicinato Al mio orecchio E mi ha detto che Se non avessi fatto il pollo Eh Se non avessi filmato L'arrivo di Baker Mi avrebbe fatto fare La stessa fine di Alicia Oddio Stai scherzando Vero? Bella calzo Con i sei mesi Quale pazzo suicida Si sarebbe filmare Si lasciarebbe filmare Mentre assale qualcuno Non ne idea Ma in quel momento Ero davvero terrorizzata Quindi mi sono nascosta Di vicino E ho acceso la telecamera Aspettando Baker Dopo che il killer Ha salito quel bastardo Quasi distinto Ho cominciato a urlare Avvicinandomi a loro E distruggendo la mia copertura Non so perché l'ho fatto In quel momento Sembrava quasi Che il mio corpo Si muovesse da solo Mentre correremo Verso di loro Un assassino Si avvicinato Colpendomi al volto Strappandomi Una videocamera Di mano Dando la possibilità A Baker Di scappare Dopo aver visto fuggire Ho cominciato a ridere In una maniera Quasi spaventosa Poi mi ha ferrato I capelli E mi ha costretto A dire ad Alicia Che sarebbe andato Tutto bene Mentre raccarezzavo Il volto Con il dorso Dalla mano Tutto questo Mentre lui mi filmava Con la nostra videocamera Poco dopo Mi ha lasciato andare Dicendomi che presto Avrei avuto Le sue notizie Dopo essere tornato a casa Mi ha contattato Di nuovo Via mail Chiedendomi di testimoniare Inviandomi in allegato Il video Queste mani A poter preservare Quello che lui ha definito Un piacevole ricordo Abigail Mi dispiace così tanto Aspetta un attimo Tu hai filmato Quella sera Hai il filmato Di quella sera Perché diavolo Non ce l'hai detto prima Morda Che diavolo ti prende Questa ragazza Ha passato l'inferno Ma com'è una copia Di quel filmato Potete farne ciò che volete Bruciatelo Datelo a pulizia O vendetelo a qualcuno Non me ne frega niente Hai provato una copia Del video Quindi sapevi che Avremmo scoperto tutto In realtà Non vedevo l'ora Di potermi togliere Questo peso Anche se ora Dovrò nascondermi Finché non prenderete Quel pazzo Ok Vai a fregare Alla stazione di polizia Lì sarà il sicuro Un'ultima cosa Prima di andare Sappiate che Io non sono l'unica personale A essere ricattata Dall'assassino Cosa? E se ne va Di cosa stava parlando? Focalizziamoci Su una cosa per volta Presentando questo video Potremo scagionarlo Spostando l'attenzione Alla polizia Verso Cazzo L'assassino credo Le volte potremo anche riscuotere Quanto promesso Salvando la nostra agenzia E riprendendo una vita normale Ma se lo facessimo Le bande nere Vincerebbero le persone Lezioni Riescheremo di portare Di nuovo Il terrore nella città Ruinando la vita Di centinaia Di migliaia Di persone Sacrificare Il nostro benessere Il nostro futuro Per l'eventuale ritorno Di un partito estremista O salvare la vita Di migliaia Di sconosciuti Condannando per sempre Tutto quello Per cui abbiamo lottato È arrivato il momento Di scegliere Sto perdendo completamente La voce stasera Allora No come egoista Praticamente se consegno Il video Mando tutto a puttane Eh sì Eh sì Se consegno il video Mando tutto a puttane Vabbè l'hai cominciata Da egoista Ma Non è che devi sempre È esatto Se non nascondo Loro perdono Ma siamo finiti Di noi No lo nascondo Forse mi ragione Tu era Che se Sovrebbe tornare In attività In una città Dominata da loro Nasconderemo Nasconderemo quel video Appena chiuso la faccenda Con Pandora Ce ne andremo Solo io e te Mordred Grazie In ogni caso Continua ad essere turbata Dalle ultime parole Di Abigail Una mail di Freya Region 47 Non c'è scritto altro Cosa significa? Che sia una qualche sorta Di indizio? Aspetta un momento Mordred Ma edizione Perché non ci siamo arrivati prima? Dobbiamo salvarla Mordred Dobbiamo No tu rimani qui Io vado all'indirizzo Ah lei L'altra persona Ricattata Teniamoci in contatto La destinazione è disponibile Let's go Tu 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 du Tu 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 du Tu 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 Cos'è questo maledetto odore? Merda In che razza di casino sei andata a ficcarti, ragazza? Cos'è? Ah, minchia, un cosa da corrente. What the hell? Hello? Ma cosa diavolo? Dovrebbe essere una foto di Freya. La parte sinistra è una foto, sembra essere stata sfregiata. Happy birthday, little sunshine. Freya, cosa sta succedendo? Ok. Ah, Luca. Prendete che si è messo condenato in illuminazione di questa colonna. Ok. Gigantesco numero 11 che abbia qualche significato. What? 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 Chi è questo ragazzo? Bisogna che signorina Freya, o forse dovrei chiamarla Flynn. Sognante di sapere che ha deciso di cominciare a indagare su di me e sui miei piccoli capolavori. Per ringraziare la sua premura ho deciso di cambiare favore scoprendo che nonostante suo padre abbia fatto di tutto per nascondere tutto quello che la riguarda prima del suo ingresso all'accademia, io sono riuscito a trovare delle splendide foto che la ritraggono prima del suo cambiamento. Nel caso io decidesse di continuare le sue indagini sarà mia premura a inviare tutte le sue vecchie foto di famiglia a tutti i suoi superiori. Ma non si preoccupi. Dopotutto la polizia di questa città è famosa per la sua tolleranza, non è vero? Con amore, P. Hai capito? Quando ho riuscito a capire che Fren era un ragazzo poco prima di entrare in accademia, allora Abigail si riferiva a questo che non ha detto che non ero l'unica a essere ricattata. Guarda che questo posto comincia a darmi la testa. Tra l'altro c'è una piccola di Lascadia che credo sia legata alla vecchia favola. Che farai se verremo al paragone? Tu con un figlio e io con tanta prole? Che farai se verremo al paragone? Tu con un figlio e io con tanta prole? Alla scrofa rispose in quattro parole mamma leonessa. Un solo maleone. Ciao, sere! Verremo al paragone? Tu con un figlio e io con tanta prole? Guarda, ho quattro parole, uno solo. Un solo maleone, ok? Capito che nella scuola, i lupi sono sempre disposti di guardare i propri figli piuttosto che presentare la loro vergogna al branco? La parte inferiore la foto è bruciata. Il fastidito dalla copulazione di due serpenti ti rende l'indovina e uccise il serpente femmina tramutandosi poi in una donna e cominciando a sperimentare tutti i piaceri che quel nuovo corpo poteva dargli. Pianion Cain sta prendendo gioco di me. Devo trovare freie alla svelta. Una lungo peribambola che indossa vestiti maschili. Stiamo a portare una busta contenente un messaggio. Credo che il messaggio sia collegato alla cassaforte. Cinque sono le cifre che apriranno le porte della verità. Le prime due cifre sono il numero del tradimento impresso sulla colonna portante. La terza cifra è il totale dei figli. La quarta cifra è la somma delle maschere della vergogna. L'ultima marca è impressa sul volto di Tiresia. Allora. Le prime due cifre sono gli uno, quindi. La terza cifra è il totale dei figli. Uno, teoricamente. Allora. La quarta è la somma delle maschere della vergogna. Questa non ne ho idea. L'ultima marca è impressa sul volto di Tiresia. Otto. La somma delle maschere. Allora, teoricamente è uno, uno, uno. Numero otto. Iniziamo a vedere la somma. Ok. Paraparapam. Due come i lupi che si vergog... Eh, i lupi che si vergognano sono due. Perché uno e i figli non sono due i cancellati? Ah, sì. Allora, aspetta. È il totale dei figli cancellati dalla vanità. Eh, ma potrebbero essere... Però no, è dei figli cancellati? Basta? Ok, due. La somma delle maschere della vergogna. La somma delle maschere della vergogna. La somma delle maschere della vergogna. Proviamo. Easy. Ci siamo, la cazzaforte è aperta. Tocca rappresenta una nuova nascita. Per metà azzurra e per metà rosa. Sull'interno è presente una chiave. Strana chiave. È il motivo che il pazzo ha creato questa messa in scena. Cosa voleva dimostrare? Eh? Devo correre la porta prima che finisca di rimpazzire. Fa che sia viva. Fa che tutti i miei sforzi non siano stati... Inutili. Oh, sei tu, detective? Io e la principessa ti stavamo aspettando. Ammetto che sono quasi emozionato. Dopo tutto questo tempo finalmente riusciamo ad incontrarci di persona. Anch'io non vedevo l'ora di farti un buco in testa. Lascia andare la ragazza, ora. Non preoccuparti per lei. Ha soltanto il respirato gas di questo posto troppo lungo. Lo stesso gas che hai respirato tu, per essere precisi. Ma questo lo avevi già capito da solo, vero? Chiediamo, lo stai dicendo? Perché una maschera sul suo volto continua a cambiare? Risparmi le stronzate, Pandora. Fai solo un passo e sei un uomo morto. Oh no, io continuerò a vivere ancora a lungo. E sarei proprio tu a garantire la mia incolumità, detective. Cosa? Sono disarmato e distante da lei, eppure non mi hai ancora sparato. Evidentemente hai capito da solo che non mi sarei mai avvicinato a te se non avessi la possibilità di ucciderlo in qualsiasi momento, anche a distanza. Comunque non devi preoccuparti, non ho nessuna intenzione di farlo. Se vi ho portato qui, è solo perché voglio che tu riesca a dimostrarmi qualcosa. Cosa dovrei dimostrare ad un fallito che si diverte ad uccidere le ragazzine per soddisfare le sue perversioni? Tutti dicono che non provi sensi di colpa per le persone che hai fatto condannare perché sei un mostro. Ma io credo che in realtà, che la realtà dei fatti sia molto diversa. Il motivo per cui riesci ancora a dormire suoni tranquilli è legato al fatto che non hai visto quella gente agonizzare davanti ai tuoi occhi. Il giorno della tua morte tu eri in ufficio godendoti il successo assieme alla polizia e a quella scrofa che chiami collega. Ma oggi, grazie a me, potrai guardarti tutto lo spettacolo in prima fila. A meno che... Tu non deciderai di lasciarmi andare di tua spontanea volontà. Sapevo che fossi pazzo, ma non fino a questo punto. Io dovrei lasciarti andare e cosa mi garantirà che non lo ucciderei comunque? Oh, è proprio questo il divertente. Non hai nessun tipo di garanzia. Guardami bene in faccia. Ti sembra forse il tipo di persona che può essere manovrata da un figlio di puttana qualsiasi? Oh, ma io non ho nessuna intenzione di manovrarti. Lascerò che sia tua a decidere. Sparami e le urla di questa ragazza si tormenteranno per sempre nei tuoi incubi. Lasciami andare e vivere sapendo che oggi avreste potuto fermarmi, ma non l'hai fatto? La vita del verme per quella della ragazza. Fate la scelta. Shit. 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 Proprio come immaginavo. Io te siamo davvero uguali, detective. Spara Freya. Baccialo. Non c'era baccialo, regà. Ce l'ho fatta. Dove compro sta bellezza? Potete wishlistarlo su GOG e su Steam. Non è ancora uscito. Non è ancora uscito. Non potete wishlistare comunque. Si chiama Dry Droning. Bella pollo con l'anno! Freya, Freya, riesci a sentirmi? Dobbiamo andarci da qui immediatamente. Vedi che è viva? Mordred, sei tu? Sì, sono io. Lascia che ti liberi da questo affare. Salvata da un criminale. Questa è davvero bella. Sapevo che non moriva. Grazie, folli. Sapevo che non moriva. Just a prank, bro! Shit! Mi died! Forse in fondo. Mi sbagliavo su di te. Grazie, Randall. Beh, però intanto gli ho sparato, raga. Mordred? Sono vivo! I'm alive! I'm alive! Cos'è successo? Dov'è Freya? Freya è morta. E sono stato io a ucciderla? Ah no, è ad ucciderla? Sono stato io. Vabbè, ma scusami. Se io non gli sparavo moriva comunque. Capitolo 1. Fine. Gods and Monsters. Io qualche altra parola... Vero? Hai dato più importanza al futuro? Mi ha dato più importanza al futuro? Hai chiuso la chiamata con Hera? Hai mostrato il guanto a David? Hai coperto la relazione di Baker con Alicia? Non hai consegnato il video di Baker? Effettivamente, raga, non potevamo mica morire. Mica è finito il gioco. Hai sparato a Pandora? Hai lasciato morire Freya? Passarono i mesi, ma il sonno non sembrava tornare. Il gioco è ancora molto... Mi sai dire quanti... Ah no, mi hai detto che l'ultimo capitolo ancora non è uscito. Mi hai detto che questo sono tre o quattro capitoli la versione che mi avete mandato. Perché a me non so come spalmarmelo. Eh, guarda Carlos che ha rollato il 33. Eh, Carlos, quando rolli il 33 devi pagare. Sette, otto ore, quindi sono tre capitoli. Più il quarto che deve uscire. Ok, facciamo stasera i primi due. Magari domani facciamo già il terzo. Oppure possiamo fare i primi due stasera. E terzo e quarto quando esce. Che vabbè, due settimane, no? Bella forgia con i quattro mesi, welcome back. Nonostante che la donna avesse fatto di tutto per distruggermi. Però pensate già qui come potrebbe essere diverso il gioco. Già dal capitolo 1. Ad agosto, esce ok, mese prossimo. Mi ricordo che prima continuava a tormentarmi ogni singolo istante. Pandora aveva giocato con tutte le nostre vite e aveva vinto. Ero riuscito ad ucciderlo, ma non a scoprire la sua identità. La polizia si è rifiutata di darmi qualsiasi tipo di informazione al riguardo. Sono 150 branch di ver... minchia? Sì, i basi l'ho giocato. Dopo la morte di Freya... di Freya, Avigale ha continuato a testimonare contro Baker. Forse come gesto di ringraziamento nei nostri confronti per averla riberata per sempre dall'incubo di Pandora. Questo intervento avrebbe ritardato ulteriormente l'esito del processo, che sarebbe continuato fino al giorno delle elezioni, decretando la sconfitta delle bande nere. Non avendo consegnato il cd contenente le prove che avrebbero potuto scagionarlo, avevamo condannato la nostra esistenza, ma eravamo certi di aver fatto la scelta giusta. Ma nonostante questo, avevamo comunque il continuo sentore che il peggio sarebbe dovuto ancora arrivare. 12 aprile 2066 Buonasera cittadini e benvenuti all'edizione speciale della telegiornale nazionale. Dai, parlano in fretta quelli del... ah, devo cliccare, scusa, hai ragione. La vittoria della misura è il partito unificato nazionale, ha scosto profondamente il partito delle bande nere, che ora chiedono la gran voce e le dimissioni di Richard Baker. Faccio anche il jingle. Partito sostiene che il processo per l'omicidio di Alicia Hart abbia distrutto l'opinione pubblica nei confronti del politico, nonostante egli non sia ancora stato dichiarato colpevole. Ascoltiamo ora la risposta della diretta di Baker, che al momento si trova davanti al tribunale di Madison Square, immersa la follia dei suoi sostenitori. La folla dei suoi sostenitori. Non sono pazzi, è solo una folla, non sono pazzi. La follia dei... Però guarda che occhi che ha lei. La rivediamo, la nostra bionda preferita. L'opera d'arte di Orsa. Guardatela in tutto il suo splendore, con questi due occhi... duri. miei amati compatrioti. Oggi è un triste giorno perché ancora una volta l'egoismo e la perfide hanno vinto sull'onore e il rispetto. Sicuri di non poter vincere a darmi pari hanno deciso di infangare il mio nome, facendomi ingiustamente accusare un omicidio che, giuro su Dio, non ho mai commesso. O la madonna. Ma di cosa potete... Ma di una cosa potete star certi, miei amati concittadini. Noi non resteremo mai in silenzio. Viva Tropico! No. Però era molto un discorso all'Atropico, eh. Continueremo ad urlare e a combattere per i nostri diritti. Perchè questa non è la fine per il nostro partito. Questo è soltanto l'inizio. Capitolo 2 The Firebringer Perchè la decisione di fare... Ah no, perchè il gioco è anche in inglese. Ok. Stavo chiedendo perchè la decisione di mettere il gioco in inglese. D'accordo, mi farò trovare lì tra poco. Tu cerca di non farti seguire. Se io provo ad aprire le braccia in quel modo, ragazzi, cioè, devo fare lo string così per tutta la vita. Cioè, devo mettermi il PC sul muro, praticamente. Non le abbasso più le braccia, ma siete pazzi. Stessi problemi, altro giorno. Stessa sigaretta, però. La questione di stile di mantenere quei nomi in inglese, ok, ok. Grazie di giornata. Oh, sei tornata, novità? Baker è stato condannato all'ergastolo. Ha evitato la pena di morte solo perchè è ancora un personaggio famoso. Alla fine siamo riusciti a incastrarlo, eh. Per una volta sono contento che la giustizia in questo paese non funzioni. Inoltre siamo praticamente sull'asse. Quando troviamo i soldi dovremo abbandonare l'ufficio entro due mesi. Maggio che sia arrivato il momento di iniziare una brillante caverriera come Lava Piatti. Vista la nostra reputazione non credo riusciremo a trovare neanche quello. Ma in realtà la cosa che mi preoccupa di più in questo momento sei proprio tu, Mordred. Non cercare di nascondere l'evidenza, per favore. Hai smesso di mangiare fumi molto più di prima e hai delle occhiaie spaventose. Sembra quasi tu abbia iniziato a fare lo streamer full time. Sembra quasi tu stia prendendo la volontà di vivere. E questo, se possibile, mi terrorizza più della vendetta di Baker. Non è un discorso che intendo affrontare adesso. Abbiamo cose più importanti a cui pensare. Il nostro contatto si è finalmente fatto vivo. Mi ha dato appuntamento a Talon Square fra meno di due ore. D'accordo, ma per favore non sottovalutare il problema. Non lo farò. A proposito, te la senti di accompagnarmi laggiù? Ovviamente. Solo pensiero di cosa saresti in grado di combinare se ti lasciassi andare da solo e mi spaventa più di una vita come lavapiatti. Io non fumo più, però. Perché sono migliore! Noto che nonostante tutto il tuo pessimo senso dell'umorismo è rimasto perfettamente intatto. Esattamente come la tua carenza di empatia, detective. Talon Square, let's go! Però svapo e vabbè. Ah, Galaxy Yamashita. Perché tutti i personaggi hanno la stessa voce? Perché purtroppo il budget era quello che era e hanno detto mettiamo la stessa voce a tutti. Condivido la scelta. Tanto ricadi nel vizio. No, regà, ormai da quant'è che non fumo? Chi è che ha tenuto il conto? Quando è che è uscito Red Dead Redemption? Ma che sei fumato cinque pacchetti, regà? È sempre la stessa, non c'è l'accendino questo. Su Cristiano, non c'è l'accendino. C'è la lì, dall'inizio. È la stessa. Novembre è uscito Red Dead. 26 ottobre. Io ho smesso di fumare pochi giorni prima. È ottobre, ormai è quasi un anno, eh. Talon Square, ogni volta che rivedo, riaffiorano vecchi ricordi. Quasi mi mancava l'odore di spazzatura in questo posto. Non ti facevo un tipo così sentimentale, folli. Oh, il nostro contatto è già qui. E figurati se non era un'altra. Non potevamo certo arrivare a trovare un apportamento con i due personaggi più controversi di tutta Nova Polemos. Finalmente abbiamo occasione di conoscerci dal vivo, sergente Bone. Chiamatemi pure Emily. Odio le formalità. Emily! Ciao, Asa. Prima di tutto vorrei dirvi che apprezzo tutto quello che avete fatto fino ad oggi per rendere giustizia il sacrificio di Freya. No, 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 quella l'ho usata. Dopo che la polizia ha scoperto del suo passato tramite i documenti, i doc... Tramite i documenti, i documenti di quel pazzo. Eh? Dopo che la polizia ha scoperto del suo passato tramite i documenti... I documenti di quel pazzo, sembra io. Ipsedixit. Dopo che la polizia ha scoperto del suo possesso... Dei documenti... Dei... Eh... 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 Sì, l'ho capito che avete sbagliato. Sto tentando di interpretarla, però. Dopo che la polizia ha scoperto... Del passato tramite i documenti... Quel pazzo sembra che... No. Non riesco a leggerlo, regà. Non ce la faccio. Tramite i documenti di quel pazzo. Dopo che la polizia ha scoperto del suo passato tramite i documenti di quel pazzo, sembra che io sia l'unica volevata a rendere... Era semplice, no? Bastava... È perché io toglievo il secondo. Perché toglievo il secondo i documenti... Ah, mi è imploso il cervello, mi è imploso. Eravate molto legate, vero? Sì, eravamo molto... Niente... Erano molto intime anche loro, ma è... Ma è un gioco di... Di donne che fanno le sforbiciate, ma lo adoro sempre di più. Proprio per questo voglio ringraziarvi. Per che cosa? Perché siete gli unici che desiderano ancora onorare il nome di Freya, nonostante la polizia aver scoperto del suo passato... A... Variagian. Non hai molto motivo di ringraziarci, specialmente se hai davvero le informazioni che ti ho richiesto. Mordere, maledizione. Quando imparerai ad avere un minimo di tatto? Di certo non verrei fatto venire fin qui se non avessi sviluppi sui casi. Mi ci sono voluti mesi, ma ho finalmente scoperto la verità. Beh, allora parla. Chi diavolo era l'uomo... A cui ho sparato a Variagian. A... Non... Quello stantito col gas. Il suo nome era William Payne. Ed è ormai certo che fosse davvero Pandora. O meglio, uno dei due, Wood. Sono due Pandori. Due Pandora? Allora, avevamo sempre avuto ragione fino all'inizio. Gli assassini lavoravano in coppia. Ne sei sicura? Ho indagato dall'ufficio di immigrazione e ho scoperto che il nostro amico William è emigrato qui due anni fa dopo il primo amicidio legato all'un assassino killer. Quindi probabilmente si trattava di un suo collega. Oppure addirittura di una sorta di discepolo. Regalino e ricordate che vi osservo. Dunque fate i bravi, Gn33. Gisus ha detto che ci osserva. Grazie Gisus. Tutto bene qui questa sera? Spero anche lei tutto bene. Però potremmo essere impossibili da scoprire di più anche perché le mail che avevate affidato a Freya sono scomparse insieme a lei. Freya te ne aveva parlato prima di essere rapita? E comunque non potremmo semplicemente chiedere di nuovo da Abigail. Ho già provato a chiedere, oh ma dopo la morte di Pandora quella ragazza ha cancellato tutto quello che poteva compromettere la sua innocenza. Pandora non si fa sentire per anni e poi improvvisamente uno dei due torna fuori. Solo per causa di questo disastro di Baker facendosi ammazzare così. E non è finita così. Qui. Ho anche scoperto che l'uomo che avete ucciso era uno dei medici più famosi. Sbaglio o quella è quella che si occupa di ricerche mediche e tecnologiche, oltre a monitorare la popolazione per conto della polizia? Esattamente, come saprete, sono anche gli unici a possedere i mezzi per poter inviare e ricevere mail criptate qui in città o all'estero. Questo spiegherebbe come mai, come ha fatto a distrarre i bulbi oculari di Alicia e a mandare quelle mie criptate. Non è ancora sentita la parte più interessante. Pandora ha ucciso di nuovo. Cosa? Stai scherzando, vero? E quando? Lo stesso giorno della condanna di Baker. Nel guerra caso la vittima è proprio uno dei dirigenti dell'Ephastos. Come fate ad essere sicuri che sia proprio lui? Beh, ci sta, ci sta, buon diavolo. Ci sta, assolutamente. Guarda che l'ha già corretto, guarda che bravo. Come rimpe, ragazzi, come rimpe. C'è un problema? L'ha già risolto, uguale. Sesso matuso operandi, stessa ritualità. Non c'è dubbio, si tratta di lui. Devo informarmi che questo caso è sconosciuto persino a gran parte della polizia, vista la gravità della situazione. Aspetta un attimo, allora tu come fai a saperlo? E soprattutto, perché lo stai dicendo a noi? Perché per quanto possiate essere dei criminali agli occhi della polizia, siete anche gli unici ad avere esperienza diretta con Pandora. Ora che il caso è di interesse nazionale, qualcuno ha pensato bene di creare una task force interna disposta a proteggervi e darvi supporto e la madonna. Ci avete osservato fino ad oggi, eh? Devo immaginare che la tua era un'operazione sotto copertura. Ti sbagli, tutto quello che riguarda Freya è vero, soprattutto quanto sul fatto che sono l'unica a cui è ancora in interesse di lei. Che mi dice Mordred, accettiamo l'offerta? E beh, non che ci siano alternative. Soprattutto se per una volta posso fare in modo che la polizia ci protegga, invece che braccarci. Ma in cambio nel nostro aiuto dovrete fornirci anche supporto economico, esattamente come se ci avessi ingaggiato in maniera privata. Avete davvero una bella faccia tosta. D'accordo, ne parlerò con la task force. Nel frattempo vi invio l'indirizzo del luogo del delitto. Ah, schiavato. E' vero, che è Mortal Kombat di video? Aspetta un attimo, una stanza d'albergo? Esattamente, non ti ho ancora detto la parte più importante. Un tè. Ma che diavolo? Una bomba? Just a clock, bro, parte 2. Non ci posso credere. Hanno fatto esplandere la sede delle bande nere. Tornate a casa, io devo andare. Appena potete passare, passate dal commissariato. Abbiamo molto di cui parlare. Dove stai andando? Non mi hai ancora detto nulla sul caso. Hanno appena fatto esplodere una bomba e tu pensi al caso. Dobbiamo andarci immediatamente, Mordred. Tu torni a casa, io vado sulla scena del crimine. Sei completamente impazzito. Smetti di agire seguendo la tua sezione. Mordred! Fermati! Ora arriva anche il musicista, ok? Abbiamo il team al completo? Finalmente sei deciso di rispondere. Quando non smetterai di fare sempre di testa tua? L'ho fatto solo per il tuo bene, e lo sai. Sono in grado di gestirmi da sola. Devi smettere di trattarmi come se fosse soltanto un peso per te. Sei benissimo che non ti ho mai considerato in quel modo. Piuttosto sei sicuro adesso? Sì, sono a casa. La polizia mi ha appena inviato i dati di acqua o esse, inerente al caso. Bene, allora aiutami con l'indagine appena arriverò lì. D'accordo, ma prima vorrei chiederti una cosa. Perché pensi che abbiano fatto esplodere la sede delle bande nere? Hanno perso le elezioni. Che motivo c'era di colpirli così? Non ho davvero idea, e sinceramente non credo neanche che ci riguardi. Focalizziamoci su Pandora. Ciao Bobo, buonasera. Bene, allora avvertimi appena arriverai lì. Sì, 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 necro. Hanno fatto tutto loro. Beh, non si può dire che sia stato difficile trovare la stanza in cui era avvenuto l'ovincidio. Dio. Se possibile la situazione sembra persino peggiore di quella che abbiamo trovato a Treasury Park. Hai già caricato l'orogramma sulla QS? Sì, non ci resta che attivarlo e scoprire cosa c'è dietro a tutto questo disastro. Molto bene, procedo. Solo nel capitolo 1 c'era quel bug sull'inventario. Aspetta un attimo i cadaveri. Sono due. E perché sono uno dei due e sembra seguiremo due superanti di Pandora? Non lo so, ma lo scopriremo presto. Ah, Bobo il musicante. Welcome e benvenido. E complimenti. Bella Ralph con i 19. Allora, bitches, prima di indagare. Allora, innanzitutto... Niente, non me lo fa guardare. Dimmi che c'è la traduzione di sta latinata. Ora vi... Reciterò il mio latino. Prometheus Iapeti Filius Primus Omines Exluto Finxit Prometo, figlio di Giappeto, per primo plasmolo gli uomini al fango. Cioè, non è che era difficile. Se non lo sapevate siete un po' incolti. Eh. Perché Pandora stavolta ha deciso di lasciare un messaggio così specifico? Aspettate però, prima di indagare su questo duplice omicidio, piccolo break di due minuti. Faccio il caffè e torno subitissimo. Nel mentre, vi ricordo di seguire i miei social, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, YouTube, ma soprattutto Instagram e YouTube. Il sito! Oggi da oggi è live www.quizitwitch.com Chiunque volete supportare lo stream in piccola del tassino abbono e ti ricordatevi che con il premio lo potete fare gratis linkando il profilo di Amazon a cui di Twitch l'avete già fatto. con il premio ricordatevi che ogni mese avete ripigione il tassino perché non si rinnova in automatico. Datemi 2 minutes, faccio il coffee e torno subito. Be right back. Grazie a tutti. 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 Il prezzo è perché. Raga a volte purtroppo sul sito fa gli sconti in automatico. E... Quindi mi sputtano le cose. Quindi tipo questa è andata 24 e 15 per chissà quale motivo. E... Da qui avete vedi? I vari colori. Questa è gegendaria rega ne ho cliccato una caso ma è gegendaria. Così è gegendaria questa maglia. Tutte le varie taglie eccetera eccetera E c'è di tutto Cioè quello lo vedete più che altro dall'altro Perché si vedeva tutto anche da lì Ma è incasinato Cioè ci sono dalle cover dei telefoni Agli zainetti Agli sticker Ai dildi Eee E tutto il cazzo che volete Sono le tasse, gli orologi La modella quanto costa è Io vi dico solo che A una persona su tre arriva la modella Però è random Quindi voi comprate Magari potete essere infortunati Ho avuto un'ispirazione Alla promessa del sito durante la pausa del coffee Te l'ho mandato su Instagram, grazie Abbiamo tutte cose molto belle Cioè guardate l'orologio È Randall, chi è Randall? Ah sì è Randall C'è Come fate a vivere senza un orologio del genere in casa vostra? C'è It's DPS O'Clock Sì c'è anche quello in molti tre cinema imboscato C'è It's DPS O'Clock Regà Questo qui non dovete neanche mettergli le pile Voi mettete un orario a caso Quando arriva la gente Ma che ora è? It's DPS O'Clock Gli dici sempre Cioè potete staccarle le lancette Marta legge l'ora solo da lì Lei sa leggere l'ora solo da quell'orologio Se vi fai vedere un altro orologio Mia figlia non sa leggere le ore Non sa leggere solo da quello E a parte degli scherzi C'è roba veramente bella Sono contento che mi piaccia Cioè anche A me ne avevo fatto tre ordini Ho avuto la fortuna su tre ordini E mi sono arrivate due modelle Pensa che culo Randall Pensa che sculato Randall L'orologio non ha prezzo Perché non è disponibile Certo che ha prezzo Tutto è apprezzato Tranquilli Andate sul sito e lo vedete Allora Ok indaghiamo Vedete la città E' disatto che è venuto in questa stanza Guardiamo per ultimi I cataveri Piume? Presumo siano d'aquila O di qualche rapace simile Come se non fosse abbastanza palese Quale mito volessero emulare? Esatto Fatti una doccia E' un sporco money grabber Tra me ne prende un singolo buco di proiettile Che probabilmente ha attraversato il carino della vittima Uccidendola sul colpo Con i medicinali A quanto ferma la polizia Sono stati stati in guardia di quantità La vittima legata al letto L'etichetta recita Morpheus Un medicinale prodotto da Lefassus Usato per far addormentare i pazienti Durante le operazioni chirurgiche Un giga sedativo La seconda vittima A quanto pare la sua morte è stata rapida Il singolo proiettile ad alta penetrazione L'ha colpito in piena fronte Cosa ha scoperto la polizia riguardo la sua identità? Aspetta controllo Ci sono tutti i VOD sul sito Sì Nessuna informazione La polizia non sa chi è questo uomo È proprio così Non avrei mai immaginato Che potesse succedere qualcosa del genere La nuova Polemos Quindi non si sa chi è Fingata dalla vittima Sembra che sia stato colpito ripetutamente Con un oggetto tagliente Probabilmente un coltello O qualcosa di simile Immagino che sia stata la causa della morte La vittima sembra essere piuttosto anziana I bulbi oculari non sono stati asportati E la bocca non è stata cucita Forse non ha fatto in tempo Se sono inviando i dati della vittima Che ci ha fornito la polizia O benevolo di natura Una brava persona Fini genitori tedeschi In una città Durante la sua fondazione Sembra rimastata Una grande intelligenza Permessa di rivoluzionare Più molto in mondo La tecnologia Filantropo Un genio all'interno della città Uber È uno dei dirigenti Più importanti Delle Fastus Ah Lui è quello che ha fatto L'AQS Ok Ok Non è pieno di vittima Sono bloccati con le manette Ma non è prevenire la fuga Ok Ok Una pistola Una pistola di grosso calibro Probabilmente la vittima Si aspettava che sarebbe Che qualcuno sarebbe venuto A prenderlo Cosa sai dirmi A riguardo era? La polizia ha scoperto Che la pistola ha sparato Tre colpi distinti Uno di questi È quello che ha ucciso Quest'uomo L'AQS Sì no ho usato Questa pistola Per ucciderlo E perché tre colpi? Non vedo altri fuori Nella stanza Non ho idea Ma i dati dicono Che sono state trovate Tracce di polvere A sparo Sulle mani Sulle mani Della vittima Quindi la pistola Ha sparato tre colpi Bella sim L'unico modo Per entrare nella stanza Ci si può accedere Soltanto con una posizione La testa Inoltre un piccolo suono Viene emesso Ogni volta che la porta Viene aperta o chiusa Per avvisare gli ospiti Ok Quindi ridice delle piume Seconda vittima Presione di gran quantità Sono le lenzole Che probabilmente Sono state spostate Dalla polizia E non sono Nella loro posizione originale Ma che è originale Un conosco tecnologico Farmaceutico E uno sconosciuto Ucciso Nella camera All'albergo di lusso In questo caso Se possibile È persino più assurdo Di quello di Alicia Ma immagino Che sia la norma Quando si parla di Pandora Prima di fare Qualsiasi ricostruzione Ho bisogno di altre informazioni Devo tornare Al commissariato Per non scoprire Di più sulle vittime Sulla loro identità Va bene Ora che le acque Dovrebbero essersi calmate Ti raggiungerò Anch'io Anch'io là Invitala al commissariato Fai in fretta Grazie Forse l'idea Che posso gestirmi Solo comincia A entrare Nella tua zucca vuota Su l'idea Ci sono i vuoti Anche i giochi Che hai fatto solo una sera Così posso dare Quel gioco Survivor In prima persona No Sono solo i vod salvati Forse mi sto davvero Preoccupando troppo Ma dopo quello Che è successo Pochi mesi fa Non riesco davvero Smettere di pensare Al peggio Bella monkey Con i sette Welcome back Erinobu Go commissariato Studi Oh Mordole Da allora Cos'hai da dirmi Su questa scena Del crimine Pensi anche tu Che abbia a che fare Con un altro Pandora Non ne sono sicuro E da cosa Nascono questi dubbi Prima di formulare Delle ipotesi Ho bisogno di parlarti Un attimo Ok d'accordo A patto che Siano cose Riguardanti il caso Non posso ancora Dirti nulla Riguardo i fatti Di Talon Square Mi dispiace Allora la situazione È peggio Di quanto credessi Per prima cosa Vorrei che mi parassi Del vecchio Ucciso sul letto Si chiama Cornelius E se oggi Possiamo utilizzare Acquas Acquo S Ebbene Solo per merito suo Su serio L'hai inventato lui? Sì E mi viene da pensare Che questo omicidio Abbia a che fare Con il Pandora A cui ha sparato Credi che volesse Coprire le Falle lasciate Da suo collega? Probabile Pensiamo Posso avere a che fare Con la possibile Scoperta Di qualcosa Relativo Al vero Pandora Da parte della vittima Eppure Come la sensazione Che ci sta sfuggendo Qualcosa Ti consiglio Di andare A chiedere Direttamente Alla sede principale Dell'azienda Oppure Uno dei due Assistenti Di Uber Avete il loro nome E i loro indirizzi Immagino Sì Sono Diene Eugene Smith Due fratelli Che vivono insieme Nella zona 3 Ok D'accordo Dammi le coordinate precise Così andrò a fare I due video Una visita cordiale Tiene un profilo basso Come elaborazione sterra Quindi non possiamo proteggerti Dalle denunce Ok Come siete prevenuti Ok Piacerebbe poterti aiutare Che non sanno nulla Diccio prima Giusto Ma andiamo con ordine Sappiamo che la pistola Ha sparato tre volte Quindi mi chiedo Dove sono finiti Gli altri colpi Posso intuire Che l'assassino Abbia tolto i boss Di dalla scena Ma non avrebbe mai potuto Coprire dei fori Di proiettile Tutto tornerebbe Se lo avesse sparato Per difendersi Visto che sono state donate Tracce di polvere A sparo Sulle sue mani Ma non ci sono Tracce di sangue Sulla straditore Ed è impossibile Che la nostra vittima Non si sia accorta Dall'arrivo dell'assassino E perché? Indica sullo sfondo Il motivo per cui La vittima È perché c'era il campanello La porta? Sul serio? Esattamente Esiste solo un modo Per entrare nella stanza Ed è proprio attraverso Quella porta Che guarda a caso E metto un rumore Ogni volta che qualcuno Entra riesce nella stanza Comincio a capire Dove tu voglia arrivare Allora continua A seguire il mio ragionamento Quante sono le possibilità Che l'assassino Sia riuscito ad entrare Correre fino alla vittima Disarmarla E colpirla Con la sua stessa arma? Figa Cioè Neanche i miei compari Quando giocavamo su altri Sarebbero fatti fare Una roba del genere Zero O quasi Se ma le coperte Sullo shop Sono matrimoniale A letto singolo Puoi scegliere Spider Pork Puoi scegliere Cioè sia Letto Piazza Piazza in mezzo E matrimoniale Mi pare Ciao Bene Zero quasi Perché una cosa simile Non c'era scritta Nel rapporto Prima di formulare Altre ipotesi Devo parlare Con il gestore Dell'albergo Bisogna sapere Di più Su quella stanza Ti farò parlare Con la signora Che lo gestisce Non appena Tornerai lì Grazie ancora Del tuo aiuto Tanno scopo Hai avuto Di dovermi Chiedere qualcosa Esattamente Avrei bisogno Di una conferma Da te Mordred Prima è stata Davvero uccisa Solo una Pandora O tu C'entri qualcosa Oh shit Io non c'entro niente Quando non l'ho uccisa Mi provavo a salvarla E proprio per questo Gli ho sparato Avevo promesso Che l'avrebbe liberato Se l'avessi lasciato andare Ma mi ha ovviamente Ventito Allora hai davvero Fatto di tutto Per salvarla Assolutamente È bello sapere Che almeno Tu hai provato A fare la differenza Tranquilla Emily Si vede che Stai facendo di tutto Per rimartire Gli errori del passato Tranquilla Con quei pantaloni In pelle Puoi farmi Eh puoi dirmi Tutto ciò Ora vogliamo tornare A parlare Assolutamente Verrei che ti chiedo Tutto quello Che mi serviva a sapere Puoi mandarmi Un file contenente Informazioni sull'ora E sulle modalità In omicidio Te lo mando subito Troverai l'ora In decesa E tu ti accessi Alla stanza Alla albergo Benissimo Ti ringrazio Mezzanotte 45 L'altro è morto Un quarto d'ora dopo È finita È finita la tua collega Si è ripresa Già dove è finita Era Mi aveva detto Che sarebbe venuta Qui il prima possibile Perché non è ancora arrivata Credi che possa Essere in pericolo Dopo quello che è successo All'anno square Con Pandora Mi sembra il minimo Dovevo impormi Maledizione Oh shit Cosa ti passa per la testa Sei non commissarato Vi devi calmarti immediatamente Eccola Era Bene Ora che sei arrivata Possiamo aggiornarti Su quello che abbiamo scoperto E chiederò Ademi gli aggiornamenti Non preoccuparti Io torno a casa Prima che tu distrugga L'intero commissariato Ma dai Che figura di merda Che ho fatto Capisco Che ho la tua Preoccupazione per lei Ma questo non significa Che puoi prenderti Libertà simili Con me e la polizia Il gioco si chiama Dry Droning Comunque vedrai Dovevo tornarti Sui fatti Tu procedi ad indagare Va bene E Ehm Direi di tornare Alla camera Che mi fa parlare Con la tipa E lui E questo qua E la Lady Gaga Del futuro Che non deve essere Un pedronio In questo posto Ma per quale motivo E qui sulla scena Del delitto Siamo signora Sono il detective Foley Magna che la polizia L'averà già annunciato Il mio arrivo Si so già tutto Mi nome è Nadine Sterling E gestisco Questo albergo Posso aiutarla Posso aiutarla Possiamo di trovarla Nella hall Cosa ci fa qui Ora che la polizia Ha ottenuto tutte le informazioni Volevo vedere con i miei occhi Cosa era successo All'interno della mia proprietà Tutto qui Non l'avevano mai Fatta entrare Prima giusto No Si sono limitati a chiedermi A chiedermi Ad interrogarmi Si sono limitati A chiedermi A chiedermi Tutti gli accessi Che sono venuti Quella notte Sono sicuro che Questo omicidio E la bomba Della sede Delle bande nere Siano tutti Della parte di politici Che vogliono Tenersi stretta La poltrona Si 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 Jack Non è ancora uscito Glielo dico io Tempo 5 anni E questa città Sarà una discarica Ce l'ho aperto Pregiudizi E frasi fatte La mia accoppiata preferita Questo albergo È stato fondato Da mio marito Più di 15 anni fa Ora che è morto È passato tutto a me Visto che non abbiamo mai avuto figli Questa stanza La 237 Era una delle nostre stanze più moderne In genere Sempre occupata da qualcuno Quante altre persone Lavorano nell'albergo 5 in cucina 3 facchini E un altro ragazzo Alla reception Ma molti di loro Se ne vanno dopo le 23 Quindi non c'era quasi nessuno Quando le due vittime Sono state uccise All'interno di questa stanza Mi dica quello che si ricorda Nella notte dell'omicidio E cerchi di essere Più precisa possibile Interviene in prima misura Quando appaiono frasi colorate All'interno dei dialoghi Ah ma minchia Ci sono proprio meccaniche nuove Del gioco nel capitolo 2 Quando appaiono frasi colorate All'interno dei dialoghi Significa che puoi selezionarne Una per avere chiarimenti O svelare incongruenze Così facendo la persona interrogata Ti fornerà maggiori informazioni Che figo La notte ero nella mia stanza Io dormo qui perché Non mi fido a tornare a casa da sola Trebbe essere più specifica Su questa informazione Sono fatto un bagno E mi sono preparata per dormire Che altro dovrei dirle Ok continui pure la sua versione Dei fatti Cosa stava facendo alla sua stanza Dopo tutto quello che aveva successo Mi sembrava il minimo Non voglio rischiare Di fare la fine Di quel povero disgraziato Abbiamo capito Che è una persona attenta Continui pure In generale Questo posto è sicurissimo E sembrava esserlo Anche quella notte Ma fino a quando Ho sentito diversi spari Intorno a luna In generale Che intende Che la sua città Non è più sicura Come un tempo E di Ender Tendo sempre a pensare Al peggio Non avevo dubbi Aspetta un attimo Ha sentito degli spari Siano almeno due o tre A breve distanza L'uno dall'altro Perché un particolare Così importante Molto più di quanto creda Quindi significa Che la seconda vittima Ha davvero sparato Per tre volte Ma dove sono Gli altri due fori Imporito Ho subito Chiamato la polizia Che è arrivata Circa venti minuti dopo Sicuramente averlo fatto Immediatamente E non aver aspettato Per paura Di essere sentita Assolutamente Per chi mi ha presa Questo significa Che l'assassino È fuggito in pochissimo tempo Nooo Non ho cliccato Dai Ho miscliccato Shit Questo è quello Che ricordo di quella sera Vuole che le parli D'altro Te lo consiglio di sapere Come funzionano I metodi D'accesso Alla vostra struttura Dopo le 22.30 Solo con una tessera Motivo per il quale Non ci sono telecamere Se qualcuno Arrivasse la notte in fondo E volessero dormire da voi Abbiamo un numero Fisso All'ingresso Ma non abbiamo ricevuto Nessuna telefonata Quella notte Ok Sta scherzando Non c'è nessun sistema Di sicurezza video E a cosa servirebbe? Le porte di tutte le camere Non gli allarmi Inoltre i casi di criminalità In questa zona Resentrano lo zero Ovviamente nelle camere Possibile entrare Solo se si è identificati La porta suona Prima dell'accesso Ok La stanza Era stata Prenotata solo Al signor Uber Infatti era una singola Nessun ospite? Quindi avete i dati Di accesso singolo Delle entrate Delle uscite? Solo le entrate Vengono segnalate Questo rende Le cose più difficili Ovviamente Nelle camere Possibile Ok La prima volta Che il signor Uber Era entrato nella stanza Quel giorno Erano le 16 Poi alle 20 E all'1 Era con qualcuno Alle 4? No Non che io ricordi Ha prenotato la stanza E ci ha inviato I dati online Due giorni prima Ok La prima volta Voleva controllare Alla stanza C'era lei Alla reception Alle 20 Noi con il momento Era di aiutare in cucina La ragazza Che c'era al posto medici Che è comunque Tornato da solo L'altro uomo Che è stato ucciso Potrebbe essere arrivato Prima Ad averlo aspettato All'entrata D'altronde Non ho idea Forse ho utilizzato L'acqua S Il signor Uber Come scusi Ma non ha detto Che era possibile Entrare Solo con la chiave In realtà È possibile farlo Anche con i dati Dell'acqua S Che vengono registrate All'entrata Mi ero dimenticato Di dirglielo Questo potrebbe cambiare Tutto Esatto Gardel Prima In un momento Sarà meglio Notarsi tutto Quello che ho scoperto Posso andare Sono stanca Vada pure Spero che Tutto questo Non vieni Per sempre La reputazione Nell'albergo Che abbiamo creato Con tanta fatica Lo spero anch'io Per lei signora Arrivederci Per rispondere Che domani Siamo riusciti Al 300 domande Eh Ok Qua ha segnato L'ingressi Ah Avevo un altro posto Dove andare Casa Smith Esatto Rondolone È stato Gloglotto Aspetta Il secondo Appartamento Dei fratelli Smith Che resti appartamento È questo Maschere Statue E ninnoli Sembra davvero Rifugio Di un serial killer Minchia Yo bro Venuti Al mio appartamento Immagino Che resti Detecti Di cui mi ha parlato La polizia Esattamente Mi chiamo Mordered Foley E sto indagando Sul caso Di Cornelio Suber Io sono Dean Smith Ex-assistente Del professor Uber Ma immagino Che questo Lo sapesse Già Ma c'è La mano Nel Non è la Tasca Quella Ragazzi Una tasca E qui Questa Non è Una tasca Sì Se non gli dispiace Vole fare qualche domanda E magari anche Dara un occhiato In giro Ma cosa fa Non lo so Si toccano Mentre che ci parla Ma che Sono forse Dalla lista Di sospettati Si mi viene a rispondere Le mie domande Per cortesia Dove si trova Suo fratello Sono settimane Che non torna a casa E non risponde Neanche più Alle mie chiamate Si sta comportando Come il bambino Che è sempre stato Non torna a casa Da settimane E lì dove potrei Trovarlo Francamente no Mio fratello È sempre stato Bravissimo A sparire In compenso Ha trovato me Quindi mi faccio Pure tutte le domande Che vuole Bene Allora direi Ricominciare Che tipo De rapporto aveva Con il suo ruber Quello ma è stato Come un padre Per me Mi ha sempre spinto A migliorare Dandomi la forza Di andare avanti Sono morto È stata la notizia Più brutta Della mia vita Nessuna maschera Quindi teneva davvero Lui Hai idea di perché Pandora Abbia scelto Proprio come lui Proprio lui Come vittima Assolutamente no Ero un uomo amato Da tutti Specialmente da me Eugene Italia La sua compagna La sua compagna Si ha già provato A parlarle Probabilmente Sarà cercando Anche le Eugene Prima di parlare Di suo fratello Al contrario di me Eugene era pragmatico Ed estremamente Serio nel suo lavoro E questo ha sempre Creato grandi conflitti Fra di noi L'ultimo momento Felice che ricordo Di aver vissuto Insieme a lui Risale da quando Abbiamo scoperto Che il professore Ci aveva accettati Come allievi Dieci anni fa Da quel momento Siamo entrati In competizione E mentre lui Si occupava Di sistemi di sicurezza Legati a Caligula Io creavo Quella che sarebbe Stata la più grande Rivoluzione dopo Acqua S Cioè A Be a good citizen Il videogioco per Acqua S Che ho creato Mentre affiancavo Il professore Nei suoi lavori Che è tipo GTA Grazie a un impatto Diattico ed educativo Che ho avuto La mia creazione Sulla gente di Signor Rubber Ha cominciato Che ha avuto La mia creazione Sulla gente di Signor Rubber E mi ha nominato Successore Questo ha fatto Impazzire Eugene Che se ne è andato Di casa Urlando che i suoi lavori Hanno stati ecclissati Dal mio stupido gioco Ma alla fine Mi ricordo Pensare al fatto Che questi Ditigi Sono cose Che capitano Non riesco Di certo abitimarlo Per aver riuscito In quel modo Vedere distrutto La propria carriera Da un giocattolo Non deve essere Facile da accettare Un giocattolo Mi giocattolo E riditare tutto Ci può stare Cosa vorremmo In merito A Efestus Che non è decisamente Una buona idea Dare monopolio Assoluto Di tecnologie informatiche E farmaceutiche Ad un'unica azienda Ti auguro Potere simile Potrebbe dare alla testa Non le pare Specialmente Quando le informazioni Permanente dall'estero Vengono filtrate Prima dal governo E dall'Efeso stessa Cosa intende Tendo a dire Che il mondo Là fuori Potrebbe essere Molto diverso Da quello che ci viene Riferito ai giornali Dalle reti Dalla rete Capisco Conosceva per caso Un certo William Payne No Ma è stato il nominare L'azienda Più di 3.000 Dipendenti Non posso conoscerli tutti Dovevo immaginarmelo E riguardo I circuiti Metodizzati dall'azienda Non sono Non mi sono mai Occupato di sicurezza Prima in prima persona Cosa del genere Dovrebbe chiedere Eugene Fatto che riesca a trovarlo Cosa può sapere lui Che è questa persona Però potesse Nermano lei Visto che è stato Ritrovato morto Accanto al professore Mi dispiace Non l'idea Di chi sia Questa persona No Tenia Rapporto No No Le manette No Non credo Che ci sia nulla Le medicine Magari lui sa qualcosa Le medicine No No Credo che con lui Abbiamo finito Per ora Fai vedere le manette Di Lisa Che ti finirà Nei polsi No 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 No, l'unica che aveva senso fargli vedere era quella lì e non mi ha saputo aiutare Andiamo alla sede Andiamo alla sede a vedere gli altri colleghi se mi dicono qualcosa Be a good citizen E così questa è la sede di Nefestus, o almeno la sua facciata Deve dare un'occhiata in giro L'ultima parola è la famosissima nuova Polemos, ok L'applicazione per la valutazione dell'edificio in cui probabilmente non riuscirò mai ad andare Buonasera, sono MordedFolly e vorrei parlare con qualche responsabile in merito all'omicidio di Uber Atenna all'entrata, manderemo uno dei nostri rappresentanti il prima possibile Aspettare qui, non c'è neanche una sedia Ricordiamo che lasciare la stanza le farà perdere la sua priorità What the hell? Sono qui per conto della polizia, non ho nessuna intenzione di perdere altro tempo con queste idiozie Le invitiamo ad attendere con calma Perché nel frattempo non si informa sui nostri articoli Ah, è un robot Potrà trovare un ampio catalogo in basso, capito? Inizia a fare la svelta Dato il loro comportamento cominciò ad intuire perché abbiano messo dei vetri così spessi alla reception No, non credo che fosse un robot Era solo voce robotica Minchia, due ore? Oh da hell Attenzione a restare ad ascoltare un secondo in più Ehi, guarda Talia Talia, anzi non Talia Talia, Talia E il tuo mentore finisce ammazzato e tu fuggi in questo modo? Il mio mentore? Quel vecchio non significava nulla per me Francamente non ho nessuna intenzione di fare la sua stessa fine aiutandoti Ah, lui è Eugene Cornelius ha fatto di tutto per renderti quello che sei oggi Tu lo ripaghi così? Se solo potessi renderti in questo momento soffrerebbe moltissimo Questa conversazione finisce qui e per favore evita di starmi ancora fra i piedi Mi scusi signorina ma non ho potuto fare meglio di sentire la vostra conversazione E lei chi è? Il mio nome è Mordred Foley Sono un detective e sto collaborando con la polizia sul caso di Uber Ah, allora sto parlando con un uomo famoso Purtroppo sì Spero non sia un problema per lei Se volessi fermarmi all'apparenza o quello che dice la stampa Non potrei più parlare con nessuno in questa città Comunque io sono Talia Wells Come posso esserle utile? Talia, sì, infatti ho detto Talia, Talia Ma so che Talia giù vuol dire guarda Vorrei fare qualche domanda riguardante Uber se non è un problema per lei Certamente, io più di tutti voglio scoprire che l'ho ucciso L'entra si occupa prevalentemente di studi medici e tecnologici In server di Caligua e di Acqua S E come anche i dati neri in Telesame e Patterson Si trovano tutti qui nella sede principale Ora capisco tutta questa sorveglianza Si occupano anche d'altro? Si, sono l'unica azienda che ha l'autorizzazione per comunicare con l'estero In qualsiasi momento per motivi commerciali e politici Pezzi grossi si affidano così tanto alle Festus Non è un caso che molti dei politici provengano direttamente da qua dentro Tutto in famiglia, come si suol dire Dovevi parlare di Uber e del rapporto che aveva con lei? Cornelius era una persona straordinaria, nonché il mio futuro sposo Ne era una sua fidanzata? Si, stavamo insieme da più di 4 anni Ma ho fatto di tutto per non dirlo in giro Temevo per la mia incolumità E perché? Sospettavo che qualcuno volesse ucciderla Probabilmente qualcuno interno all'azienda Che Pandora abbia davvero avuto legami con il professore? Purtroppo non è mai entrato nel dettaglio Ora desidero soltanto vendetta Verso la belva che ha tolto la vita all'uomo più importante della mia vita No, telore La sera che non ho denunciato la scomparsa Non riuscivo neanche a contattarlo E il suo GPS e il suo ACQS sembrava non funzionare Quindi è stata lei a dare l'allarme Proprio così, ma quando l'hanno trovato era ormai troppo tardi Vediamo Eugene Cosa saprebbe dirmi riguardo l'assistente alla vittima? Quello che ho visto prima era Eugene Mentre Dean è colui che prenderà il posto nel mio povero Cornelius Appena le acque si saranno calmate Tra i due c'è sempre stata una competizione malata Ma in modo gentile di Dean e il successo delle sue ricerche Hanno fatto brecciare nel cuore di Cornelius Ma questo non è mai andato a Gene, Eugene Non è mai andato a Gene, Eugene? Che ora si rifiuta persino ad aiutarmi a capire cosa è successo veramente? Li conosco da anni Ma anche perché avevano un rapporto molto stretto con noi E sono venuti spesso a cena Saprebbe bene cosa si occupavano questi due assistenti? Eugene si occupava di sicurezza informatica Mentre Dean ha inventato un famoso videogioco Chiamato Be a Good Citizen Vuole dirmi che riuscite a ringraziare il professore con qualcosa del genere? Proprio così, grazie a quel gioco sono riuscito ad ottenere informazioni costanti In merito all'attività e alle visioni dei cittadini Rimarebbe sorpreso non scoprire a cosa si è disposta ad arrivare alla gente Pur di ottenere i benefici Videogiochi usati come metodo di controllo delle masse Questa è davvero bella Fortnite cheat Fatemi bere È morta la chat? Chat! Ah, che chat deadrip da mezz'ora a sta parte Siete tutti focussatissimi, really? Comunque se si tiene a scoprire di più le consiglio di parlare direttamente con loro Lo farò sicuramente grazie delle info D'accordo, direi che mi ha fornito abbastanza informazioni La ringrazio per il suo tempo Non voglio certo farle aspettare altre due ore qui con me In attesa che qualcuno si devi parlarmi Probabilmente non arriverà mai nessuno Sono tutti troppo spaventati di essere indagati per quello che è successo Cosa? Conosco l'anima e le vie di questi uomini E posso assicurarle che non ci saranno di nessun aiuto Allora eviterò di perdere altro tempo Prima di andare lasci che le affidi una cosa Un'AQS con dati corrotti Sì, è quello di Cornelius Ricorda quando le ho detto che risultava scomparso la sera della sua morte Il motivo era molto semplice Ho trovato l'AQS in un cestino a pochi metri dall'albergo I suoi dati erano stati totalmente corrotti Non è possibile, i dati non sono direttamente sul dispositivo Provengono dal server centrale Non lo so, è proprio per questo che glielo sto affidando Trovo un modo per attivarlo di nuovo E forse riuscirò a capire cosa è successo Ciao Edo Quindi, quello è quello che hanno usato per entrare, il killer Perché hanno detto direttamente alla polizia? L'avrei fatto ma temevo che l'avrebbero fatto scomparire Per paura che collegasse il fatto con qualche dirigente delle Festus Capisco, ora troverò qualcuno in grado di aggiustarmelo La ringrazio molto Le passo i miei dati, se ha bisogno non esiste a contattarmi Assolutamente Nessuna maschera, questa donna mi ha sempre detto la verità Come non resta che capire cosa nascondeva il professor Huber dentro questo aggeggio Che gambette che ha la signora Allora Let me see, let me see Ok, non posso usarlo Beh, probabilmente è casa Smith, magari tipo me lo può aggiustare Tutto bene Edo? Siamo in grado di aggiungere così Mi ricordano su Doki Doki Fils Beh, questo è leggermente diverso L'ho dappinato alla città d'Italia Lei dovrebbe conoscere bene, giusto? Certo che la conosco e sono in pena per lei Non so neanche immaginare quanto stia soffrendo Puoi aiutarmi a ripararlo? I dati al suo interno potrebbero essere essenziali per risolvere il caso Penso di sì, anche se non ho mai visto niente del genere Tecnicamente dovrebbe essere impossibile corrompere i dati da QS Mentre provo a capire che problema potrebbe farmi un favore? Cioè? Lei che è un personaggio interessante Lei poi è un personaggio interessante Vorrei metterla alla prova con una delle mie creazioni Niente di troppo complesso, ovviamente Seppre il gioco che mi permetterà di capire molto di lei Sembri invene di ozze simili? Andiamo, tanto avrebbe dovuto aspettare comunque un mio risponso Ed esserò così antipatico di certo non la aiuterà nella vita D'accordo Ma vedi di fare in fretta ad aggiustarlo Ok, allora le invio un file su a QS Buon divertimento, Foli Era di là, Randolone Abbiamo così quell'obiettivo di attivare ogni cella all'interno della griglia Per farlo ogni cella deve essere collegata direttamente indirettamente al segmento colorato iniziale Seleziona le cella che desideri ruotare Per riuscire a formare una rete perfetta E lo Avanti dimostra che sei migliore Cioè devo collegarle tutte? Come cazzo faccio? Allora, se io faccio così mi chiudo Ok, guarda che bello Guarda che buono ci siamo Ci siamo quasi No Easy Adesso in poi Potrebbe succedere qualcosa Minchia, cosa potrebbe succedere? Ci hai messo meno di quanto mi aspettassi Spero che ora sappia le mie risposte Credo di essere in grado di sistemare tutto Ma ci vorranno almeno un paio d'ore Cioè io ci ho messo un secondo a fare il tuo coso di merda E tu un paio d'ore per aggiustare quello Se fai schifo Hai acceso i contatti e le richiamerò appena ho finito Spero che tutto questo ci porta a qualcosa E ho intenzione di aspettare le ore in compagnia di questo pazzo Probabilmente farei meglio a tornare in ufficio E fare appunto la situazione con Hera Fatto che abbia ancora voglia di parlarmi L'ha accesa Guarda un po' chi si rivede Sei tornata ad accertarsi che fossi ancora a casa Comincia ad essere davvero stanco di queste frecciatine Se la faccio è solo perché sei un uovo Se ne faccio è solo perché sei un uovo molto migliore di così Ma lei Me l'hai dimostrato evitando di consegnare il video alla polizia Nonostante ti fossi rifiutato di farmi quella promessa in ufficio all'inizio del caso Si ricorda tutto Ma nonostante questo Non posso farmi notare che gli ultimi eventi Ti stanno cambiando a mordere Non in meglio Potrò anche essere cambiato Ma ho sempre pensato alla tua incolumità in ogni singolo istante Anche durante le indagini tra i giuri parche Capisco perché tu l'abbia fatto per me e lo apprezzo Ma non devi mai più permetterti di tagliarmi fuori senza mio consenso E non voglio neanche parlare della scenata che hai fatto al commissariato Metti di avere un problema per una volta e ascolta quello che ho da dirti senza girare di testa tua Era In realtà io sono stanco di litigare Da quando sono successi gli eventi di Vargajan Non riuscirò mai a leggerlo Ho cominciato ad avere paura di perderti come mai mi era successo prima Dimmi un po' signor detective Hai mai pensato che forse anch'io possa desiderare di proteggerti? Quello che mi serve è una spalla forte su cui piangere E finché resisteremo insieme Nessun stupido patetico xenofobo o pazzo assassino potrà fermarci Che dita lunga è lei E ora che ne dici di raccontarmi cosa hai scoperto? Come dice lei era? Quindi le cose stanno così eh? No forse l'idea che mi ero rifatta appena ho visto la scena del crimine non era così sbagliata Cioè? Abbiamo ancora qualche foto dei vecchi casi legati a Pandora? Non ci è rimasto molto dopo le rettate della polizia per trovare prove contro di me Ma forse abbiamo ancora qualcosa del caso Keaton La prima vittima di sesso maschile e la quarta linea di successione temporale Ok, lasciami concentrare un attimo Prima a mettere a confronto gli ultimi amicidi legati a Pandora è quello di Keaton Quali sono gli elementi che contraddistinguono ognuno di essi? Segnano ad ogni scena del crimine i dettagli che contraddistinguono Seleziona una delle tre foto Per avere un breve ripiro con gli amicidi E stabilisci a quali delle cinque particolarità sottostante si può condividere Ok Rivocazione mito greco Gola tagliata Gola tagliata Bulbio collari rimossi Citazione scritta inerente al mito Luogo chiuso Allora Gola tagliata Rivocazione mito greco Bulbio collari rimossi Non c'erano scritte Non era luogo chiuso Allora Nessuna gola tagliata Rivocazione mito greco Bulbio collari rimossi No Citazione scritta inerente al mito Luogo chiuso Tagliata la gonda Sono stati esportati bulbio collari Quindi gola tagliata Niente bulbi La rivocazione mito E luogo chiuso Mamma mia Fortissimo Proprio come sospettavo La scena del crimine Nell'albergo Qualcosa di diverso Dalle altre In genere Pandora Si è pritennato Accurrettamente Di manifestare Il mito Che aveva scelto Cercando di ricreare Una macabra Opera d'arte La farma non ha mai lasciato Indizi che palesassero Troppo le sue intenzioni Quasi come se volesse Spingerci A meditare sulle sue azioni Tuttavia Nell'ultima scena del crimine Un elemento sembra Cozzare totalmente Con questo concetto E l'elemento A cui mi riferisco è Credo le manette Notte Gerdel Credo le manette Ah non cozza Lo schizzo di sangue sul muro No E la pistola allora E che cazzo E più ma non può essere Ma com'è la scritta What? Ah è vero È l'unico dove c'è La È vero Che cazzone È vero È l'unico Che negli altri non c'era Ciao Nico Insomma vado a pensarci prima Il messaggio sembra Quasi rende le palesi Le attenzioni del killer Ce l'hanno direttamente promette O distrugge tutta l'opera Il suo contesto Quindi questo significa Che ad uccidere il professore Non è stato Pandora Non posso dire Deve avere una certezza assoluta Ma prova a pensarci un attimo Cosa faresti tu Se dovessi comprare un avvicidio Volendo dare la colpa A qualche famoso serial killer? Cercherei di emularne i metodi Studiando perfettamente Il suo modus operandi Ma vista la quasi totale Assenza di informazioni Legate a Pandora Quasi mi evitavi di sbagliare Qualche piccolo dettaglio Dettagli che potrebbero conoscere Solo chi indaga su di lui Da anni e da anni Per una volta la censura Torna al nostro vantaggio Ma se non è stato Pandora Allora chi è stato? Non ne ho davvero idea Spero soltanto che Quell'acqua S Saper dirci qualcosa di più Dovremmo dire alla polizia Quello che abbiamo scoperto finora? Non ancora Al momento è meglio agire In nostra iniziativa Parli del diavolo? Il tipo ha riparato il coso Mi ha contattato l'avvocato Mi deve parlare nel suo ufficio Cosa vorrà da noi? Il caso delle bande nere È stato chiuso Non lo so Ma forse dovrei andare da lui Appena un secondo libero D'accordo Siamo in contatto Se hai bisogno di qualcosa Mi trovi qui Che facciamo? Andiamo prima dall'avvocato? No Sono super curioso Guarda Casey Bentornato Detective Vi immagino abbia letto il mio messaggio Esatto Cosa ho trovato all'interno di quell'affare? Speravo che prima si degnasse almeno Di presentarmi la sua bella collega Oh grazie signor Non abbiamo tempo da perdere Sputti il rospo Credo sia meglio che Lo vedo con i suoi occhi Avvicino il suo dispositivo Le trasferirò a tutti i dati Che sono riuscito a ripristinare Ce n'è un altro Goti Sono in due Le faccio notare che Moltissimi dati sono andati persi Cioè allora Teoricamente dice che sono in due Però c'è anche la possibilità Che sia uno che lo stia Che lo sta emulando Moltissimi dati sono andati persi Sembrano essere rimasti Solo qui a risalente I giorni precedenti alla sua morte Ok Finalmente il mio progetto Ha visto la luce Ma solo ora mi rendo conto Di abbastanza di conseguenze Che questo potrebbe comportare Ho messo soltanto La nuova Polemos Immagina che Italia L'Italia dilaniata da esso Tormenta i miei incubi Prendendo il mio possibile Di dormire serenamente Per quanto si è difficile ammettere Forse l'offerta di quell'uomo Non è così assurda La sua offerta si fa sempre più insistente La mia volontà comincia a cedere A me non resta molto da vivere Ma devo farlo Per il bene di Italia Italia Non Italia Italia Condannano tutti E portavo questo fornano Sua mia coscienza per sempre Ogni giorno che passo La guardo Mi rendo conto Di quanto sei stato egoista A volerla portare A mio fianco Nonostante sapessi In che razza di inferno L'avrei coinvolta What the hell Siamo condotto Una via di fuga di sicura Per me e lei Verso il futuro universo Domani è il grande giorno Che Dio Pia pietà di me What the hell Uomo era progettato un virus E chi sono le persone A cui si riferisce E lo smette Dobbiamo parlare Purtroppo lo immaginavo Sapete davvero cosa dirvi Sono sconvolto quanto voi Professore non mi ha mai parlato Di niente del genere Forse dovresti chiedere Ad Eugine Sono sicuro Che tutto questo Sia opera sua Capisco Allora cercherò lui Mi sta mentendo Spudoratamente Ma non ho prove Per poterlo incalzare Devi cercare Eugine Italia Forse vale anche Da appena tornare A Le Festus Sperando che qualcuno Si degni E farsi vedere Probabilmente dovrei andare A David Anche se al momento Il fatto che voglio Vedermi L'ultimo dei miei problemi Dove cazzo è Il Si si ma vuol dire Che vende Cioè che vende Che mente Scusate dov'è La casa del tipo Modal Mi sa che non ci vuole andare ora Mi sa che non ci vuole andare ora Aspettate Datemi una seconda un attimo Mi sa che non ci vuole andare ora Ok Giuro che se anche stavolta Mi fanno aspettare ore Io Ma ora per favore Cerca di contenerti O rischiamo di essere buttati fuori Prima di riuscire a parlare Con chiunque C'è qualche problema signore Oh salve No nessun problema Solo bisogna parlare Con qualche responsabile Allora oggi soggiorno fortunato Signor John Deckard Responsabile commerciale Dell'FS Stack Che tipo Tutto in pelle Posso aiutarla in qualche modo? Molto tanto la fortuna Bussa alla mia porta Il mio nome è Mordrel Fowley E la signora dell'ologramma È Hera Keris Piacere di conoscerla Deckard Siamo due investigatori privati Siamo qui per parlare Dell'omicidio di Cornelius Weber Oh giusto La polizia mi aveva mandato Un messaggio a riguardo Poche ore fa Varete di dirmi che siete qui Perché sono aspettati Qualcuno nelle Festus In realtà volevamo solo fare Domande inerenti alla vittima E ai suoi assistenti Lavoravano tutti qui no? Si riconoscevo tutti personalmente E francamente Non riesco ancora a capacitarmi Di come possa essere successo Comunque sia Proceda pure con le domande Contento che ti piaccia Chris? Beh è tutto merito di Wolf Cioè io ho giusto messo Qualche virgola qua e là Potrebbe parlare Mi di Cornelius Weber? Cosa volete sapere precisamente? In realtà praticamente Qualsiasi cosa Anche il più piccolo dettaglio Potrebbe rivelarsi fondamentale Per le indagini Cornelius era estremamente Apprezzato all'interno Dell'azienda Francamente Non riesco a capire Chi potesse volerlo morto Specialmente ora Che aveva finalmente Progettato di sposarsi Saprevi dirmi Cosa stava lavorando I giorni precedenti Alla sua morte? A quanto so Stava compiendo alcune ricerche Legate ad alcune Protesi meccaniche Da usare nell'ambito chirurgico Ma niente che potesse Procurare gli nemici Quindi Uber si occupava Anche nell'ambito vendico? Certo Gran parte Questi nostri reparti Collaborano a vari progetti La maggior parte del tempo Lavoro su delle protesi È molto interessante Saprevi dirci qualcosa Riguardo i due assistenti Del professor Uber? No, te no Magine si è pensato Un tipo schivo e scontroso Però praticamente Solo con Uber Si chiudeva Nella stanza Dei server centrali Di acqua S Per giorni Sembrava Questo se sionato L'idea Di prevalere sul fratello Anche a costa Da propria salute Fisica e mentale Quindi oggi Aveva accesso Di server centrali Di acqua S Quindi non mi sorprende Che abbia regito In quel modo Quando ho scoperto Che il professore Aveva scelto Dean Nonostante i suoi comportamenti Ambigui Che tipo di comportamenti? Guarda Mattalia Con uno sguardo strano E non ha mai nascosti Però è una passione Quasi viscerale Per lei Uber l'hai letto Come suo successore Nonostante sapesse Tutto questo? Beh Non si è mai spinto Troppo in là Anche se sinceramente Anche alcuni I suoi sguardi Mi hanno sempre dato I brividi Pazzesco Sembra quasi Che chiunque Sia convolto In questo caso Abbia qualcosa Da nascondere Che tutto questo Abbia a che fare Con la maschera Apparsa sul volto Di Dean Dopo aver visto Il contenuto Della quest di Uber Probabilmente Dovrei chiederle La questione Direttamente a Talia Saprebbe dirmi Se Leifestus Ha in produzione Qualche sorta Di arma legata Ad un virus O qualcosa del genere Un virus? Ma perché ci ha preso? Qui noi creiamo Medicina e tecnologia Non progettiamo stragi Chi ne ha messo in testa Una cosa del genere? Spero non sia stata la polizia Non si preoccupi Il mio collega ogni tanto Ama parlare a Vanvera Nessuna maschera Come sospettavo il virus Era un progetto individuale Di Uber E uno dei suoi assistenti O forse era un progetto Conosciuto solo da una parte Della dirigenza Delle Festus E dal governo Una cosa è certa Di certo Questo non è un'azienda Dei Santi Ultima cosa Per caso conosci William Payne Lavorava qui a Leifestus Sinceramente no Mi spiace Come sapete però L'azienda è enorme Non posso conoscere tutti Potrebbe fare qualche ricerca Su di lui? Sarebbe estremamente importante Per il caso D'accordo Chiederò la mia segretaria Ma vi avverto Visto il caso attuale Potrebbero volerci giorni Invia i nostri contatti Ci invia pure le informazioni Non appena siete riusciti A scoprire qualcosa Su di lui Il fatto che non sia stato Pandora l'uccida Il processore Non toglie il fatto Che l'Efessus Potrebbe essere legata a lui Bene Ha bisogno di altro? Non vorrei fare cattiva impressione Ma sono un nuovo impegnato Credo che dovremmo mostrargli Qualche prova Che abbiamo trovato Magari potrebbe darci Altre informazioni Riguardanti il caso Buona idea Notte barba Dormi bene E posso fargli vedere questo Dovrebbe confermermi Che ogni tipo di informazione All'interno di un'unione In acqua S Proviene direttamente Da varsi in server di sicurezza Certo Tutte le informazioni Su ogni singolo dispositivo Vengono salvati direttamente E conservate Nei nostri sistemi di sicurezza Quindi dovrebbe essere impossibile Corrompere un dispositivo Cancellando tutti i dati Giusto? Esattamente A meno che Qualcuno con l'autorizzazione Non acceda al server centrale E si deve cancellare O cambiare il suo contenuto E a chi viene data Sono la polizia in genere Membri del governo E i nostri dipendenti Che si occupano Di gestire il server centrale Quindi oggi Neidin Avrebbero potuto farlo In qualsiasi momento Beh è quello che volevo sapere Ah no in realtà Lui si Non esistono le informazioni Che non esisteva le informazioni Su di lui Deve dare l'immunità diplomatica Ed era protetto dal governo stesso Se qualcuno venisse A scoprire la sua morte Potrebbe scoprire un disastro internazionale Esattamente Però per questo vi consiglio Anzi vi ordino E non parlarne con nessuno Provvederò io Dal giornale della polizia E chi di dovere Per ora voi limitatevi A continuare le indagini Un'altra cosa Per caso il professore Aveva mai avuto a che fare Con questo ambasciatore Magari tramite Il suo indirizzo Il criptato aziendale Non ho accesso A questo tipo di informazioni Mi spiace Cosa ci faceva Coltiziano Senza l'albergo Con Uber E soprattutto Chi diavolo è stato Ad ucciderlo In questo caso Aveva un proprio inferno Per ogni risposta Che troviamo Sembrano spuntare Altre 100 domande Cosa che devo fargli vedere Ancora Ciao Bleeding No Questo vi ho fatto vedere Questo vi ho fatto vedere Le medicine Oh riconosco Queste piccole Pillole Piccole Vengono prodotte da noi E sono i sonniferi Più potenti di circolazione Normalmente si trovano Nei nostri ospedali O nei nostri laboratori E l'accesso A questa tipologia Di medicinale È estremamente ridotta Cosa ci facevano Quindi sulla scena Del crimine Potrebbe Parlarci più esattamente Dei suoi effetti Tecnicamente Una volta ingerito Nei queste pillole Si cade in una Sorta di coma profondo La quale ci si sveglia 7-8 ore dopo Quindi è possibile Che Uber Sia stato fatto addormentare Prima di essere ucciso Ok Libro di andare Il signor Deckard E noi cominciano a venire Al pettine Comincio anche a capire Il perché della maschera Sul volto di Dean Cosa ne hai vista Apparire una sul suo volto Esatto Ed è venuta fuori Non ha appena letto Il file di Uber Quindi anche Dean Era convolto Nella cosa Ma fino a che punto Cosa non lo so Ma faremo meglio Chiederlo direttamente a lui E andiamo Adesso Dean Il furbetto Il furbetto Ah Peppiniello mio La verità The truth Non credo di avere ancora Bastante informazioni Forse va a continuare Di indagare Ma come? What? Perché? Diceva che aveva Abbastanza informazioni Mi sa che devo andare Dall'avvocato Allora Solo che non lo trovo Forse è qua Bu Mancano ancora vari luoghi E dovrei andare Dall'avvocato Ma non mi ricordo Dove cazzo è Ah qua c'è Talia Giusto Aspetta un attimo Ma qui lei Oh lei Il detective Foley È riuscito a sistemare La quest di Cornelius Sì Dean non è riuscito A ripararlo Ma temo che non le piacerà Quello che abbiamo trovato Al suo interno Cioè Lo serve con i suoi occhi Ma fatemi capire Cioè Il vecchio Se la faceva con questa Sae Ufficio case Ok Cornelius cosa hai fatto Capisco il suo dolore Ma ora più che mai Ho bisogno di parlare con lei In mezzo Il professore Parla di un'offerta Riguardante Un salvacondotto Per voi due In cambio Delle sue ricerche Ricerche che a quanto pare Interessavano molto Alle stesse persone Che gli hanno promesso La salvezza Uber le ha mai parlato Di cose Niente del genere Cornelius ha sempre Desiderato andarsene Sposarsi all'estero Con me Ma lasciare nuova Polemos Non è così semplice Come puoi immaginare Specialmente Quando si è qualcuno Di così importante Per un'azienda Che lavora a stretto Contatto con il governo Nelle settimane precedenti La sua morte Continuava a ripetermi Di quanto fosse felice Di avermi a suo fianco E che non vede valore Di sposarsi con me Sembrava quasi come Se volesse Dimostrarsi felice A tutti i costi Nascondendo un qualche Tipo di dolore Che covava dentro Ma a parte questo Non ho mai parlato Di fughe o nuove ricerche Al massimo Di alcune mail Inviate all'estero Fuori dal lavoro Ma niente di più Aspetta un attimo Potrebbe essere più specifico Su questo punto? Nell'ultimo periodo Cornelius mandava Molte più mail Del solito Fuori dal lavoro Quasi tutti Indirizzati all'estero Tramite circuiti mail Criptati Contatti gli esseri Fuori dal lavoro Molto interessante Cornelius è sempre Lavorato per creare la vita E sviluppare la conoscenza Dell'essere umano Non posso credere Che sia arrivato a studiare Qualcosa del genere Forse lo conoscevo Meno di quanto Voglio ammettere L'unica cosa che è certa È che quello sciocco Ha continuato a preoccuparsi Per me Fino alla fine Nei dati del suo ACO-S Parla del fatto Che lui abbia messo Soltanto le basi E che sia stato Uno degli assistenti A rendere possibili Questo virus Potrebbe confermarmi Che il professore Non aveva altre assistenti All'infuori di Eugene E Dean Assolutamente Ne sono sicuro Al 100% Quindi È sicuro che Progettare questo virus È stato uno dei due Ma chi? A proposito Ancora nessuna notizia Eugene Avrei davvero Avrei davvero bisogno Di sentire la sua versione Non ancora Pare essere Raggiungibile Da chiunque Ma forse Ho un'idea Di come far Trovarlo Cioè Non posso essere Troppo specifica Ma si fidi di me Appena L'avrò scoperto Ne manderò L'indirizzo D'accordo Mi perdoni Per la domanda Scomoda Potrebbe confermarmi Che il signor Dean Smith È ossessionato Da lei Per quanto possa essere Imbarazzante Ammetterlo Sì È la verità In realtà È sempre stato Piuttosto innocuo E si limitava A inviarmi poesie Disegni E dedicarmi I personaggi All'interno Nei suoi giochi Ma niente di più Diceva che Era la sua musa ispiratrice Che era riuscito Ad avere successo Se era riuscito Ad avere successo Era merito mio E della mia influenza Nella sua vita Che personaggio Uber era conoscenza Di questi comportamenti Certo E anzi Sono arrivato più volte A litigare A proprio per questa ragione Ma alla fine Non è mai successo Niente di davvero grave Nella sua successora Non sento tutto questo Che diavolo Gli passava per la testa Beh Direi che ho abbastanza Mi creda quando le dico Che vorrei aiutare Di più detective Non si preoccupi Mi contatti appena Le notizie di Eugene Sia certo che lo farò E grazie per quello Che sta facendo Per Cornelius L'ho perso molto Quindi lui ha litigato Con l'assistente Aveva contatti all'estero Ma stante tutto Siamo ancora lontani Dalla verità Se non altro Non dovremmo avere Abbastanza problemi A potermi aspettare Rarideen Dobbiamo andare da David Ok Andiamo da David Andiamo da David Andiamo da Sure David Possiamo in Don Matteo L'assistino Sarebbe Dina Mani bassa Assolutamente Bentonato il mio Umile ufficio Fottiti Sei già riuscito A mentirmi Nella tua prima frase Non ti smentisci mai David Sempre il solito Mordred Io che speravo Si potesse contare La sua incredibile Integrità professionale Se mi hai chiamato Per la sala Nelle prove Di Treasury Park E sappi che Non ho altro Da aggiungere A quello che ti ho dato Al commissariato Non preoccuparti Per quello Mi hai già aiutato Abbastanza Dandomi Quel guanto Al commissariato Il motivo Per cui ti ho convocato Qui È un altro Sputa il rospo Che diavolo vuoi da noi Evitare che due idee Raffinate ammazzati Prima del tempo Cosa? Se uno dei tuoi Soliti scherzi Da poppante Sappi che non è affatto Divertente Pensi davvero Che riuscirei a scazzare Su qualcosa di simile E voi due Siete in serio Pericolo E non sono L'unica persona Che può Confermarvelo Eh oh Hello Abbie Quanto tempo Detective Abbie Gail Cosa ci fai qui? Bella Puggy Mi sono affidata Al signor Casey Per alcune questioni Legate a quello Che è successo A Treasury Park Non da potervi Mettere in guardia Contro Baker La bomba Nella sede Nelle bande nere Sta ritardando I suoi piani Ma è inevitabile Che prima o poi Cercherà di distruggervi A proposito Della bomba Qualche notizia A riguardo? Nessuna Purtroppo L'attentato Non è ancora Stato rivendicato Da nessuno Anche perché Sembra essere Totalmente assurdo Visto che le bande nere Hanno perso Anche se È un momento Dietro le sbarre Quel bastardo Rimane un uomo potente La sua vendetta Contro di voi Non tarderà Ad arrivare La polizia Ci ha promesso Supporto diretto Alla sola questione Non abbiamo motivo Di preoccuparci Vi fidate così Tanto di loro? Vedete davvero Che basti così poco Per evitare Che vi sparino E gettino I vostri corpi Dietro qualche vicolo? Molte di queste stesse persone Vi vogliono morti da anni Non dimenticatelo Yes Baker ha rovinato La mia vita Anche quella di mia sorella Portandola addirittura A rimpiccarsi Per la vergogna Cosa tua sorella Si è suicidata? Povera ragazza Dopo tutto quello Che hai passato Non è colpa vostra È stata l'influenza Di quel figlio Di un cane di Baker Che l'ha fatta ammazzare Bella Dark Nella sua ultima lettera Diceva di non poter Continuare a vivere Ora che l'avevano Privata dell'orgoglio E dell'amore Della sua vita Quella stupida Se solo avesse saputo La verità Se avessi detto La verità Alla moglie di Baker Quel giorno Forse lei sarebbe Ancora viva Non posso lasciarmi Non posso lasciarmi coinvolgere Oltre Ne vado alla mia salute mentale Mi spiace per la tua perdita Apprezzo i vostri tentativi Di volerci mettere in guardia Ma devo comunque chiedervelo Perché lo state facendo? Cosa ci guadagnate? Uccidendo quel pazzo Hai vindicato la morte di Alicia E mi hai salvato la vita Il minimo che posso fare È cercare di metterti in guardia Ovviamente il nostro aiuto Avrà un prezzo Che probabilmente Comporterà l'andare A violare la legge Ma direi che quello Non è mai stato un problema Per te Vero Foli? Dovremmo fidarci di voi E mettere a disposizione Con informazioni simili Non potreste essere Leggermente più specifici? Purtroppo no Ma tutto vi sarà chiaro Quando arriverà il momento Quindi siete interessati Alla nostra protezione? Accetto la proposta Sapevo che non avreste potuto Fare a meno del brivido Dell'ignoto Sono felice Che abbiamo trovato un accordo Vi contatteremo Appena arriverà il momento Però restate tranquilli Spero solo che i Baker Non si faccia vivo prima Non succederà Fidatevi di noi È proprio il dovere È proprio il dovermi fidare di te Che mi preoccupa Ah ma così mi ferisce profondamente Detective Comunque ora siete liberi ad andare Passate una buona serata Mi auguro solo che Ad esserci affidati A due personaggi simili Sia stata una buona idea E che non ci faccia finire In casini ancora più grossi Non se nemmeno immaginare Quale sia il prezzo Di cui parlavano In ogni caso Sarà meglio tornare a casa di Uber Come casa di Uber? Lo Smith? Ne faccio più Regalano più voce Vediamo La verità E così non sapeva nulla Del virus E della proposta Che era stata fatta Professore Vero? Esattamente Non mi aspettavo Minimamente Che il professore Lavorasse Su qualcosa di simile Buongiorno Lo sapevi e come Buongiorno Sono cotto Bugiardo Lo sapevi e come Sono qui per dimostrarlo Se non le dispiace Vorrei fare una domanda specifica Lei crede che sia stato Pandora L'uccidere il professore? Immagino di sì Probabilmente il contatto Di cui parla nei messaggi Dall'acqua S È proprio lui E se invece Dicessi che non c'entra nulla? Ma Ma è palese Che sia stato lui? Oh Questo è quello che crede lei Il modo superandi Utilizzato è molto diverso E questo prova Lo dimostra Per quanto Ci si voglia impegnare A replicare un caso simile A quello di Pandora È quasi inevitabile Che si finisca Con lo sbagliare Qualche piccolo dettaglio Specialmente Quando ad indagare Ci sono due Che hanno lavorato Al caso per anni E ci si può avvalere Solo delle informazioni Censurate dai media Osservi attentamente Questa foto Le sembra forse Che questo genere Di pazzo Voglia che la natura Delle sue opere Sia così esplicita Da dover lasciare un messaggio? Il vero Pandora Non avrebbe mai Lasciato indizi Legati all'origine Del mito Fare in modo Che gli spettatori Lo capissero Alla soli Fa parte Del suo gioco malato Non vi stiego Detective Perché mi state Dicendo tutto questo? Un passo alla volta Sappiamo che Uber Stava progettando Di fuggire insieme A Talia Grazie ad un suo contatto Interessato in alcune Sui ricerche Ricerche legate A un tremendo virus Che guarda caso Era stato concepito Insieme ad uno Dei suoi amati assistenti Non cita mai direttamente Chi sia questo contatto Ma grazie ad alcune indagini Che ormai sono sicuro Che la persona Che doveva incontrarsi Con Uber Sia E Lui Sto prendendo La pazienza Detective La smetta Con queste sue Farneticazioni No Non può essere Lui il contatto Di Uber Guarda Aspetta Questo che cazzo è? Eugene No Attento Comportamenti No La seconda vitina Era il contatto Del professore Ma come è possibile? Per organizzare Sì esatto Per organizzare Una fuga simile Senza essere intercettata Da polizia Necessaria essere esterna Al sistema di controllo Riguardo a caso Sivers lo era Sia lui che Uber Avevano accesso Alcuni A circuiti mail Criptati Ed entrambi erano In affari con La Hephaestus Motivo per il quale Il nostro amato ambasciatore Poteva sapere Che le ricerche di Uber Delle ricerche di Uber In maniera così approfondita Inoltre è stata proprio tale A confermarci Che ultimamente Uber Aveva contatti diretti Con l'estero Probabilmente per organizzare La sua fuga Probabilmente si erano Dati appuntamenti All'interno del Five Twins Hotel Quella notte Approfittando del fatto Che Sivers Era in città Per affari con le Hephaestus Quel giorno Sono stati effettuati Tre accessi Distinti alla stanza Due con la tessera Alle 16 Alle 20 E uno con la Quest Di Uber All'una All'albergo Ci hanno detto Che il professore È sempre arrivato da solo E che all'una L'albergo Era praticamente deserto Visto che era possibile Entrare solo con la tessera Faccio intuire Che si era arrivato Alle 16 Per controllare La situazione E che si è tornato In stanza Con il nostro Ambasciatore Alle 20 Per finire l'accordo Probabilmente Cornelius Lo stava aspettando Vicino alla stanza Visto che l'accesso All'albergo Era libero E non voleva essere Visto insieme a lui Ma la cosa davvero Interessante È che dopo le 20 Nessuno dei due Ha mai più lasciato La stanza E questo E questa prova Lo dimostra Era questa? No? Qual è la prova Che lo dimostra? No? Credo questa Uber è morto A mezzanotte 45 Vente il nostro Ambasciatore Alluna Che guarda a casa L'arario Dell'ultimo Accesso All'interno Della stanza Quindi questo Significa che Uber è stato Ucciso Da Demetrius Non può esserci Alternativa Ad uccidere Uber deve essere Stato il nostro Il nostro caso Un uomo misterioso Cosa? Il professore È stato narcotizzato Legato Dopo alcune ore E pugnalato Numerose volte Al fegato E vinto Che l'ha portato Alla morte Demetrius È stato utilizzato A modo superando Di Pandora Sapendo che così Nessuno avrebbe mai Potuto scoprirlo Specialmente chi Perché la sua identità Era sconosciuta Quasi a chiunque Ma come l'impressione Che lei questo Già lo sapesse Non è vero Il signor Smith? Ma perché Ha aspettato così tanto? Non poteva semplicemente Ucciderlo E andarsene Quando l'albergo Era vuoto? No Dopo averlo fatto Addormentare Ha aspettato Pazientemente Fino a poco Prima del luna Perché? Stava aspettando qualcuno Voleva essere sicuro Non essere visto Voleva prendersi tempo Perché era la scena perfetta Stava aspettando qualcuno Nani Il nostro amico Stava aspettando qualcuno Con cui si era messo d'accordo Prima di uccidere il professore Motivo per il quale Non si era allarmato Quando ha sentito entrare qualcuno E scommetto che Quel qualcuno È suo fratello O lei Signor Dean Come osa dire qualcosa di simile Non ho idea Del tipo di rapporto Che avevo con Cornelius No infatti Ma credo di essermi Fatto un'idea precisa Di quello che provava per Talia Togliendosi Uber dai piedi Avrei potuto averla Per sempre accanto Scommetto che è questo Quello che hai pensato Quando hai accettato Di ucciderlo Ma perché razza di mostro Mi ha preso Potrò essere innamorato Ma di certo Non sono un assassino Effettivamente è plausibile Che sia stato Giugina a farlo Visto il rancore Che provava verso Uber Specialmente dopo la delusione Non vedersi eletto Come successore Inoltre se fosse stato lui A sviluppare il virus E aver scoperto i pianeti I piani del professore Le motivazioni per ucciderlo Sarebbero ancora più palesi In ogni caso Ho il sentore Che il nostro caro Dimitrios Si era messo d'accordo Con uno di voi Per uccidere il professore Dare la colpa a Pandora E scappare col virus Volete continuare A spuntare le sentenze Quanto volete State solo cercando Di capri spiatori Non avete nulla Che ci colleghi Alla scena del crimine Oh ce l'abbiamo e come Questa prova dimostra Che lei e io e Gina Avete organizzato l'omicidio Assieme all'ambasciatore Credo questo Sono davvero stanco Dei vostri continui attacchi Questa prova non ci lega Menni niente al caso No Cazzo Le pillole Che le possono Prendere solo loro Dimitrios Ha addormentato il professore Con queste pillole Ha aspettato diverse ore Prima di uccidere In modo da poter Incontrare l'uomo Che l'ha ucciso Poco prima Bella monkey Che devono anche fare Quelle pillole con noi Queste pillole Vengono messe a disposizione Dalle efessos A medici e ricercatori E' quasi impossibile Attenerli diversamente Esatto è stato Deckard Delle efessos A confermarcelo Ha anche aggiunto Che Dimitrios Non si era ancora Fatto vivo Quindi Avrebbe potuto Tenerlo soltanto Da un esterno Qualcuno che conosceva I piani del professore E desiderava tradirlo Ovvero Uno di voi due In guardia caso Siete anche gli unici Che avevano mezzi Per criptare i dati Della QS Di Uber Dopo averlo usato Per entrare E far fuori Anche Dimitrios Perché continuate A mettermi in mezzo Sono stato io Ad aiutarvi a ripararlo Perché avrei dovuto Farlo se fossi stato io A volerlo morto Stupidi idioti Maledetti Incompetenti Figli di un cane Voi Voi non conoscete Le cose capaci Mio fratello Continuate a dare la colpa A me senza sapere nulla Quel pazzo Ci ammazzerà tutti E' solo questione di tempo Dovete fermarlo Trovatelo Squartatelo Subito Ci ammazza tutti 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 Fino all'ultimo No 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 Non voglio morire Una nuova maschera Che rappresenta Il suo crollo psicologico Ma ora Doveste allontanarti Da lui Comincia davvero A farmi paura Si cambia immediatamente E ci dica Dove diamo L'è finito suo fratello Non lo so Lo giuro Dio non lo so Perché nessuno Vuole credermi Vi odio tutti E' pazzo Ma che Ma dove sta scappando Lascialo perdere Comincio seriamente A credere Che lui Non c'ha quasi nulla Con questa storia In tutto questo Non siamo riusciti a capire Dove siamo finiti Gli altri due colpi Di pistola Rischiamo un attacco Biologico E ti preoccupi Di quello Bella rec Con i 22 Welcome back Johnny Un messaggio In Italia Quanto parli Riusciti a tirare fuori Qualcosa dal cilindro E sto gioco Con le palline Anche se sono alcuni I dati spartimenti Non segnale GPS Davvero molto utile Cosa dovrei farci Non lo so Provarà a portarli Con i luoghi salvati Sulla qua Essere professore Cerco alcune corrispondenti Sulla mappa Di Nova Polemos Lo fai facile tu Dobbiamo fare la svelta Se quel pazzo Davvero ha intenzione Di utilizzare quel virus Potremmo essere in guai Molto seri Tiro fuori le coordinate Nel frattempo avverto La polizia Ci mancava solo questa Ok Non la va Spacca Vedo la ricostruzione Si è ricevuto Coprendo l'interno Con dei ripetitori Attenzione La cilindro Mi ha raggiunta Va in sovraccarico Ok Devo illuminarle tutte Allora Buon den No Ok Aspetta un attimo Devo riuscire a capire Perché non si muove Di qua Questa Ah Perché ci sono I binari Vaffanculo Ok Ma ho capito Easy peasy Ok Ci siamo Laboratorio 32 Quanto pare Quel pazzo Si trova In uno dei laboratori Periferici Delle Festus Avanti Non è molto distante Da qui Let's go Professionista Raga Si è tolto La giacca E ora Mi senti Sono arrivato A destinazione Probabilmente Questo posto È totalmente Isolato Per motivi Di sicurezza Informatica Dopotutto È sempre Una sorta Di lavoratorio Di supporto Delle Festus Dove Immaginarmelo E lei Cosa ci fa Qui Chi ne ha dato Permesso di entrare Finalmente Si è deciso Da saltar fuori Resta fermo Dove sei Sono So benissimo Chi sei Non hai bisogno Di presentarti Inoltre Non ho mai avuto Nen motivo Di nascondermi Io non ho fatto nulla Ciao Gobetz Si chiama Dry Droning Un gioco che uscirà Tra un paio di settimane Su Steam Ah davvero Dimitri Sivers E Cornelius Suber Avrebbero qualcosa Da ridire Di cosa stai parlando Io non ho niente A che fare Con le loro morti Liar Ci restiamo In questo momento Che stavo aspettando Riuscirò a tirarti fuori La verità È una promessa Oh non hai niente A che fare con loro E allora dirmi Come fai a Sapere Che il professore È morto Sapere il nome Di Dimitrius Sapere chi sono io Quando ho citato il suo nome Mi hai subito risposto Che non avevi niente A che fare Con la sua morte E quella di Uber Ma lui inizia a conoscere La sua identità Erano i suoi contatti Dall'Efessus E professore Con il quale Comunicava privatamente Quindi mi chiedo Se sei davvero Così innocente Come fai a conoscere L'identità di Dimitrius L'ho conosciuto Nell'Efessus Prima della morte di Uber Diceva di voler Comprare i diritti Di acqua OS Bugiardo Dimitrius è morto Prima di presentarsi All'Efessus Anche se ho come L'impressione Che Quella dei diritti Fosse solo una copertura Per entrare liberamente Senza il controllo Della polizia Lui era interessato Soltanto al tuo virus Lo stesso che il professore Voleva scambiare In cambio della libertà Aha Se quello subito Non avesse cercato Di mettere in mano Al mio progetto Oggi sarebbe ancora in vita D'accordo Sapevo le piene del professore Ma di certo Non ho mai desiderato Ucciderlo Non avevo nessuna ragione Volevo scoprire Le sue intenzioni Riguardo al successore E quindi sono entrato Nel suo account personale Scoprendo il suo piano di fuga Ho provato a parlargli Ma non ho voluto sentire le ragioni Il resto della storia Lo conoscete Ho come l'impressione Che le cose non siano Andate così E allora sentiamo Quale sarebbe La sua versione dei fatti Io credo che tu abbia deciso Di tradire Uber Contattando Dimitrius E proponendogli un altro accordo Che prevedeva la morte del professore Oh e così sarei stato io Proprio di ucciderlo Utilizzando le metodologie di Pandora Molto fantasioso E dimmi Hai per caso qualche prova Che dimostri il fatto Che fossi io Quella sera Io fossi lì quella sera Oh si ce l'ho Come Ed è anche l'unica cosa Che avrebbe potuto incastrarti Questa prova Dimostra che hai fatto In modo che nessuno Potesse scoprire Dei piani del professore Del tuo coinvolgimento Questo L'acqua stessa del professore Sappivi che Uber Stava parlando Di te Nei suoi dati personali E quindi hai deciso Di corromperne i dati Non potendone Distruggere totalmente Probabilmente Sei entrato in una stanza Clonando i suoi dati Di accesso da remoto O Dimitrius Ti ha lanciato L'acqua a essere Da professore Dalla finestra In ogni caso Sapeva del tuo arrivo Quindi sei riuscito A disarmarlo E ucciderlo facilmente Sparandogli in testa Non avevo nessuna ragione Per cui Avrei dovuto ucciderlo Se avessi agito Solo per vendetta Mi sarebbe bastata La morte di Uber Ah no ti sbaglio Una ragione c'era e come Il motivo per cui L'ho ucciso a sangue freddo È Per dare la colpa A tuo fratello Per dare la colpa A Pandora Per riprendere il virus Se avessi voluto A dare la colpa A mio fratello Avrei lasciato più indizi Che rimandassero a lui E al suo rapporto Con Talia Per Talia Una pallottola in testa Non mi avrebbe aiutato Certo Né di incastrarlo Vero E o per riprendermi il virus No per il virus Che non potevi permettere a nessuno Di mettere mano al tuo virus Soprattutto qualche ambasciatore estero Che l'avrebbe spacciato per suo Hai prima fatto ammazzare Uber Poi mascherandoti Mascherandogli i dati del tuo ACO-S Spacciandoti per quelli del professore Si è entrato nella stanza E ha ucciso Demetrius A quel punto Hai preso il vero ACO-S di Uber E da remoto Ne hai corrotto i dati Gettandolo vicino all'albergo Dopo aver cancellato tutte le prove Oh molto interessante Ma si rende conto Che avrebbe potuto essere Stato anche mio fratello? Viene semplicemente Assessionato da Talia Ma non credo Che sarebbe stato in grado Di tradire l'uomo Che gli ha dato così tanta fiducia Tu al contrario Saresti capace di qualsiasi cosa Pur di arrivare ai tuoi obiettivi Anche far uccidere il sangue freddo La persona che stimi di più al mondo E come fai a saperlo? Perché noi due ragioniamo Allo stesso modo ragazzo Noi due dovremmo pensare Allo stesso modo? Notte Snake Alla più pari idea Di chi sia l'uomo Che è di fronte Io ho sviluppato Il più grande sistema Di sicurezza informatica Da città Se nessuno stato all'estero È ancora riuscito A penetrare dentro ACO-S È solo merito mio Tutto quello che ho creato Ha rivoluzionato questo paese Ma l'unica cosa che volevo Era superare quell'idioto Di mio fratello E dopo aver scoperto Che professore voleva supportarmi Nello sviluppo Del virus No Che voleva supportarmi Nello sviluppo Inoltre Inoltre L'aver creato Quel virus Ti rende soltanto Un pazzo Che ha progettato Il modo di ammazzarci tutti Sgamid Ammazzarvi? Oh questa è davvero bella Ma su una cosa Hai davvero ragione Detective Ho intenzione di usare Virus Per vendicarmi Di questa città Ma quello che ho creato Non mira ad uccidere Gli esseri umani Il suo scopo È quello di distruggere ACO-S E lo sto installando Su tutti i computer Di questo laboratorio Per fare in modo Che possa spargersi Ovunque In tutta la città Cancellando ogni cosa Spero tu ti stia scherzando Varesti davvero A farmi credere Che Umber Ti ha aiutato A creare un modo Per distruggere La sua invenzione Più importante? In realtà Il motivo per cui Mi ha aiutato È legato A un'altra sua ricerca Una di cui nessuno Tantomeno l'Efessus Era al corrente Ma che In realtà È sempre stata Sotto gli occhi Di tutti Il mio maestro Il piccolo Prometeo Non si è limitato A rivoluzionare La tecnologia Lui si è spinto Ben oltre Arrivando a creare La vita What? Androidi Pensanti Capaci di apprendere Imparare Evolversi E provare emozioni Spaventosamente simili A quelle di un normale Essere umano Cornelius Era così spaventato Da quello Che aveva creato Che decise Di aiutarmi A creare Un virus Che in caso Di emergenza Fosse stato In grado Di debellare La sua creatura Talia È un robot Ognuno di S Si mantiene In vita E si mantiene Attivo Tramite Il server Centrale Di ACO S Quindi Distruggendo Quello Saremo in grado Di disattivare Anche tutti Gli android Allo stesso Momento Quelli dietro Di me Sono esperimenti Falliti Finiti Dal dimenticatoio Dopotutto Che senso Aveva pensare A loro Dopo il suo Ultimo Capolavoro Sì Varsi dire Che uno Di quei mostri È già in funzione Grazie Otto Non si è ancora Riuscito A capirlo L'android è 10 su 10 Talia Che bella Adesso comincio A capire Nessuna maschera Questa donna Mi ha sempre detto La verità Non vedevo maschere Perché un maledetto Androide Lei era La sua fidanzata Sì Stavo insieme Da Più di 4 anni Ma ha fatto di tutto Per non dirlo in giro Lo temevo Per la mia incolumità Lavorava Le Festus Ma non l'ha mai presentata Altrove Per paura Che scoprissero Del suo segreto Con la nostra notizia Avrei davvero bisogno Di sentire la sua versione Non ancora Pare essere raggiungibile Da chiunque Ma forse Non ho idea Come fare per trovarlo Quindi la frase Che ho trovato Sull'acqua SD Uber Mi chiedo soltanto Se anche lui Si renda conto Di cosa Significherebbe Scartenare Un virus Del genere Rinova Polemos L'immagine Italia Daniata Di Laniata Da Da essa Tormente I miei incubi Rendendomi Impossibile Dormire serenamente Ah Ecco cos'è Non capivo Questa cosa Di L'immagine Italia Dilaniata Da esso E' vero Da lì Lo diceva Che lei Era un cyborg Era perché Sorgendo Acqua S Il virus Avrebbe ucciso Anche lei Tutto ha senso Ora Italia La promessa Sposa di Uber E il capolavoro Di cui parlavi Esattamente Un androide Permanentemente Collegato Ad Acqua S In grado Di modificarne I dati Informazione Ed avere Libero Accesso Ad ogni Suo Frammento Ecco perché Non era mai Appassa Nessuna Maschera Su di Lei Quella Donna Non è Un essere Umano Ora Capisco Come ha Fatto Trovare I frammenti Inerenti La posizione Di Eugene Aveva Accesso Direttamente Al circuito Centrale Di Acqua S Provi a pensare Cosa può essere In grado Di fare Un mostro Del genere Che al coltempo Può apprendere Evolversi Capire I nostri comportamenti L'unica soluzione È distruggerli Immediatamente Facendo affondare Anche tutto Il sistema Corrotto Di Don Napolemos Il mio virus Farebbe Tavula rasa Sveglierebbe Le coscienze Di tutta La popolazione Facendogli Rendere conto Del marciume In cui vivono Aspetta un attimo Intendi dire Che cancellerebbe Ogni singola Informazione Contenuta Nel server Centrale Non c'è bisogno Che ci giri Attorno Distruggendo Acqua S Anche tu Potresti cancellare Ogni traccia Del tuo passato Crimini Processi Prove L'archivi Tutti scomparsi Per sempre Scusate Sono molto Eccitato Non ascolti I suoi discorsi Deliranti Bella Gigetto Quei 18 Finalmente Ti sei deciso Ad arrivare Fratellino E proprio Sul più bello Perché Vuoi distruggere Tutto il lavoro Del professore Perché Ti ostina A volerti Vendicare Nonostante Sia già Morto Immaginavo Che almeno Tu Riuscissi A capire Quell'uomo Era tutto Per me Tutto Ho annullato La mia esistenza I miei sogni E le mie speranze Solo per poter Vivere Un singolo Secondo Sapendo Che per lui Esistevo Prova solo Ad immaginare Cosa si può provare Nello scoprire Che quella stessa Persona Decisa improvvisamente Di tradirti Per poter scappare Con un mostro Lo stesso mostro Che ha ucciso Quel Demetrius Cosa Quindi significa Che Sì Sono stato io Ucciso Del Demetrius Immaginavo Italias Cosa ci fai qui Sono venuto Ad accettare Il mio destino Ormai non ha più senso Nascondere quello Che ho fatto Soprattutto sapendo che Ormai le mie ore Sono contate Certo la morte Senza reagire Perché non si è ancora Scagliata contro Eugene Quella sera Non vedendo Tornare Cornelius Ha utilizzato Il suo sistema Centrale Di acqua S per trovare La posizione Del suo gps Ma posso Giorare che Quando l'ho trovato I dati Erano già Stati Corrotti Da qualcuno Cosa Ma allora È davvero Stato Eugene Da remoto A farlo Probabilmente L'ha fatto in mano A cancellare Ma che casino Dei virus Che si erano Salvati di sopra Nonostante i file Fossero criptati Sono riuscito A copiare I dati fondamentali Ma non a poter Accedere All'assistenza All'albergo Quando sono entrato L'ho trovato morto Mi sono Scagliato contro L'assassino L'ho disarmato L'ho ucciso Ma non prima Che mi sparasse Due volte Ecco perché Non abbiamo trovato I proiettili Perché sono ancora Dentro di me Nessuno conosce Il mio segreto Nessuno in questa città Spararmi Adesso Non riesco Neanche a correre E la mia Mobilità Estremamente Compromessa Non lo capisce Detective Questo androide Agito distinto Per pura vendetta Senza razionalità Una macchina Che riesce ad emulare Così perfettamente I sentimenti Di un essere umano In che modo Dovrebbe essere Diversa da noi Riesce a rendersi conto Che questa è La più grande invenzione Della storia Uccidendo e distruggendo Tutti i suoi dati Probabilmente Non riusciremo mai A ricreare qualcosa Di così perfetto Una grande invenzione A me pare solo Una lurida assassina Inoltre Quelli che tu chiami Sentimenti Non sono altro Che stimoli creati Artificialmente Da quel pazzo Che ha deciso di crearti Per quanto tu possa Sforzarti Sarei soltanto Un fantoccio Creato per agire Secondo schemi Precisi Dettati da qualcuno Non è forse La stessa cosa Per voi umani Le vostre sensazioni Non sono altro Che accumuli Di esperienze Modellate Secondo i desideri Della vostra società E dei vostri creatori Detective Lasci che provi a fermare Il virus di mio fratello Potrei ancora essere In tempo Dopo ce ne andremo Per sempre Le potranno restare Ugini E incolparlo Per tutto quello Che è successo Professore Cosa venderesti Suo fratello In questo modo Non meriti più Di essere chiamato Fratello Quando hai fatto Uccidere il professore Oh perché tu Invece hai la coscienza Pulita Vero E hai sempre Desiderato La sua morte In modo a poter Scappare Con questo abominio Lasci che il virus Faccia il soccorso Incolperemo Di in Italia Di tutto Di tutto E quando acqua E se sarà distrutto Saremo finalmente Liberi Dall'ossessione Di Nova Dall'oppressione Di Nova Polemos Oh shit Io distruggerei Acqua S Raga Prendo due piccioni Con una fava Perché mi salvo Anche il culo Ma è utilissimo Per carità Sì Però mi salvo Il culo Anche Al diavolo Questa città Muovete a finire La polizia Sarà qui a momenti Cosa Ha davvero Intenzione Di uccidere La città Nell'anarchia E soprattutto Vuoi davvero Uccidere Uno dei colpevoli Più grandi Dei capolavori Più grandi Che siano mai Stati concepiti Nella storia Dell'umanità Bella Sangue Ti prego Mordel Pensa alle conseguenze Di quel virus Che quel virus Potrebbe causare Se ad un passo Dall'abisto Puoi ancora Tornare indietro Oh ti sbagli In quell'abisto Ci sto sprofondando Da molto Molto tempo Se faccio tutto questo È solo per ritardare Lo schianto Hai detto di voler Conoscere meglio L'umanità Beh eccola In tutto il suo Meraviglioso splendore Addio signorina Wells No piange Allora è proprio vero Che cazzo fa Piange sangue No files found Un'anima meccanica Non ascende al cielo Ne ritorna alla terra Perché a differenza di Dio L'uomo non promette Nessun paradiso I suoi figli Uh Savage Io volevo soltanto Vivere Capitolo 2 The Firebringer Fine Frase Legge agendaria Assassino Molto bello Il capitolo 2 Ancora più incasinato Dell'1 Ma Bello bello Ah abbiamo Abbiamo migliorato La rap con era Eh Mi sono decisissimo Che vi sia piaciuto Molto 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 Allora Raga Continua la partita No Perché Allora mancano due capitoli Siamo in realtà A metà gioco Mi ha fatto super piacere È stato bello Avervi qui Ancora ancora Quari quari per loro Grazie per essere stati qui E Io aspetto con ansia La release del gioco Che mi dici La data Precisa Ah innanzitutto Spammatemi ancora Grazie più Per chi lo volesse Wishlistare O su Steam O su GOG Lì ci sono i link Arriva il mese prossimo Mancano due capitoli Uno è già disponibile Ma preferisco Invece che fare solo il quarto Fare terzo e quarto Tutti insieme Quindi aspetteremo La release Potete anche tranquillamente Prendervelo Perché essendo che 8 milioni di finali diversi Credo che ogni run Possa risultare Parecchio diversa Prima settimana di agosto Ok quindi fra Un mese preciso Dopo la grandinata di Quari Esatto bravissimo Io intanto ragazzi Vi abbandono Che non ho più gola Questa sera Spero che fra un mese Quando uscirà il capitolo Ci sia meno umidità Perché stasera Non è neanche il caldo Diversissimo tutto il gioco Non solo i finali Che figo cazzo No ma I dialoghi sono fatti Veramente bene Cioè sono È scritto bene Stiloso Mi piace tutto del gioco Figo figo Bravi Spero solo che veramente Sia meno umido Io non so quanto Sia l'umidità oggi Qua vicino a Milano Ma minchia Oggi è sbagliato Cioè neanche il mio condizionatore Mi ha Mi ha aiutato Bitches